Bene, signori, possiamo iniziare i lavori. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. Sì, mi dice che c'è il numero legale. Bene, allora riprendiamo i lavori. Comunico intanto gli assenti. Sono assenti quest'oggi il consigliere Roro, il consigliere Pasute e il consigliere Lopipero. Arriverà in ritardo invece il consigliere Tavella. Do subito la parola al signor Sindaco prima di iniziare i lavori. Prego, signor Sindaco. Buon pomeriggio. Solo per preannunciarvi che ieri io ho chiesto la sospensione della discussione della delibera 26, quella che riguardava la convenzione per lo svolgimento delle funzioni di ente capofiglia e stazione appaltante. Quindi vi preannuncio che al termine dei lavori del piano regolatore l'amministrazione chiederà che questa delibera alla fine venga di nuovo riesaminata e venga conclusa la discussione. Grazie. Va bene. Grazie. Preannuncia il Sindaco a fine ai lavori sul piano regolatore. Si esaminerà di nuovo la deliberazione. No, non si apre il dibattito sulle farmacie, si apre la fine. Non ho nulla da dire. Discutiamo dopo, non adesso. È solo per preavvisare, diciamo così. Perché la delibera è stata sospesa ieri. Pertanto voi sapete che la sospensione non è né rinvio né... No, sospesa, è una cosa diversa. Le tre ipotesi di regolamento sono sospensione, rinvio e ritiro. La sospensione vuol dire che viene sospesa prima della discussione e poi l'administrazione può chiedere. Eh, guardi, adesso non ce l'ho sotto mano. Comunque lo trova. Tranquillamente. Lo trova. Articolo 42. Scusi, il consigliere può leggersi. Vabbè. Può essere il segretario se non le proposte? Sì, dice che le proposte... Consigliere, glielo sta dicendo. Le proposte di liberazione di iniziativa del Sindaco o della Giunta e di iniziativa consigliare all'esame del Consiglio possono essere ritirate, sospese o rinviate prima del passaggio alla discussione. Poi dice, per le prime è necessaria apposita richiesta del Sindaco, per le seconde è la richiesta unanime di proponenti. Sulla richiesta di ritiro, sospensione, dopo il passaggio alla discussione, ma prima della votazione decide il Consiglio. quindi la sospensione significa che può essere ripresa. Il ritiro è ritirata, il rinvio è ripresa. Il consiglio è stato richiesto. Sì. Sì, è stato richiesto. Bene, il segretario deve... Prima di ricominciare la volle, vuole... Vuole comunicare una... Sì. Scusate, fate attenzione... Una... Sì. No, sospesa, è l'amministrazione che decide. Se sospende, sospende. Volevo solo ricordare al Consiglio Comunale che normalmente la città di Pordenone ha una superficie diffusa, ma nei comuni più piccoli che capita più spesso. Ma io vi do comunque lettura dell'articolo 78 del coma che sostanzialmente impone ai consiglieri comunali di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti affini fino al quarto grado. L'obbligo di astenzione non si applica ai provventi normativi e di carattere generale quali i piani urbanistici, come in questo caso, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado. Cosa significa? Significa che se uno ha l'abitazione in una zona B e cambiamo le regole della zona B, è carattere di norma generale. Se c'è una modifica di azonamento e un proprio terreno o di un proprio affine o parente fino al quarto grado subisce invece una modificazione puntuale che ne valorizza l'immobile, è bene che ci sia l'astensione. Quindi se gli immobili che possedete sono all'interno di aree quindi che vengono toccate solo in via generale da modifiche del... Sì, perché il tema poi si pone sulle... Quindi in via generale non c'è obbligo di astensione se non nei casi di diretta correlazione quindi di modifiche puntuali. Grazie. Do la parola al segretario. Su questa cosa? No, pensavo volete... Rileggerlo, non me l'ha mai già letto una volta. Chiedo all'assessore... Allora, riprendiamo i lavori. Vedo che vi siete già iscritti. Mantengo questo elenco. Va bene, allora do la parola al consigliere Delben per il primo intervento, pertanto mezz'ora di tempo disponibile. Grazie. Io esordisco ringraziando l'architetto Pedicini perché risera ad ora tarda ha fatto la proposta di dover aggiornare ad oggi la discussione, anche per ciò è stato utile perché ho avuto la possibilità di approfondire alcune cose. Io mi ero anche, per dire, preparato in modo di raggiungere in piena forma alle 14.30 ma non siamo neanche capaci di rispettare l'orario che ci diamo né per l'attività del consiglio né per quello che doveva essere fatto. Io non sono un prete non sono abituato a parlare dal pubblico a quelli che sono alla chiesa però, che sono in chiesa, però mi pareva giusto che 14.30 fossero due e mezza per tutti. Intervengo su questo piano per dovere nel senso che portiamo un contributo che può essere di natura politica politica amministrativa perché poi sappiamo che, come troppo spesso accade ciò che viene proposto dopo ha praticamente una impossibilità pratica di modifica durante le discussioni che devono essere fatte. D'altronde, quello che era proposto era un piano generale piano regolatore comunale generale sul quale io penso che siano importanti le posizioni politiche. E su quelle espresse ieri richiamo due cose dette dal sindaco sul cui intervento esprimo un parere apprezzabile nel senso che è stato come molte volte su abitudine estremamente chiaro. Questo momento che dice è finito un periodo di 40 anni c'è bisogno di cambiare pagina di cambiare registro indipendentemente da analisi sul passato diventiamo pragmatici. Facciamo un piano regolatore che è fondato su ampie analisi dice che ci sono potenzialità di sviluppo perché Pordenone è seduto su una in senso buono una bomba energetica ed è quello che ho capito la bomba energetica sta sopra nostra testa perché dovremmo fare degli interventi i famosi 40 ettari di energia solare. Però dice che praticamente finita un'epoca siamo entrati nell'ottica di condividere la necessità di un equilibrio con l'ambiente e questo piano che viene proposto e io dico che in questa logica è perfettamente coerente dopo magari riuscirò a dire anche perché perché andiamo avanti non solo senza pregiudizi ma sono strumenti dinamici che dovrebbero avere non statici quindi dovrebbero avere anche una potenzialità adattativa questo l'ho scritto io ma potenzialità adattativa alla urbanistica moderna. Se guardiamo intorno Pordenone risente di cambiamenti e crisi che sono sovracomunali che sono sovraregionali quindi preparare un piano che abbia alcune affermazioni di principio l'equilibrio con l'ambiente e la sostenibilità siamo anche pronti per trovare delle adattamenti non mi interessa si chiamano varianti o no degli adattamenti con quello che dovrebbe essere fatto però quello che è importante è che dice che il tempo dell'espansione è finito oggettivamente e adesso dobbiamo trovare delle scelte che ci permettono di utilizzare molto il nostro territorio fin qua direi che è delle affermazioni che possono essere convinte e condivise quello che mi piace anche che a differenza di altre volte il sindaco ha detto subito come la pensava non alla fine discussione perché in questo modo facilita il rapporto con tutti quindi abbiamo come ha chiesto lui abbiamo eliminato pregiudizi di ascolto apprezzabile assessore Toffolo il cognome Toffolo deriva da Cristoforo che è quello che poi contratto che è quello che traghetta da una parte all'altro e penso che l'intervento suo di ieri sia un po' in sintonia con questo effetto proprio perché l'impegno la competenza la chiarezza con la quale si è posta ieri sicuramente è un momento utile per fare una un passaggio una una transizione fra quelli che dicono letto lei non più logiche da collate di cemento da cemento ma rigenerazione urbana le zone industriali sono diventate vuoti urbani e lì dentro possiamo pensare ancora a momenti produttivi anche se solo produzione di energia comunque questo è un elemento importante e a un certo punto lei ha fatto una considerazione di natura politica sulla quale un po' mi differenzio a un certo punto dice che noi siamo qui per dare risposte alle richieste di cittadini non più per scrivere per determinare io direi che è una posizione corretta un equilibrio fra queste due cose diciamo come che per lei potrebbe essere con affetto ovviamente nel suo DNA quindi un elemento molto importante di equilibrio in cui si sposano aspettative con diritti con pensare che le persone siano uguali e quindi anche qua dentro non una gestione per dire di potere ma giusti ma giusti equilibri quasi una transizione fra più diritti più interessi più aspettativi quindi quello che ho detto ovviamente penso che sia stato colto in termini positivi su questo elemento che ha fatto anche se io non sono convinto che bisogna dare o partire dalle risposte alle richieste dei cittadini diamoci delle regole e lì dentro se va bene ce le diamo comunque aspetti positivi su quello che ha fatto e una cosa di quelle che mi ha per dire particolarmente interessato in termini utili è quello che dice che dobbiamo premiare comportamenti adeguati questi principi di buona educazione anche se di buona educazione politico-amministrativa sulla quale sono bene sono condiviso dopodiché questo che dice è un ragionamento sulle macrogriglie che sono principi per il futuro e quindi va bene quello che ho detto ma in sé ha un limite allora la parte positiva è che facciamo dei macro riferimenti poi però la città dobbiamo anche costruirla dentro queste griglie mi ha fatto molto piacere ieri quando il progettista ha proiettato l'immagine in cui c'è Pordenone con Cordenonso e con Porcia la mia barba bianca mi consente di ricordare che idee simili le avevamo qualche anno fa quando si parlava del Puyap piano urbanistico dell'area pordenonese in cui non più erano visti i comuni insieme ma ci vediamo in questa conurbazione con Porcia e Cordenonso proposta che avevo fatto all'inizio della campagna di questa tornata amministrativa ma che non ha avuto sufficientemente immediato riscontro quindi è centro però anche espandersi in quella che oggi si chiama UTI allora è giusto che macro griglia noi si ragioni in quei contesti e in questa macro griglia noi potremmo anche pensare ad una città che si pone al centro di un'area vasta non uso più il termine provincia ma al centro dell'area vasta perché ieri abbiamo sentito che siamo nel non per informazione ma solo per puntualizzare sul bacino dell'ivenza e l'ivenza è un po' di qua un po' di là e noi siamo un po' friulani un po' veneti cioè per dire questa nostra area importante che parte dalle montagne e tocca il mare quindi anche dirci e crearci un ruolo una funzione che Pordenone può avere dentro questa UTI e dentro questa area vasta e quindi sindaco dobbiamo anche approfondire alcuni momenti in quali noi possiamo produrre prodotti perché da produrre prodotti possono arrivare le sorgenti fondi finanziamenti che ci servono per fare la progressione ma io penso che le potenzialità ci siano quindi su questa struttura grande va bene dopodiché nel dettaglio abbiamo sentito una interessante analisi penso anche che sia tecnicamente corretta analisi del territorio di Pordenone dopodiché se noi volessimo per dire allargare i confini diciamo che quelle aree indicate ieri non sono dissimili dal nord per quanto riguarda Cordenone è un po' di Porcia e quello che è il sud la parte è anche di Porcia quindi quell'analisi che è stata fatta qua di tipo idrogeologica di tipo geologico sicuramente ci aiuta per fare la progettualità per il futuro e che è sicuramente utile su questo percorso non posso che aver visto in modo decisamente positivo è il fatto che la comina e su questo mi dà una mano anche Salvador rimane per noi un ambiente positivamente caratterizzante e che sia questa tolta a colate di cemento non aggiungo altro perché non serve è sicuramente un elemento positivo di questo piano perché natura ambiente produttività anche di tipo agricolo gestita possono essere sicuramente utili per noi qualcuno ha anche ricordato poi la potenzialità ma questo bisogna parlarne con San Quirino dell'aeroporto un momento in cui nel Pordenone una volta si arrivava via acqua dalle digitazioni del bacino dell'ivenza fino a noi ma oggi possono anche essere facilitati gli arrivi via aria per dare a noi richiamo interesse potenzialità di investimento eccetera quindi elementi positivi che la parte alta della comina sia rimasta nella sua destinazione originaria dopodiché il progettista con una buona foto d'archivio ci ha illustrato nel suo esordio come quella a Pordenone in cui c'erano la spirale degli alberi del parco del 4 novembre sopra c'era il cotonificio Amman e è partito dicendo questa è un po' la nostra storia dopo qua dobbiamo fare una distinzione il fatto che ci siano il parco del 4 novembre non so se è fatto in quel momento lì o solo denominato dice che siamo nel dopoguerra e in quel dopoguerra noi avevamo una insidia legata alle nostre amiche acque avevamo avuto la scelta avevano avuto la scelta di deviare una parte del meduna sul noncello caratteristiche diverse perché il noncello è fatto di acque sorgive quello veniva da altre parti comunque portato da noi e quello ha cominciato a squilibrare il nostro sistema idrogeologico negli anni 20-25 al di là della strana idea di fare a Pordenone un porto nuovo quando ormai stava arrivando Cerraferrovia da 70 anni per allora perché è inaugurata nel 1855 quindi devono vedere che i collegamenti erano via rotaia sempre meno verso acqua hanno cominciato anche a crearsi perturbazioni con i nostri argini togliendo vasi vasche di espansione naturali e tant'è che poi verso Corva verso Prata eccetera vicinale si sono alzati gli argini e se ci guardiamo intorno il monumento che è ai caduti che è la nostra chiesa della Santissima la prima tabella datata che troviamo lì è 1928 a ricordarci la prima montana la prima esondazione perché prima quello quando hanno insediato il cotonificio a Mann quando hanno fatto prima quella chiesetta con gli affreschi dei calderari non erano zone soggette a inondazione cioè noi oggi siamo in una situazione in cui ci portiamo dentro quella necessità di riporci in sicurezza andare in sicurezza principio enunciato sul quale che è condivisibile ma anche perché alcuni errori ce li siamo fatti nella nostra storia e quando è stato detto che la nostra storia comincia da lì è solo una storia recente che comincia da lì perché noi dovremmo anche fare un passo indietro del prima di essere savoiardi questo non toglie nulla la mia italianità anche se non simpatie per i Savoia e collocarci quando avevamo diverse collocazioni non dimentichiamo che sul nostro territorio sono le terme romane che non è una ultima invenzione a fini turistici ma erano lì ancora prima che abbiamo delle storie attorno agli anni 1000 dove magari qualche terremoto c'è stata e abbiamo vissuto la grande stagione del 1500 che ha in sé una grande contraddizione quando siamo stati invasi permettete la battuta dagli uni e dagli altri ma quel periodo lì del fine 400 poi per noi è anche stato un momento in cui c'è stata una rinascita dei nostri passaggi e insieme a questa Pordenone piccolo nucleo c'erano anche altre realtà e allora se noi dobbiamo pensare di fare un nuovo piano regolatore dobbiamo anche partire per recuperare quella parte della nostra storia che non è solo produttiva ma è anche di piccoli insediamenti intorno alle parrocchie intorno alle aggregazioni che secondo me nella declinazione delle macrogriglie dovrebbero trovare degli elementi di identificazione importante quindi l'assessore quando lei ha detto che è macrogriglia lo ritengo comunque compatibile con la ricostruzione di questo tessuto di città rispetto al passato e il recupero di questo potrebbe anche essere una buona base per trovare intese per continuare con un senso giusto della composizione dell'amministrazione comunale quindi siamo andati alla necessità di ricostruire degli elementi di visibilità delle nostre frazioni scusate dovevo dire dei nostri ex comuni erano comuni Valenoncello erano comuni Re Grande e nel momento in cui Pordenone si mette a fare comune centrale di un Audi deve dare un messaggio positivo che non è a scapito dell'identità di nessuno uno slogan della mia campagna elettorale era il mosaico con le sue tessere ora noi abbiamo la nostra identità se siamo fatti di tessere diverse che si compongono allora un messaggio positivo di come riusciamo a salvare il nostro passato e valorizzarlo potrebbe anche essere un elemento importante che facilita la fusione magari di più comuni in un'entità di quella dimensione che è necessaria per affrontare il 2000 e gli anni che devono che devono venire quindi tutti elementi importanti che non sono contraddittori con quello che fino a che è stata fatta cioè è solo uno stimolo da fare un ulteriore approfondimento allora su questi elementi certo detto quale città proporre sono anche contento che quella città completa non sia qua dentro perché il trovare collocazioni scolastiche collocazioni sociosanitarie dinamica di movimenti posti di sviluppo ovviamente riempendo ciò che c'è sono proprio quegli elementi che potrebbero essere colti e valorizzati perché frutto di un'analisi approfondita per i quali costruire insieme per quelli che verranno un'idea di città nostra con un concetto che la facciamo per ora ma senza i pregiudizi di fare la città ideale per quello che deve essere fatto nella mia storia personale c'è uno studio particolare sul Duomo di Palmanova quando era stata fatta la città in quel modo con quello che era fatta però quella era fatta come città ideale la città ideale è a misura a funzione di quelli che ci sono dentro non un rigido contenitore quindi la dinamica che deve essere fatta come variano anche le nostre società ovviamente diventiamo sempre meno visto che invecchiamo il sindaco sempre di miglior qualità però dietro di noi di miglior qualità però mette in moto un altro tipo di città che deve essere fatta a bisogno di quelle persone che saremo in meno quindi è giusto quello che dice non sviluppare ulteriormente quando ho letto che la proposta attuale è meno 0,2% rispetto al 77 non posso che essere d'accordo con questo elemento perché se non altro è una inversione di tendenza rispetto a derive che non hanno per dire valorizzato il nostro passato allora oltre che l'insieme delle scuole eccetera dobbiamo pensare anche a degli insediamenti tipo social housing non sono dal piano regolatore generale ma devono essere previste queste zone e per dire di concentrare dove le persone hanno bisogno anche di meno mobilità e il fatto che si faccia un investimento forte sulla riqualificazione energetica degli edifici rende anche meno costosa la gestione delle case quindi ti incontro anche di quelli che possono avere meno disponibilità economica di quelli che sono fatti quindi in pratica abbiamo fatto ho fatto una riflessione su quello che ci siamo detti ieri che mi avevo ascoltato e sicuramente una giornata importante per me una giornata importante per Pordenone e anche una giornata importante per quello che l'amministrazione lascia i professionisti e lo ripeto perché è opportuno hanno lasciato delle analisi di lettura del territorio molto ampie e questi potranno servire per costruire l'idea della città di domani uno dei contenuti del programma che avevamo illustrato per Pordenone era quello di fermare il consumo inutile del territorio incentivare il recupero e il riutilizzo in aree già urbanizzate e mi pare che questi siano contenuti tutto sommato su quelli che sono e questo in una politica sovracomunale con Purchia e con Cordenone e dare idea dentro la città di come si possono ancora creare tessuti sociali nell'insieme la proposta è una proposta positiva e ho apprezzato con molto soddisfazione che nel fascicolo ci siano i pareri delle quattro circoscrizioni che sono pareri favorevoli potreste dire ma hanno avuto poco tempo per approfondire ma tutto questo ma ma in qualche modo lì dentro si sono sentiti e quei quartieri sono persone elette si sono sentiti in qualche modo dentro quel piano io penso più per le sue potenzialità che per le sue risposte immediate allora se insieme a questi elementi tecnici c'è anche l'orientamento della base iniziale della partecipazione penso che questo sia un piano che sarà approvato ma è un piano sul quale si può costruire per il futuro e questo è una ragione per la quale non faccio opposizione a questo piano non potrei farla considerando orientamenti e sintonie con chi ha guidato i progettisti sul piano politico per la presentazione di quello che è stato fatto non posso farlo perché anche se in maniera opinabile ha attivato tanta partecipazione di gente semplice di cittadini di categorie magari mi aspetterei che tutti quelli che sono stati chiamati a partecipare fossero pronti domani per fare un ulteriore contributo alla nostra città non centro storico non solo Pordenone ma una città vista come in questo territorio ampio noi possiamo ancora avere un ruolo importante per dire qui si può vivere bene e a lungo why not e allora tutte queste potenzialità possono essere utili per trovare in Pordenone qualcosa che riporta abitazione che riporta gente che riporta attività so che l'assessore Cattaruzza è molto impegnato fattivamente nel percorso non importa nel percorso di proposte culturali per Pordenone e se non ha fatto tutto avrà ancora la potenzialità di fare ancora in più solamente per dire che ci sono dei campi nei quali noi potremmo ancora sviluppare alcune attività come lo può essere può essere quello legata al utilizzo dell'ambiente non magari come vorrebbe l'Europa non so se usano il termine giusto o comprensibile i terreni postoti per chi non sa postot è un terreno lasciato a sé lo trovate anche in giro via Pustoti sono elementi però noi vogliamo un territorio che non serva per dire per fare la produzione dei masurini perché noi potremmo anche fare quelle attività produttive importanti e se serve anche la parte lacustre da utilizzare ben venga su quello che è fatto una volta una volta tanta gente aveva la fortuna di poter leggere e studiare su qualcosa che è legato ai Galvani e che è la carta l'industria cartaria che era ancora prima di quella tesile ma c'era una qualità di carta che si chiamava carta Pordenone e che viene ancora rinomata io mi auguro che anche attraverso questo strumento noi possiamo creare degli elementi in cui Pordenone abbia il giusto riconoscimento della qualità che si merita avete sentito che ho fatto per dire tutto un intervento orientato al positivo mi auguro una cosa che non si perda questa occasione per costruire una proposta di una Pordenone anche a breve più aggregante più partecipata più vissuta più viva di quello che finora non siamo stati in grado di fare grazie consigliere consigliere Pedicini prego sì grazie presidente devo dire che è importante intervenire in questo dibattito lo ritengo importante e lo vuole dire anche i miei colleghi perché ci troviamo in un momento a mio avviso storico anche per la città di Pordenone questo nostro piano regolatore che viene qui presentato ben dall'ultima volta era il 1986 che è stato presentato un piano in questa città da allora sono state fatte solo delle varianti l'urbanistica non ha una storia molto lunga nel nostro paese vorrei ricordarlo un po' a tutti è di 73 anni fa quando si comincia a parlare di urbanistica era un'estate del 42 dove è stata presentata e approvata la prima legge urbanistica italiana che è la 1150 ed è la legge che fino ad oggi ha avuto delle modificazioni ma in sostanza lo schema è questo è la legge che ha istituito anche i piani regolatori comunali ha stabilito che fino ad allora non c'erano queste regole ma c'erano delle regole di igiene nel costruire ma non esisteva una pianificazione urbanistica che è nata proprio nel 1942 ed è stato anche il primo anno in cui si è sancita la separazione fra il diritto di proprietà del suolo e il diritto edificare mentre prima bastava essere proprietari di un terreno e si aveva diritto a costruirci su quel terreno seguendo semplicemente delle regole di igiene dal 1942 in poi con la prima legge urbanistica non si poteva più farlo alcune zone erano deputate per la costruzione altre per i servizi la zonizzazione famosa è nata proprio con quella legge urbanistica perché dico questa perché poi nel dopoguerra questo è stato anche motivo di speculazione edilizia il fatto che si potesse costruire da qualche parte in qualche altra no ha dato il valore ai terreni il terreno valeva di più o di meno in base all'utilizzo del terreno stesso e quindi i terreni non avevano tutti lo stesso valore e non solo questo ha portato poi a delle scelte territoriali che non sempre erano dettate dal buon senso ma erano dettate anche dalla convenienza economica nel costruire o meno in una determinata posizione e lo stesso vale per la città di Pordenone la città di Pordenone aveva una situazione che si vedeva a sud il fiume Noncello le aree esondabili al nord le aree asciutte e le aree sane dove si è sviluppata maggiormente negli anni dello sviluppo economico la città principalmente centro-sud dal centro e verso il sud perché erano aree economicamente più vantaggiose e meno ovviamente al nord questo tipo di situazione è determinato a quello che oggi noi andiamo ad affrontare con il nostro piano il problema vero è che se noi ci pensiamo noi abbiamo avuto tre piani regolatori questo è il quarto il 55 il piano che si chiamava Portus Naonis di Filippone e Rocca nel 69 il piano Cerruti e nell'86 il piano Zuccato questo è il quarto piano dall'86 a oggi non si sono fatti i piani si è ritenuto di intervenire su delle varianti il tema della riduzione dell'espansione della città era già stato affrontato in passato non ricordate che l'ultimo piano prevedeva 70.000 correggetemi se non c'è sbaglio abitanti per questa città e anche i servizi puntavano a quei numeri con la riduzione c'è stata la prima variante servizi che è stata portata avanti e poi successivamente siamo arrivati fino alla variante che era la variante 38 del 2000 la variante servizi che strategicamente era un po' un piano regolatore perché ricollocava tutti i servizi sulla città cosa vuol dire collocare i servizi cosa che questo piano non tocca per esempio vuol dire definire tutta una serie di altre problematiche stabilire che il centro studi è il centro studi vuol dire che abbiamo deciso che ogni mattina alle 8 c'è tutta una massa di persone che si recano verso quel luogo perché c'è la scuola perché c'è bisogno di portare i ragazzi a scuola e quindi i mezzi pubblici i mezzi privati vanno verso quella zona quindi è una scelta ben precisa e determina poi tutta un'altra serie di conseguenze stabilire che il Bronx quello che noi chiamiamo il Bronx è il centro servizi di questa città poi abbiamo visto come si è sviluppato vuol dire aver fatto una scelta strategica e dire che in quella zona alla mattina tutti gli impiegati devono recarsi perché poi era tutto agli uffici pubblici poi sono stati quindi la scelta dell'ubicazione servizi la variante servizi del 2000 era sostanziale per la città di Portano perché in realtà disegnava quello che era lo sviluppo di questa città dove ubicare il carcere che non l'aveva ubicato ovviamente neanche allora dove ubicare l'ospedale come espansione che era lì dove ancora oggi e tutti i vari servizi di questa nostra città ma arriviamo poi alla variante 77 che viene anche ben menzionata che è stata più una variante di risistemazione del territorio ma in realtà non è andata a incidere maggiormente e devo dire che si va in contrasto con la variante 77 con questo piano per esempio si va a ridisegnare vuoi la parte sud di Pordenone con l'acquisizione del PAI attuale perché anche il PAI non è un'invenzione di oggi non è che il PAI non esisteva quando è stata fatta la variante 77 o quando c'era la variante servizi si è cercato semplicemente di mitigare quella che era la zona esondabile di questa città e si è costruito ancora in zona esondabile della città stabilendo delle regole che davano la possibilità di costruire questo piano di oggi invece pone dei limiti più restringenti su questo e bisogna dare atto all'amministrazione su questo perché dico questo che questo piano che noi oggi presentiamo è un piano che a mio avviso lo dico con estrema franchezza fa un'ottima analisi e un ottimo studio di preparazione al piano stesso e come ha detto anche il mio collega ci servirà anche per il futuro è stato un egregio lavoro che è stato fatto perché ci dà la possibilità di lavorare anche per il futuro quello che vedo oggi anzi andiamo per ordine e diciamo che si ferma a un livello che io avrei preferito un maggiore approfondimento e non su alcuni aspetti che dopo andrò a dire rispetto ad altri è una scelta è stato detto che è una scelta si voleva lasciare a questo tipo di livello ma torniamo un attimo indietro il problema vero della città è disegnare attraverso il piano l'attuale sviluppo della città questo piano ci dice effettivamente che sviluppi non ne potremmo pensare di avere più di tanto tanto è vero che limitiamo anche l'aumento della popolazione di questa città e l'interesse che noi abbiamo è conserviamoci bene quello che abbiamo sostanzialmente il sindaco è quello che anche lei ha detto conserviamo bene quello che abbiamo e non pensiamo di sviluppare ulteriormente questa città e interveniamo anche su questo allora diciamo una cosa e qui vado un po' in contraddizione con chi aveva illustrato il piano la città di Pordenone lo sviluppo di questa città il più delle volte non è stata determinata dai pordenonesi lo dico a lei quando lei citava Amman il cotonificio Amman dal nome stesso che lo deriva sono carinziani non erano pordenonesi neanche i galvani erano pordenonesi venivano a Pordenone a piantare la loro industria perché Pordenone offriva delle condizioni ideali per fare l'industria l'acqua giustamente e quindi gli Amman non erano pordenonesi tant'è vero che la vecchia nobiltà pordenonesi si chiudeva all'interno del corso se lei va in corso Garibaldi dall'altra parte di piazza Cavour perché tutte le famiglie che arrivavano dopo anche queste benestanti e nobili costruivano casa al di là ma non potevano nel centro storico perché il centro storico era delle vecchie famiglie pordenonesi ma le vecchie famiglie pordenonesi o compravano le case che c'erano oppure devono costruire quelle nuove dico che questa è una città che ha visto nella sua immigrazione di qualità il suo sviluppo e non dimentichiamo che anche con Zanussi con Lino Zanussi in realtà noi abbiamo avuto un'immigrazione forte in questa città che ha dato lo sviluppo a questa città i dirigenti che lui portava la Zanussi a Porcia erano persone che poi vivevano la realtà della nostra città i loro figli frequentavano le nostre scuole vorrei far ricordare a tutti che in quegli anni e parliamo degli anni del dopoguerra Pordenone non aveva le scuole superiori le uniche scuole superiori erano il liceo classico del Don Bosco non esistevano le scuole statali a Pordenone Pordenone non aveva quell'attività culturale che è nata proprio negli anni del dopoguerra perché dico questo? perché dico che questa città si è sviluppata con un'immigrazione imprenditoriale con un'immigrazione culturale negli anni che ha dato sviluppo a questa città per il futuro possiamo ancora avere questo genere di immigrazione io penso di sì però dobbiamo creare quelle stesse condizioni che avevamo avuto nel passato nel passato noi avevamo avuto questa immigrazione perché noi eravamo un luogo ideale dove fare industria tanta acqua forza motrice costi ridotti quindi si potevano fare benissimo oggi cosa possiamo offrire perché ci sia uno sviluppo ulteriore noi possiamo offrire delle condizioni economiche vantaggiose nel venire qui perché siamo in un luogo molto bello ben curato di gente anche culturalmente preparata avanzata che è pronta anche a recepire le novità ma dobbiamo creare delle condizioni economiche perché sia più interessante economicamente vantaggioso venire a Pordenone piuttosto che andare da altre parti e qui mi collego anche a quanto il piano dice sulla questione dei capannoni e delle aree industriali con tutto il rispetto del mondo è un po' pochetto dire che noi recuperiamo le aree industriali perché ci mettiamo i pannelli fotovoltaici perché in questo momento forse era meglio ripescare quel progetto che avevamo realizzato qualche anno fa del recupero dei capannoni industriali ma che lo dicevamo in modo diverso dicevamo prendiamo i capannoni che oggi sono abbandonati e ce ne sono tanti ristrutturiamoli prendiamoli a norma facciamo e mettiamoli a disposizione di quanti vorranno insediare la loro azienda sul nostro territorio e per un certo numero di anni che andava almeno fino da 3 a 5 anni se l'azienda era nuova gli diamo la possibilità di insediarsi in questi capannoni che sono dismessi che sono abbandonati che oggi non sono utilizzati senza avere tutta la burocrazia le norme quindi con glielo facciamo noi dopo 5 anni cominceranno a pagare un affitto al proprietario e il proprietario ci mette a disposizione i capannoni perché li avrà ristrutturati e anche con un inquilino per il futuro dare la possibilità di insediarsi su questo territorio a un costo vantaggioso in un momento come questo vi posso assicurare che c'è la possibilità di intervenire per questo e per le start up anche per le nuove aziende perché avere il sito dove insediare la propria azienda è uno dei principali problemi che ci sono specialmente poi con la burocrazia con tutto quello che ne viene quindi non bastano solo i capannoni dire che mettiamo del fotovoltaico è una conseguenza è un qualcosa in più ma non è certamente il fattore trainante qui abbiamo bisogno di idee più forti e di investimenti abbiamo bisogno di soldi che ci diano la possibilità di recuperare questo ma abbiamo bisogno anche di recuperare il patrimonio edilizio esistente ne abbiamo già parlato altre volte noi abbiamo un patrimonio edilizio degli anni 50 60 e arrivo anche a 70 che è in condizioni attualmente dal punto di vista della qualità della vita pessimo molti condomini del centro della città di Pordenone costruiti in quegli anni non hanno oggi più isolamento assolutamente non hanno quelli standard né di economicità di gestione del condominio stesso né la possibilità di avere quella qualità della vita anche con razionalizzare gli spazi avere determinati servizi eccetera molti non hanno il garage molto non hanno i servizi bene come possiamo fare perché per favorire questo con una proprietà poi talmente parcellizzata lo scambio la cubatura io sì potrebbe essere anche questa una delle condizioni ma non penso che sia la condizione migliore e ottimale per poter raggiungere l'obiettivo poi lo vedremo nei prossimi anni spero di avere torto e così vedremo magari uno sviluppo io ritengo che sia più utile invece immaginare la possibilità per quanti ristrutturano i propri edifici di dare un abbattimento del limo per cinque anni non pagano limo quegli edifici questo potrebbe essere effettivamente dobbiamo dare degli incentivi economici forti perché anche in questo caso diamo la possibilità di una ristrutturazione del proprio edificio quindi di riportarlo a degli standard di qualità della vita importanti ma attraverso un abbattimento del limo non trovo questo tipo di indicazione e me le dispiace il problema della viabilità ne abbiamo parlato qui più volte abbiamo parlato della riviera Asca sapete quanto ne stiamo parlando eccetera allora dico chiaramente che non sono per una cementificazione della riviera Asca costruire fino sul bordo del fiume mi sembra un po' eccessivo quindi quello che ho visto in quest'aula però era un'ipotesi così lasciata non certo dal piano però dobbiamo creare una viabilità alternativa allora ci dobbiamo chiedere visto che segue il piano dà delle indicazioni anche se oggi non viene fatto col piano la nuova viabilità lo seguirà ma il piano deve dare delle indicazioni abbiamo la possibilità di ripensare una viabilità diversa in questa città o siamo legati al ring come immagine di smaltimento e sapete le quantità di traffico che ci sono state anche chiaramente illustrate sul ring stesso possiamo rivedere completamente la viabilità di questa città bisognerebbe provare a farlo ma se vogliamo mantenere questo ring e vogliamo anche avere la rive rasca dobbiamo pensare a una via alternativa e non possiamo caricare Borgomeduna come hanno detto giustamente i cittadini di via San Giuliano di Borgomeduna dice chiudete la rive rasca e ci riversate a noi il traffico mi sembra che non sia la soluzione ideale perché poi il ring deve essere continuato a mio avviso anche al di là di quello che abbiamo visto lì si può immaginare un proseguimento di via via Mestre che passando dietro la Santissima attraversa la basura del noncello e si ricollega di fronte all'Aman per quanto riguarda il collegamento allora riportiamo allarghiamo il ring ma il fiume rimane all'interno della città e ci ritroviamo ad averlo a ridosso poi col centro storico e quindi inglobarlo all'interno della città e non vederlo come un retro e qui vediamo anche all'Aman il problema dell'Aman ho visto che c'è stata una discussione anche all'interno della maggioranza il problema dell'Aman certo per chi lo ricordo per quanti non lo sanno è stato frutto di vari passaggi di progetti approvati all'interno di questo consiglio comunale non è che il problema dell'esondazione non c'era anche in quegli anni ma il problema dell'Aman è stato che alcune società se lo sono passati di mano facendogli evitare i costi del valore di quell'area dai iniziali mi pare 4 milioni di euro a una quindicina di milioni di euro finali facendo prego sì iniziali guardate ci sarebbe da scrivere una storia perché lì doveva venire il centro all'ingrosso non era delle copp era prego prego no neanche gare fu va bene sì ne doveva venire di tutto morale della faula si devono fare degli alberghi delle abitazioni il centro commerciale doveva venire un centro commerciale bene tutti i progetti approvati ne sono stati approvati due in questo consiglio comunale l'approvazione del progetto ricordo la prima società che si chiamava quadrifoglio non so se era prima o la seconda ecco ma ha portato fortuna perché facendosi approvare il progetto da questo consiglio comunale è lievitato immediatamente il valore hanno ceduto l'area a un'altra società che è subentrata facendo una speculazione si sono presi dai valori iniziali sono più che raddoppiati solo col progetto approvato l'altra società si è fatta approvare un altro progetto e quindi ha rivalutato ancora la sua area sempre passando all'interno oggi noi diciamo che l'area oggi allora oggi noi diciamo l'area è utile per realizzarci cosa non lo sappiamo sì per me lì potrebbe esserci tranquillamente il mercato coperto la cosa artigianale potrebbe essere una prolungazione del campus universitario perché è collegato non è distante ne possiamo fare tante belle cose però abbiamo bisogno di fare una cosa semplice dare una destinazione a quell'area come si sta facendo che si sta riportando non è un problema di esondazione il problema di esondazione il cotonificio veneziano l'ha sempre avuto si era creata gli argini e aveva si proteggeva attraverso la chiusura con gli argini e così anche successivamente vorrei capire come abbiamo fatto io ho votato contro ma come è stato approvato quel progetto all'interno di questo consiglio comunale che è resondabile anche allora il problema è che noi dobbiamo oggi se vogliamo fare qualcosa dobbiamo comprare quell'area quell'area lì non succederà niente perché in mano a privati allora il comune deve acquistarla la deve acquistare e poi decide chiedendo va bene la regione l'ente pubblico bene l'ente pubblico è un'area privata o l'espropri se no scusate non è che possiamo inventarci se no facciamo come i ragazzini decidiamo che ci piace le cose fatte su casa degli altri non è che lo possiamo fare allora se vogliamo farlo se abbiamo questa idea se pensiamo che sia utile lì realizzare qualcosa dobbiamo anche avere il coraggio di dire che noi quell'area la acquisiamo pubblicamente voi con contributo regionale voi come volete voi però dobbiamo acquisirla se no quell'area rimarrà continuerà ad essere questa infinita la storia di Torre è uguale Torre è stata fatta l'idea che poi era stata accolta anche dall'amministrazione precedente di concentrare lì le scuole di Torre e liberare le aree centrali non è andata in porto poteva essere una proposta di quella zona del recupero dell'ex cotonificio di Torre ma quelle aree lì di archeologia industriale è come lo stumacò di Cordenos o si ha qualche progetto o idea ma bisogna metterci soldi oppure diventa difficile pensarla lo dico perché se no ci accapigliamo su cosa farne dell'amman ma in realtà non facciamo proprio assolutamente nulla altra questione per quanto riguarda le esondazioni di questa città gli errori fatti nel passato e anche abbastanza recenti hanno portato a edificare in zona esondabile abbondantemente allora le condizioni di io l'ho già detto e lo ripeto ma non voglio sembrare Cassandra le condizioni di esondazione del 65 e del 66 che furono eccezionali ma ormai li salgono a 60 anni fa sono delle condizioni che sono ripetibili non sono non è scritto da nessuna parte che non si potrebbero ripetere ma se oggi avessimo le precipitazioni che abbiamo avuto nel 65 e nel 66 vi posso assicurare che mentre in quegli anni l'acqua è arrivata alla fontana dei leoni davanti a Zampolli questa volta arriverebbe in piazza municipio perché come in un bacino in un catino dove mettete tot acqua se continuate a metterci dentro delle pietre a un certo punto il bacino trabocca ed esce l'acqua oggi noi quell'area vasta che era la zona sud di Pordenone l'abbiamo ampiamente riempita di case abbiamo fatto delle lottizzazioni abbiamo fatto dei terrapieni li abbiamo riempita abbondantemente dicendo negli anni che tanto andava sempre tutto bene oggi noi ci troveremmo ad avere e non abbiamo una peggiore situazione rispetto al 65 e al 66 e non abbiamo nessuna difesa da questo per il suolo attenzione è vero che adesso col piano si blocca le ulteriori costruzioni bene ma di quelle che arrivano da oggi in poi ma di quelle che ci sono state in passato sono a rischio e sono ad azione ancora vi faccio presente che a Ponte Aracli nel 65 e nel 66 passavano 7 milioni di metri cubi ora 7 milioni di acqua il bacino di Ravedis contiene 21 milioni d'acqua quello che viene alla diga di Ravedis quindi anche volendolo riempire si hanno 3 ore 3 ore dopo 3 ore tutto quello che viene passa oltre dobbiamo augurarci che piova di meno ma se abbiamo quelle condizioni perché abbiamo due bacini imbriferi che sono quelli del Cellino e del Meduno che sono due grandi imbuti che raccolgono acqua e la scaricano a valle attraverso Ponte Aracli allora questo tipo di situazione guardate che dopo l'alluvione del 65 tutti hanno detto con i tempi di ritorno un'alluvione del genere devono passare almeno 100 anni sfiga voluto che nel 66 l'anno dopo c'è stata un'alluvione peggio di quella del 65 allora voglio dire i tempi di ritorno sono una cosa che si inventano i geologi che si inventano quelli delle statistiche ma in realtà poi succede quando succede oggi noi non abbiamo difese è bene dirlo nel momento che andiamo a fare questo piano regolatore che il comune di Pordenone in tutti questi decenni non si è mai dotato di difese del suolo e oggi noi siamo diventati la cassa di espansione di tutti quanti gli altri perché abbiamo noi ci allaghiamo non per l'acqua come ha detto giustamente il mio collega del nocello che è acqua di Risorgiva che sorge a Cordenons ma ci allaghiamo per l'acqua del Meduna è il Meduna che arriva dalle montagne e ci porta giù l'acqua è il Meduna che quando non può più confluire nell'ivenza che a sua volta non può più confluire in mare e si alza di ben dieci metri noi andiamo sott'acqua e diventiamo per 40 milioni di metri cubi d'acqua il bacino di espansione e noi siamo diventati un bacino di espansione finché l'acqua sta a certi livelli la conteniamo augurandoci che non succeda come è già successo allora su questo è bene saperlo ed essere coscienti che neanche questo piano che non poteva neanche farlo non fa difese del suo non può farle no voglio dire che il pile voglio dire che il piano che viene preso in considerazione fotografa una situazione e dice che è quella bene da oggi in poi non costruiamo più però dobbiamo sapere che chi vive in quelle zone è il rischio che sta portando avanti su questo ce lo dobbiamo dire e ce lo dobbiamo pensare allora su cosa sostanzialmente la struttura del piano si base vado a conclusione perché ho finito anche il tempo allora le tre zone questa città viene divisa in tre zone fondamentali condivisibile la zona nord la zona centrale di regenerazione la zona sud di salvaguardia questo è positivo e finalmente prende coscienza a questa città dopo tanti anni di una situazione che effettivamente andava messa nero su bianco e perché ho detto all'inizio che stiamo vivendo anche un momento storico importante primo perché stiamo facendo il quarto piano regolatore di questa città ed è quindi chi partecipa almeno ha partecipato alla stesura di questo piano ma anche perché si sta facendo effettivamente le do ragione signor Sindaco si sta facendo una svolta si è preso coscienza anche degli errori del passato gli errori purtroppo ne sono stati fatti tanti sono stati mascherati in tanta forma in tanti modi perché si è sempre trovato un modo per giustificarli io avevo un professore all'università che diceva che a furia di giustificare si giustifica anche l'omicidio e aveva ragione perché effettivamente è così ma oggigiorno questa città prende coscienza degli errori del suo passato questo piano regolatore lo mette in evidenza e dice finalmente possiamo cambiare strada non sappiamo però dove stiamo andando questo è il succo della nostra storia e come faremo a ridisegnare e a pensare questa città del futuro riassumendo quello che dicevo già prima uno creando degli incentivi noi siamo in una zona ottimale siamo una bellissima posizione strategica una città ricca di verde ricca di acqua con tante potenzialità però dobbiamo anche diventare il luogo ideale ed economicamente vantaggioso per potersi insediare per poter vivere e per decidere di portare qui la propria famiglia perché qui c'è lavoro perché qui c'è sviluppo per fare questo fondamentalmente dobbiamo essere e se non lo fa la classe politica questo se non disegna questo futuro la classe politica mi dite cosa ci sta a fare ed è quello che effettivamente deve fare e non lo deve fare dividendosi su situazioni semplicemente ideologiche lo deve fare in modo pragmatico pensando esattamente quali sono le condizioni migliori ma per avere queste condizioni migliori dobbiamo uscire dagli schemi del passato ecco perché dico che il piano per certi versi prendendo coscienza degli errori esce da questi schemi però dobbiamo affrontare questo futuro che non è ricco di incognite sinceramente come è già stato detto ormai la crisi effettivamente la crisi è cambiamento la crisi ha prodotto un cambiamento c'è chi si adegua al cambiamento e chi non si adegua al cambiamento chi non si adegua al cambiamento continua a dire che c'è crisi perché non è più come era prima chi si adegua al cambiamento sta già lavorando su nuove strade adesso dobbiamo essere capaci se vogliamo essere una classe politica che sa dare delle indicazioni ai propri concittadini per cui si aspettano questo da noi dobbiamo essere in grado di dare queste indicazioni e allora riassumendo se vogliamo quella porzione di aree industriali che abbiamo perché non è che ne abbiamo chissà quante nel territorio del comune di Pordenone se vogliamo dobbiamo farla diventare appetibile dobbiamo andare a recuperare quelli dismessi dobbiamo dire che qui da noi ci potete insediare dobbiamo chiedere alla regione che faccia un piano straordinario di intervento su queste aree perché c'è necessità si può intervenire creiamo le condizioni e diciamo che chi viene insediarsi da noi se è una start up per 5 anni non paga l'affitto se è un'azienda che si trasferisce per 3 anni e nel giro senza vincoli burocratici gli diamo la possibilità di potersi insediare sul nostro territorio dobbiamo creare le condizioni perché delle famiglie si trasferiscano e vogliano vivere a Pordenone perché vivere a Pordenone è sicuramente più vantaggioso noi paghiamo lo scotto di non avere più le caserme anche di non avere più il carcere signor Sindaco è stato già accennato quelle famiglie andranno via da Pordenone non pagheranno le tasse qui da noi che non sono pochi ma anche l'indotto che era stato già calcolato del carcere che è di circa se non vado errato ma è quasi 5 milioni di euro nell'arco dell'anno non l'ho calcolato io l'ha calcolato il Ministero di Grazia e Giustizia noi lo perderemo e se ne andranno ad avvantaggiare altre zone del nostro territorio ma noi perderemo quell'indotto come abbiamo perso l'indotto delle caserne che era un indotto che dava da lavorare da vivere e perché poi c'erano tutti i consumi perché c'era bisogno di andare a comprare nei negozi e tutto quello che veniva che oggi noi non abbiamo più abbiamo bisogno di un progetto per il commercio di questa città abbiamo bisogno di cominciare a pensare che questo nostro centro storico è un centro commerciale naturale all'aperto quindi dobbiamo pensare di creare le condizioni perché possa rivivere ma dobbiamo noi la politica nei momenti di crisi io vorrei è la politica è chi governa che crea delle condizioni di sviluppo oggi noi dobbiamo creare quegli incentivi perché devono venire qui da noi oltre quelli che già ci sono noi dobbiamo cercare allora il mercato immobiliare della città di Pordenone vorrà ristrutturarsi perché avrà bisogno di dare una una risposta più adeguata a quanti che daranno nuove abitazioni abbiamo bisogno che dei giovani facciano famiglia e rimangano a vivere in questa nostra città ecco queste cose spettano a noi ci spettano non solo col piano regolatore ma il piano regolatore è l'elemento che ci permette intanto di avviare quindi concludendo io vedo in questo piano regolatore degli aspetti sicuramente positivi per quanto riguarda le analisi per quanto riguarda anche determinate scelte sono condivisibili però bisogna poi a mio avviso la fatta di scelta questo piano si ferma a un determinato livello dice nel futuro andremo a riempirlo di ulteriori contenuti andremo a sviluppare ulteriormente determinate cose bene su questo buona la partecipazione devo lamentare meno del consiglio comunale che ha partecipato meno poteva partecipare alle riunioni fuori lei dice sicuramente ma il consiglio comunale le commissioni quattro per tutto il piano non è che siano un'enormità ma effettivamente la cinque se vogliamo ma sono quattro e questo sicuramente poteva esserci di più coinvolgimento dell'intero consiglio comunale e per il prossimo futuro il consiglio comunale spero che sia ancora chiamato a intervenire per quanto riguarda l'amministrazione questo piano verrà adottato ci ritroveremo a discutere delle osservazioni e posizioni da parte dei cittadini quando questo dopo di questa sera diventerà pubblico e quindi avremo modo di confrontarci ancora io chiudo con un invito così come avete già detto di essere aperti e disponibili a quelle che sono le osservazioni che saranno le osservazioni dei cittadini e cercare insieme a loro di costruire questo futuro che però ripeto i cittadini se lo aspettano da noi non è che ce lo diranno loro si aspettano dalla classe politica ed è lì poi la loro delusione quando questo non avviene si aspettano dalla classe politica delle indicazioni che più delle volte purtroppo non avviene grazie grazie consigliere consigliere Bianchini prego grazie presidente ho chiesto agli uffici in questo caso del sessore se posso soltanto aiutarmi nella mia esposizione con una scheda intanto parto nel dire che come preceduto dai miei colleghi che questo è un momento storico per la città di Pordenone e noi come Fiume siamo contenti di partecipare di aver partecipato alla stesura del piano relatore di aver suggerito le nostre sensibilità e poi saremo ovviamente onorati di votarlo votare un piano relatore cioè il quarto da quando è prevista come ci ha appena ricordato adesso il consigliere Pedicini credo che sia un forte onore per tutti quanti noi dicevo che solo come schema per me per il mio intervento ho fatto una dei punti sui quali noi come Fiume ci siamo più volte nell'arco di questi anni oserei dire nell'arco anche di tutti i 14 anni in cui siamo qui a rappresentare la città alcuni di questi punti li abbiamo riportati poi all'amministrazione e oggi siamo contenti di poterli vedere scritti e articolati all'interno del piano regolatore ovvio che il ringraziamento va all'amministrazione e ai professionisti che poi hanno redato il piano e che mi permetto di aggiungere che vedere giovani professionisti penso con una regia di una persona che ovviamente ha la sua esperienza come l'architettore Giuliani è per noi stato molto interessante perché vedere la passione con cui ogni singolo professionista è riuscito a presentare la sua porzione di piano a noi ci ha fatto stare seduti sulle sedie e ascoltarlo fino in fondo non soltanto qui in consiglio ma anche nelle precedenti puntate vado per i punti noi abbiamo chiesto zero nuovi cubi edificatori e nessuna nuova zona di espansione questo per noi è importante che il piano regolatore inserisce questo e anzi va sulla riduzione dei cubi in ambiti precedentemente identificati c'è questo indice da 1.03 a 0.84 che come ricordava bene a ribetti ieri io ovviamente non capisco ma prendo come buono perché è una riduzione di cubi e credo che sia un diverso sviluppo prima si citava il discorso che questo piano regolatore forse non dà uno sviluppo alla città ecco io in questi giorni pensavo insieme agli altri che forse anche avere un nome a questo piano regolatore potrebbe essere importante mi è venuto in mente adesso mentre il consigliere Pedicini parlava perché parlava di sviluppo io credo che potrebbe essere proprio che questo è un piano regolatore dello sviluppo diverso fino adesso lo sviluppo è stato pensato sempre come espansione della città in questo caso invece l'espansione non viene fatta ma c'è uno sviluppo concreto e diverso già nel secondo passaggio la rigenerazione dell'esistente e sì quelli che i cubi che rimangono vengono sottoposti a meccanismi selettivi pensati per premiare la qualità e la sostenibilità ambientale ecco attraverso questi due nuovi strumenti che noi abbiamo conosciuto partecipando a questo piano regolatore e cioè la preequazione e la compensazione che se all'inizio eravamo titubanti perché non ovviamente non andavamo dentro alle cose alla fine abbiamo capito proprio che l'equità tra i cittadini è la cosa che questi due strumenti portano ed è quella che noi quindi convintamente abbiamo sposato la terza sensibilità era la valorizzazione della ricchezza idrica noncello laghi passando poi per le nostre rogge beh qui ovviamente come sapete la nostra lista si chiama il fiume e su questo era un po' il pallino che da diversi anni noi cercavamo di poi concretizzare era per noi importante che questo luogo della città avesse un suo ruolo e come ho scritto non soltanto nostalgico di 800-900 come già ricordato anche con la foto dell'architetto Giuliani ma finalmente ritorna protagonista della vita cittadina dialogando con i laghetti che abbiamo nel nostro territorio attraverso le rogge sì ovviamente questa è una visione molto importante complicata da concretizzare ma è una visione che in questo momento abbiamo messo nero su bianco e faremo di tutto poi in futuro per andare a realizzare ogni singolo passaggio quattro la sicurezza sicurezza in questo caso andiamo a ragionare su tutto quello che non so se chiamarli piani o comunque strumenti correlati al piano e cioè viene mappata la città attraverso il profilo geologico sismico idrogeologico idraulico di incidenza del CO2 importante per noi la vaso ovviamente che va su tutto ecco questo su questo noi per noi questa è la sicurezza della città è chiaro che per sicurezza poi ci sono diverse anche altri ragionamenti ma per noi la sicurezza che va a toccare poi le famiglie passa sicuramente per questi profili infine quello che può essere visto come generale una cosa generica generale generica invece per noi è fondamentale e cioè quello che è stato già sottolineato da più interventi e prima ancora dall'amministrazione cioè un piano regolatore che non ingessa un piano regolatore che non ingessa la città con un piano preordinato che avrebbe dato un forte segno urbanistico questo è poi stato anche proprio le parole riprese dall'assessore nella sua presentazione proprio perché il piano regolatore diventa una piattaforma detto l'assessore uno strumento piattaforma è interessante perché è un passaggio che forse va sotto la parte tecnologica quindi è anche interessante chiamarlo piattaforma che aiuterà la nostra città come ha detto l'architetto Giuliani alle complesse trasformazioni che l'attendono ecco io credo che questa sia l'intelligenza del piano come l'abbiamo vista noi cioè l'intelligenza che dice noi mettiamo una base solida dei ragionamenti importanti fatti con la condivisione dei cittadini ma lasciamo poi il passaggio successivo per riempire di progetti questo alcuni brani altra parola importante che il fiume porta avanti in questi anni della città una su tutte abbiamo messo alla fine riordinare la città che esiste per renderla ancora piacevole io sono penso di non essere uno dei pochi anche se ultimamente mi dispiace che non vedo scritto sui giornali questo la città di Pordenone è una città piacevole è una città che forse non attira come una volta però io un po' sono nostalgico ma a me Pordenone piace sempre piaciuta è chiaro che questa è una sensibilità personale però non vedo Pordenone una città negativa come molte volte viene descritto è chiaro che bisogna renderla ancora piacevole qualcuno ha detto appetibile sono convinto che questo possa avvenire attraverso questo piano e attraverso alcuni progetti uno su tutti è quello che il fiume in questo ultimo periodo sta cercando di progettare al proprio interno per poi proporre la città sono parole che adesso dirò che magari il titolo è un po' una cosa che qualcuno ha già sentito ma su questo stiamo lavorando e cioè la città misura di bambino e io credo che la parola piacevole e bambino stanno bene insieme proprio su questo ragionamento siamo contenti di trovare alcuni punti del progetto che stiamo portando avanti in questo piano regolatore ad esempio i servizi nella slide successiva i servizi che abbiamo visto ieri l'ho proprio riportata spero di aver copiato pari pari insomma gli appunti i servizi la quantità di servizi che una volta che il piano regolatore verrà completato noi avremo questi servizi che nella maggior parte dei casi sono il doppio se non di più di quelli previsti per legge dall'assistenza dalla cultura all'istruzione il verde lo sport la viabilità siamo sempre oltre una volta completato il piano ma già adesso non siamo così male io credo che questi questo punto sui servizi è importante per l'attrattività della città un secondo punto è la salute parlavamo prima della sicurezza identificata nell'incidenza della CO2 credo che questo sia importante una città ovviamente fa il palio poi con il Pums una città che ha la sua ha un'aria pulita per quanto sia possibile insomma ma sicuramente dovrà esserlo è più attrattiva per le famiglie ma sicuramente questo ma non solo per le famiglie ovviamente è più attrattiva un terzo punto sono questi corridoi ecologici che vengono previsti per ricucire come era scritto nella rappresentazione i tessuti urbani e sistemi ambientali ecco questi sono corridoi ci sono spinti oltre andando su addirittura le zone verde private assieme a quelle pubbliche ecco io credo che una città a misura di bambini che crea dei corridoi ecologici dove i protagonisti cioè i bambini i protagonisti che noi vorremmo fossero tali cioè i bambini si riappropriano della città credo che sia sicuramente attrattiva sia piacevole infine è una cosa magari più dettagliata però che fa piacere aver riscontrato nel piano regolatore e cioè chi ha letto attentamente questo piano vedrà che le zone B e cioè le zone residenziali una percentuale una piccola percentuale all'interno delle zone residenziali possono essere utilizzate dai proprietari per la creazione di qualcos'altro ad esempio di asili di condominali questa è una cosa importante visto che secondo noi l'asilo è fondamentale per la crescita del bambino e quindi visto che il costo di un asilo sia pubblico per una famiglia che sia pubblico privato comunque impegnativo anche se per fortuna riusciamo ancora in parte ad aiutare ma non tutti quelli che vorremmo tutte le famiglie che vorremmo la creazione di questo che sembra una piccola cosa ma concreta è quello di poter dare la possibilità a chi vuole di creare con tutti ovviamente i criteri i crismi della situazione un asilo condominiale credo che sia proprio nella direzione che noi come Fiume vogliamo ci prefiggiamo per continuare a governare questa città quindi ovviamente il ragionamento di tutto il piano regolatore per noi è più che positivo e mi riserverò alla fine spero che non ci sia bisogno insomma ma di fare le dichiarazioni di voto però è ovviamente per noi un onore poter essere qui oggi a ragionare e a poi votare il piano regolatore grazie grazie consigliere prego consigliere salvatore silenzio silenzio grazie grazie presidente allora parto assessore poi mi rivolgo a lei oggi anche in una forma di interlocuzione quindi anche in quegli passaggi che magari potrebbero essere potrebbero essere di critica non lo sono ma in realtà è perché vorrei interloquire con lei allora c'è un io partirei da ciò che in realtà dalle stesse caratteristiche che avete evidenziato con i professionisti che a mio avviso fanno parte della parte culturale di questo o che potrebbero far parte della parte culturale di questo piano regolatore perché assessore io credo che un momento così importante qual è la presentazione l'adozione poi successivamente si vedrà l'approvazione di un piano regolatore deve essere anche un processo non solo partecipativo con la città ma poi anche culturale poi mi spiego come faccio una piccola proposta a riguardo ora è interessante perché se noi ragioniamo su due carte che hanno messo i professionisti ancora all'inizio che era la struttura sismica del territorio e la struttura idraulica del territorio hanno evidenziato in maniera palese dove siamo collocati noi con la nostra città ed è incredibile incredibile perché mi permette di aprire un ragionamento su due fattori che sono fondamentali il territorio e il suolo il territorio magari lo spiego meglio adesso il suolo poi lo riprenderò alla fine del discorso che per me sono due definizioni importantissime ora adesso un po' con il sindaco siamo dentro al consiglio provinciale alcune cose magari mi sono anche più chiare perché mi sono interessato in maniera diversa da quando facevo solo esclusivamente il consigliere comunale però una cosa interessante di questo territorio è capire l'olografia come si è formato ora se noi siamo in una pianura dalla quale è nata sostanzialmente attraverso l'erosione delle montagne e il trasporto delle acque noi capiamo che la nostra pianura è formata dalle acque delle nostre valli e capiamo che la nostra città in realtà è sorge dove riaffiorano le acque dopo un fenomeno di carsico dove l'acqua scorre sotto capiamo in che territorio siamo e qual è il passato gli errori commessi e quale strada dobbiamo prendere in sostanza nel futuro perché capiamo anche in maniera interessante peccato che poi tra l'altro anche l'occasione dell'expo non l'abbiamo sfruttato infatti io guardo anche il collega e il presidente della provincia in consiglio provinciale avremmo secondo me dovuto poter approfittare anche dell'occasione dell'expo per poter affrontare un discorso per quanto riguarda il territorio sotto l'aspetto culturale perché poi alla fine questo territorio è stato creato e formato lo satura da tutto il sistema idraulico di irrigazione che produce energia le dighe ma allo stesso tempo produce anche tutta quella parte che fa parte della filiera alimentare perché l'irrigazione e l'acqua per gli allevamenti ma anche per quanto riguarda chiaramente la coltivazione e quindi il cibo che noi intromettiamo poi nelle nostre bocche nasce da quel sistema di conformazione del territorio questo fa parte della cultura lo vedo abbastanza espresso da questo piano regolatore sarebbe bello poi la proposta nasce che anche nelle scuole attraverso questo piano regolatore assessore possa iniziare a esserci una proposta di educazione al territorio da parte di ragazzi perché altrimenti determinati tipi di scelte il perché non si costruisce determinate zone della città e perché si è costruito nel passato sbagliando nascono appunto anche da un processo formativo culturale quindi un invito che magari le posso fare nei prossimi mesi dopo l'adozione di questo piano regolatore poi c'è la parte culturale dopo la parte culturale io credo che è necessaria la parte politica allora noi siamo dei consiglieri comunali qualcuno di noi ha delle competenze per andare oltre la comprensione più specifica di questo piano regolatore io non sono fra quelli chiaramente quindi mi concentro sulla parte politica giustamente come faceva notare nel buon intervento il consigliere del Ben si è parlato da parte vostra non so se mi è sfuggito il passaggio però si è parlato di una piattaforma sulla quale poi il processo partecipativo deve sedimentarsi e costruirsi una sorta di work in progress di questo strumento va bene è uno strumento non è uno strumento però a mio avviso dovrebbe essere è un invito chiaramente il mio solo esclusivamente rivolto alla città ma io credo che debba rivolto essere anche alla parte politica della città e quindi alle amministrazioni di questa città perché è questa che fa la politica perché lasciare uno strumento in mano solo esclusivamente in una forma partecipativa ho la sensazione poi che si potrebbe fraintendere solo attraverso una partecipazione dei portatori di interessi io invece credo che la parte politica debba fare delle scelte perché la parte politica è quella che viene eletta ed è quella che tutela la parte democraticamente più debole della città perché noi dobbiamo attraverso delle scelte politiche indicare una traiettoria di secondo me una traiettoria che come dire produca anche stili di vita nuovi ed è qui la parte innovativa della politica perché questa è fare buona politica molto spesso lo sa insomma nel passato non non solo in questa città ma anche nel passato ci possono essere state dei frattentimenti di cosa possa essere la buona o la cattiva politica la buona politica è quella che suggerisce e determina gli stili di vita moderni per la sua cittadinanza perché rappresenta quella cittadinanza e non rappresenta soltanto i portatori di interessi quindi la politica a mio avviso è fondamentale in un piano in un piano regolatore perché deve fare delle scelte però chiaramente quello che io vorrei far emergere da questo dibattito è lo strumento piano regolatore in quale quadro di visione si inserisce lo dico per come la vediamo noi e come la vedo io io partirei dal macro che potrebbe sembrare lontano ma in realtà non lo è perché poi determina le scelte urbane e sociali di questa città allora siamo in un momento di crisi e la stiamo attraversando una cosa è interessante come si sta come dire formando la nuova geopolitica economica di questo territorio ma anche di questa Europa noi vediamo che i flussi economici ora sono solo esclusivamente e si stanno solo esclusivamente concentrando dentro delle aree metropolitane paradossalmente gli strumenti che noi adottiamo come nazione come Italia o come Germania o come Francia non siamo la Germania però purtroppo molto spesso utilizziamo strumenti a livello nazionale che sono completamente inutili cioè la politica economica estesa su un piano nazionale è totalmente inutile io non posso utilizzare lo strumento economico politico nell'area del nord Italia come se fosse il centro Italia o il sud Italia lo devo dire proprio con massimo laicismo in questo ma come anche non può essere adoperato lo stesso strumento politico economico che possa essere in Inghilterra ora perché ora le i ragionamenti si fanno sulle aree metropolitane vengo al dunque noi non potremo mai essere un'area metropolitana non lo potremo mai essere dobbiamo dircelo che la nostra strada non è creare un'area metropolitana noi dobbiamo organizzare e a ragione del ben un'area vasta organizzata area vasta è un'altra cosa da area metropolitana noi dovremmo cominciare a pensare al nostro futuro indicando e questo lo deve fare la politica è in questo che io vorrei sentire la politica dire in che quadro politico noi vogliamo inserire il piano regolatore perché noi dovremo agganciarci a un dei flussi principali delle aree metropolitane che a mio avviso non è Trieste bensì è Venezia perché storicamente noi siamo sempre stati un affluente commerciale di Venezia è lì la nostra storia è lì secondo me il nostro futuro se noi pensiamo questo e non cominciamo a pensare a strategie particolari a quel punto cominciamo a dire a eliminare alcune ipotesi che hanno posto sul piatto per esempio il consigliere Giannelli perché io non penso che questa città possa crescere a dismisura come lo si è pensato negli anni 70 noi dobbiamo cominciare a pensare che se vogliamo essere un'area vasta piccola e organizzata ma inserita in un contesto di un'area metropolitana dinamica quale secondo me sarà Venezia e per cultura noi siamo rivolti in quella cosa lì non possiamo pensare di costruire ipotesi urbanistiche che ha suggerito Giannelli perché noi non abbiamo quel tipo di atteggiamento noi pensiamo che non saremo molti di più di quelli che tutto sommato lei ha prospettato adesso non ricordo era il 57 sì era una sorta di 10% in più più o meno ma non ricordo bene quale fosse il lasso di tempo poi magari su questo le faccio anche le domande come ci si arriva a quella cosa lì però se noi indoviniamo e noi scegliamo questa strada noi scegliamo anche quale tipo di politica urbana considerare questo è il dove poi c'è il come con lo stesso ragionamento io posso pensare a ragione Pdcini in tutta la sua disamina per quanto riguarda come dire lui suggeriva in qualche maniera che la nostra futuro fosse l'innovazione legata all'economia è anche vero che noi abbiamo una idea di manifattura perché questa è quella che produce il reddito e non è il commercio che è un sistema di rimbalzo è la manifattura ma è una manifattura se volete chiamarla di quarta generazione di 2.0 come il caspita vi pare però sarà una manifattura legata altamente alla formazione e a degli addetti che non saranno quelli che sono adesso cioè mettiamocelo in testa non cresceranno le fabbriche in termini di addetti è inutile che ce la contiamo sta cosa qua la Zanussi o chi per essa non avrà più quei dipendenti li perderemo perché il tipo di struttura e la manifatturatura non permette a un altro numero di addetti cioè semmai non lo dico io lo dicono i rappresentanti nostri in regione sarà una manifattura che forse riuscirà a tenere gli addetti che sono adesso questo significa che è una città che non può crescere demograficamente in maniera esponenziale quindi dobbiamo capire qual è la nostra dimensione capita la nostra dimensione possiamo capire qual è la nostra strada da perseguire allora se io come dire immagino che questa è la nostra strada devo cominciare a immaginare quali sono anche i nostri valori urbani sul quale poggiare uno strumento qual è il piano regolatore è il primo per me è uno dei più importanti in assoluto ed è quello che secondo me una lista civica dovrebbe basare il proprio sistema di programma elettorale e la propria alleanza con chiunque se chiaramente il dibattito porterà a una programmazione condivisa è una valorizzazione degli spazi pubblici urbani pubblici questo perché vorremmo che gli spazi urbani pubblici diventino il punto di riferimento delle città perché quello che io temo in un momento di crisi che non è solo economica purtroppo perché poi quella economica porta anche quella sociale e anche di relazione io vorrei che i i punti urbani di riferimento quelli a spazio pubblico in qualche maniera rompano il rischio di quel analfabetismo che possa relativo alla vita collettiva cioè non vorrei che tornassimo a un analfabetismo di vita collettiva vorrei che i cittadini attraverso una pianificazione urbana vorrei che vorrei che gli spazi urbani consentano ai cittadini che ci vivono un senso di radicamento nuovo vorrei che favorissero un'aggregazione nuova sociale nuova vorrei che dessero ai cittadini un senso di appartenenza nuovo questa cosa qua io spero che la politica attraverso a questo punto lo strumento anche attraverso lo strumento del piano regolatore favorisse questo processo per noi questo è fondamentale nel successo che avrà questo piano regolatore perché una città va percepita come una casa la casa ha sempre le parti in se stessa integrate e che siano vissute nella sua completezza questo ci permette poi di fare un ragionamento anche per quanto riguarda il commercio e guardo l'assessore Zille perché un commercio alla quale noi dovremmo cominciare a auspicare di arrivare sarà quello che avrà un valore sociale più alto un commercio che si sviluppa nelle parti periferiche in un certo senso socialmente anche alienante non è quello che ci porta in questa direzione perché è un modello vecchio io vorrei un modello noi vorremmo un modello di commercio che favorisca l'aggregazione sociale e che sia quello più vicino più prossimo ai cittadini quello che favorisca l'aggregazione sociale all'interno dei borghi e del centro cittadino perché ripeto il commercio è un'economia di rimbalzo chi produce reddito è la manifattura che poi i soldi prodotti dal reddito e dalla manifattura producono anche un'economia di rimbalzo del commercio il commercio per come la vedo io non è un'economia un motore di reddito come lo è invece l'industria e la manifattura il secondo grande elemento secondo me programmatorio dovremmo avere come maggioranza e come centro-sinistra sarà basato invece sul valore che noi diamo all'ambiente in questo ho visto dei risultati estremamente positivi nelle auspici e lo spero che poi nei prossimi anni prendano forma ripeto ancora una volta attraverso le scelte politiche noi dovremmo pensare a un ambiente da tutelare da difendere e da vederlo anche in modo innovativo allora per come la riguarda se prima dicevamo che la città è una parte come dire complessa ma tutt'uno con delle parti tra di loro coordinate non possiamo pensare che lo spazio rurale quindi lo spazio ambientale come volete non sia coerente con quello urbano per fare questo dobbiamo mi pare che insomma le intenzioni ci sono cominciare a pensare di lasciare degli spazi vuoti sia nella parte urbana sia nella parte rurale a quel punto forse noi diamo una coerenza all'insieme che è formato da città urbana e città rurale mi piace anche l'idea che tutto sommato abbiamo anche condiviso assessore credo e si allaccia un po' anche il discorso di area vasta di conurbamento sarebbe bello che tutta quella sfrangiatura che negli ultimi 20-30 anni si è formata tra un'area urbana né un'altra cominciasse a contenersi ne parlammo dicemmo che sarebbe bello poter pensare a delle politiche e tutto sommato quello che lei mi pare di preveda all'interno dell'area della comina lo può in questo senso che se noi davvero stiamo pensando a delle uti stiamo pensando a degli agglomerati di area vasta anche sotto l'aspetto amministrativo lo possono essere anche sotto l'aspetto paesaggistico mi spiego sarebbe bello che la parte del governamento cordonese possa essere in un arco di 30-40 anni perché è questo chiaramente il limite di tempo che dobbiamo porci per un'idea del genere e che fosse circondata dallo spazio verde e che sia delimitata da un'altra area urbana che può essere quella di Maniaga o piuttosto quella della bassa quindi possiamo pensare a San Vito Aziano che siano circondate dalle aree verdi questo succede in altri paesi perché la programmazione e la pianificazione e ha ragione lei ieri quando io e lei discutevamo della valenza e dell'utilità o meno di un piano regolatore ha ragione lei serve anche in un periodo di non espansione poi ci ho riflettuto stanotte perché rinunciare alla pianificazione è sbagliato perché altrimenti questi ragionamenti qua portano poi a negare quegli errori che il passato abbiamo fatto quindi sotto l'aspetto dell'ambiente noi dobbiamo pensare che sia parte integrante del nostro paesaggio anche mentale e urbano e anche sotto l'aspetto innovativo perché qualcuno ieri dei tecnici parlava che noi già produciamo un kilowatt se non ricordo male ho letto in qualche documento che noi abbiamo consegnato in regione abbiamo una potenzialità di 6 megawatt sbaglio qualcosa del genere il megawatt è prodotto solo dai privati se non sbaglio per significare il suo collega mi piacerebbe che fosse la parte pubblica che inizia a pensare alla produzione di energia noi abbiamo due gioielli sotto l'aspetto amministrativo abbiamo le due partecipate che sono già idrogea non posso non pensare che in un futuro idrogea non veda tra le sue missioni le sue valutazioni di investimento la produzione di energia elettrica quindi come parte pubblica tra virgolette in questo senso se noi pensiamo che l'ambiente in qualche modo possa essere il nostro motore di programmazione politica i corridoi tutte i tre di union del verde che lei ha prospettato vanno in questa direzione e c'è un aspetto quello ambientale che è molto suggestivo spero davvero che porti alla sua realizzazione chiudo chiudo chiedendole facendole delle domande vorrei ho delle considerazioni ieri Giannelli in maniera molto spiccia ma comprensibile ha dato il valore di un metro quadro di suolo edificato questo ha un valore 100 vai te lo pagano eccetera per la comunità quindi per l'amministrazione ha un valore che può essere relativo all'urbanizzazione una volta edificato ecco mi chiedo in questa prospettiva del 10% più o meno di aumento demografico che peso non in termini di rendita cioè questo 10% nasce da quali politiche nasce da un politica legata semplicemente alla produzione di una nuova costruzione se sì che peso ha poi nella comunità perché credo che il valore di un metro cubo edificabile di un metro quadro edificabile non sia legato soltanto alla rendita oppure all'ordine di urbanizzazione c'è anche un peso complessivo un costo complessivo che ha ovvero che tipo di le acque che tipo di reflusso hanno in questo termine una volta edificato che inquinamento cioè il peso di un metro quadro di costruzione non è legato semplicemente all'euro ma è legato anche al peso che ha in termini ambientali ma anche in termini di plus valore sociale vorrei capire se quel metro quadro quale plus valore ha in termini sociali e quale peso può avere nell'ottica dell'aumento demografico del 10% invece nella collettività grazie grazie consigliere del santo prego grazie presidente io prima di iniziare il mio pur breve intervento volevo fare una considerazione perché talvolta mi pare di quanto sento una parte devo dire non tutta una parte della minoranza dell'opposizione parlare mi pare di sentire che stiamo discutendo su fronti di città diverse non mi ci ritrovo vi leggo un paio di righe non di più dell'articolo apparso oggi sul messaggero veneto non è la bibbia ma teniamolo buono sto parlando solo di numeri due righe quindi non vi porto via non vi rubo il piano regolatore è pensato per una città di poco più grande rispetto ad oggi 57.400 rispetto ai 52.000 attuali qualche parametro per dare una forma alla futura qualità della vita per l'assistenza sanitaria lo standard minimo è di 3 metri quadri per persona a Pordenone sarà di 3,89 30% in più culto e cultura 8,03 a Pordenone contro una media nazionale del 3 sono parametri attrezzature per istruzione 4,6 so che non ti interessa queste cose ti interessano poco tu pensi a cose molto più sostanziali ma mi fa piacere che stai molto attento quando parlo con i tuoi colleghi visto che protesti sempre mi rivolgo a te sai attrezzature per l'istruzione 4,06 contro il 3,5 quindi un 20% in più rispetto alla media nazionale per il verde sport e spettacoli il parametro porta a un 26,14 contro il 15 nazionale per la viabilità e i parcheggi siamo al 7,97 contro il 3,5 della media nazionale lo standard totale che poi in realtà è un numero che è un solo un parametro non so se sia ponderato o assoluto ma comunque poco importa ci dà comunque la dimensione del problema Pordenone è a 50,13 contro il parametro nazionale del 28 ecco io invito i colleghi dell'opposizione a parlare lo stesso linguaggio qualche volta che mi sembra che stiamo parlando quando li ascolto mi sembra che stiamo parlando delle favelas di Rio o di Lima senza nulla togliere al Brasile e al Peru forse mi ripeterò perché evidentemente mi hanno già preceduto alcuni colleghi che con noi concorrono alla gestione della città in particolare mi faccio riferimento a quando ha detto ieri sera il collega Franchin e quello che abbiamo sentito poco fa da Bianchini ripeterò alcuni dei loro concetti ma abbiate pazienza comunque tenterò di essere breve a me hanno insegnato fino alla nausea che il meglio è nemico del bene questo per dire che se pretendiamo di fare sempre le cose al meglio non faremo mai nulla perché c'è sempre la possibilità di fare meglio è evidente ed evidentissimo che questo piano regolatore di cui stiamo discutendo poteva essere fatto meglio io noi lo consideriamo un ottimo piano regolatore non proporre buone voli pindarici io ringrazio l'amico Francesco che ci ha fatto un po' volare alto ieri sera anche se non ho condiviso ho condiviso molto bene e devo dire sono stato molto attento alla tua parte iniziale hai citato alcune tutta una serie di situazioni che non solo erano ben comprensibili ma per quanto mi riguarda erano anche condivisibili salvo poi così proporci un volo strano un pensiero secondo me è irrealizzabile io forse questa è una mia deviazione professionale per 35 anni ho fatto l'imprenditore e non posso che essere basare alla concretezza quello che è facilmente attuabile certamente un progetto di questo genere che è un progetto di lungo periodo deve porsi obiettivi lungimiranti però non può che essere figlio del suo tempo cioè io ricordo lo scorso piano regolatore il passato l'attuale piano regolatore quello vigente è stato votato nell'86 io sono uscito da mamma Zanussi così come la chiamavamo noi amore ugualmente all'epoca nel 1984 erano gli anni in cui stavano progettando e realizzando e concretizzando il piano regolatore che poi è stato votato nel 1986 17.000 eravamo a Pordenone nell'Interland 17.000 oggi stiamo discutendo per salvare 170 posti in più o in meno nell'attuale Electrolux 17.000 quello era il sogno ragazzi è un sogno che non esiste più poi cos'è successo? e beh ha governato qualcuno che ci ha detto che i ristoranti erano sempre pieni e anche i voli per andare in vacanza erano sempre pieni per 20 anni non so scusate la deviazione dico che il figlio sono assolutamente d'accordo nel pensare che un progetto di questo genere deve avere lungimiranza però non può tenere conto non tenere conto di otto anni di situazione economica del tipo con cui stiamo vivendo io credo che meriterebbe anche se non fa parte dell'argomento e non lo farò ma meriterebbe fare un accenno a quello che è successo domenica in Grecia io razionalmente avrei votato per il sì domenica in Grecia ma il cuore mi dice meno male che hanno vinto il no ma devo dire io avrei votato per il sì domenica in Grecia ma meno male che hanno vinto il no ma qui chiudo perché voglio dire oggi la situazione è talmente complicata che pensare di mantenere modelli con cui abbiamo volato alto negli anni passati negli anni 80 90 non è più fattibile ora questo non è che non significa e non voglio ben lungi da pensare che il piano regolatore che stiamo discutendo e spero approvando sia un piano regolatore modesto tutt'altro io non sono un tecnico quindi non mi addentro a valutazioni per me ostiche dal punto di vista dei tecnicismi contenuti però mi fermo ad alcune valutazioni di quella che è stata chiamata la macrogriglia cioè gli elementi essenziali che caratterizzano questo nuovo progetto che in particolare sono due dal mio punto di vista la tutela del territorio e la sostenibilità ambientale economica e sociale io credo che queste siano le due caratteristiche essenziali di questo nuovo progetto ritrovo all'interno di questo progetto che è stato presentato ieri tutta una serie di elementi che hanno costituito le nostre richieste le richieste della maggioranza ci siamo visti più volte abbiamo discorso abbiamo anche pure litigato in alcune situazioni e perché no li abbiamo dibattuti a lungo in particolare mi riferisco e vado rapidissimamente a concludere no al consumo del suolo questo non significa magari io personalmente sarei stato a cubi zero ma mi dicono che non si può ma io sono sempre stato un po' estremista in questo quindi ho dovuto accettare un compromesso a malincuore devo dire però no consumo di suolo credo che sia già una grande conquista le aree di riequilibrio al nord del nostro comune quindi aree particolarmente pregnanti e di grande valenza dal punto di vista ecologico facili da penetrare quindi dobbiamo preservarli dall'inquinamento le aree di mitigazione del sud tutta la zona del Pai l'amico Elio a Borgomeduna sa che cosa significa quando il fiume monta il sistema ecotecnologico al centro quindi l'ipotesi di una strutturazione e di uno sviluppo diverso e di uno sfruttamento diverso delle aree centrali di Pordenone ma anche le aree di protezione ecologica lunghe le arterie di grande comunicazione noi secondo me in questo momento ancora oggi fino ad ora almeno non abbiamo dato risalto a questo aspetto che considero un elemento qualificante di questa cosa è una piccola cosa ma è di grande attenzione quindi il fatto di prevedere di progettare ipotizzare un'area circostante perimetrica scusatemi lungo il percorso delle grandi vie di comunicazione dove nel proseguio negli anni andremo a costruire delle barriere ecologiche quindi delle alberature eccetera lo considero davvero una visione attenta verso i bisogni della città abbiamo ripetuto più volte questi corridoi ecologici nord-sud quindi la presenza di aree di modalità di rispetto decisamente importanti beh ho ritrovato e risento all'interno di questo grande progetto il ripetersi di tutta una serie di richieste che ribadisco avevamo fatto non prevedere nuovi ambiti di espansione nuovi ambiti di espansione non prevedere l'espansione riduce gli ambiti precedenti esistenti quindi mi sono fatto dare un dato prima sono 246.000 i cubi edificabili in meno rispetto nell'area di espansione rispetto al precedente piano regolatore seleziona gli interventi all'interno degli ambiti esistenti quindi evidentemente all'interno degli ambiti sono state identificate delle aree specifiche dove si possono fare o non si possono fare determinate cose ritroviamo e qui finisco le parole che secondo me qualificano questo tipo di progetto la rigenerazione delle aree degli edifici la riqualificazione la perequazione la compensazione sono tutte terminologie molto burocratiche se mi permettete ma inesistenti totalmente non presenti nei precedenti documenti guardate che è un grande passo avanti non è semplicemente un fatto semantico o l'utilizzo di un vocabolario ricordiamoci le queste parole rigenerazione riqualificazione perequazione e compensazione sono termini non presenti nel precedente non importa non importa io vorrei che qualcuno fosse capace di fare passi avanti altrettanto grandi in altre situazioni calma e gesso grazie grazie consigliere del santo consigliere Cardin prego grazie presidente devo fare un intervento da opposizione perché oggi devo dire che l'opposizione è stata a dir poco affettuosa con l'assessore con l'amministrazione non ho sentito alcuna vera e precisa critica a questo piano regolatore e non ce ne saranno nemmeno da parte mia per quanto riguarda l'aspetto tecnico del resto i professionisti erano di altissimo livello sono stati scelti in maniera trasparente hanno elaborato un progetto che di tutta evidenza è un progetto fatto in maniera accurata e precisa io preferisco soffermarmi quindi sull'aspetto politico su quella che è stata l'introduzione del sindaco e su quella che è stata l'introduzione dell'assessore Toffolo perché è lì che si sono delineate le linee politiche a mio parere credo che sia stato questo le linee politiche di questo piano regolatore e sono proprio su quelle linee politiche che io non posso dare la mia totale condivisione mi sono appuntata le parole del sindaco che sono parole che magari possono essere apprezzabili per certi versi il sindaco ci ha detto la scelta politica mia è stata quella di affiancare al progetto gli studi della città e dell'ambiente un approccio ingegneristico da subito è stato chiaro che questo sarebbe stato un piano ineccepibile sul piano astratto perché sul piano astratto questo piano è davvero ineccepibile ma non sempre l'astratto il tecnico coincidono con le reali esigenze di una specifica città io ci tengo a fare un esempio che è un esempio banale ma che non posso non fare soprattutto dopo l'intervento del consigliere del santo che ha detto una cosa molto importante ma che di nuovo ci riporta a un esame delle carte e non a un esame della realtà gli studi sono importanti sono fondamentali questi sono stati fatti con enorme precisione ma vanno contestualizzati mi ha molto colpito per esempio quando l'architetto ha detto che Pordenone è ai primi posti nelle classifiche italiane come città verdi e poi comunque viene percepita come una città poco verde allora qual è stato il correttivo adottato dall'architetto qual è il correttivo che viene adottato dall'architetto perché è un architetto e adotta un correttivo che può essere adottato in qualunque città che viene percepita come poco verde il correttivo è creare corridoi ecologici urbani ed è un correttivo perfetto che va bene in qualunque città se una città viene percepita con poco verde questo è un correttivo perfetto ma mi chiedo i professionisti si sono chiesti perché questa città era percepita come poco verde se lo sono chiesti si sono risposti voglio farvi un esempio lo ripeto banale tra tutti andate in via Cristoforo Colombo chiedete agli abitanti che hanno i giardinetti dietro il palazzo se ritengono di avere molti spazi verdi dove portare i bambini perché il consigliere Bianchini ha detto che questa amministrazione è molto importante è a molta cura è a molto interesse per i bambini bene chiedetegli chiedete a queste persone se percepiscono spazi verdi intorno a loro perché la realtà è che gli spazi verdi i parchi dagli anni 70 sono cresciuti numericamente ma perché non vengono percepiti perché non sono fruibili e quando uno spazio verde smette di essere fruibile la gente se ne dimentica e smette di percepire gli spazi verdi intorno a sé esclusivamente perché quegli spazi verdi non sono fruibili non è importante sempre e solo creare un corridoio urbanistico è importante che la città possa fruire dei propri spazi in maniera adeguata come faceva anni fa e questo è il primo aspetto che voglio sottolineare quindi benissimo gli studi perfetti studi approfonditi però questi studi vanno contestualizzati nella realtà ed è una cosa che non possono fare i professionisti è una cosa che deve fare il politico la parte politica io capisco che l'assessore Toffolo ha una deformazione professionale invincibile perché l'assessore Toffolo è un architetto e avrà sempre l'approccio di un architetto ma l'amministrazione non è composta da architetti e una linea politica andava individuata mentre io invece qui la linea politica sinceramente non la vedo l'assessore Toffolo ha detto il piano deve occuparsi della dinamicità del domani e il tecnico l'architetto al quale faccio i miei complimenti perché come si fa a non fare i complimenti per un lavoro di questo tipo il tecnico ha detto vi chiedo scusa se leggo ma l'ho appuntato dopo un secolo nel quale la città è stata costretta ora è libera di scegliere come vuole costruire la città l'architetto ci presenta un foglio bianco un foglio bianco nel quale noi abbiamo la possibilità di costruire non c'è progettualità in questo piano ci sono delle linee politiche dei principi che sono stati enunciati dal sindaco e come si fa a non condividere queste linee politiche come si fa a non condividere smettere di consumare il suolo sono dieci anni quindici anni che lo diciamo e che altro suolo si potrà mai consumare e dove altro vorreste costruire abbiamo costruito io compresa perché c'ero e mi assumo le responsabilità di quello che è stato fatto nella passata amministrazione le delibere a parte quella del raddoppio del meduna che mi sono rifiutata pur essendo in maggioranza di votare le delibere le ho votate anche io e ho la corresponsabilità di quello che è stato lo sfruttamento di questo territorio e quindi come si fa come si fa a non condividere smettere di consumare il suolo come si fa a non condividere una linea che dice il recupero dell'esistente recepire la progettualità della città rigenerazione riqualificazione urbana chi mai di noi potrebbe non condividere questi principi sono principi base elementari sui quali vanno costruiti tutti i piani regolatori perché quasi tutte le città hanno sfruttato in maniera indiscriminata il loro suolo in particolare le città industriali come la nostra questo piano regolatore andrebbe bene in centinaia di città non solo a Pordenone che ricadute avrà all'atto pratico questa linea politica che voi queste linee politiche che voi avrete tracciato io pensavo banalmente ma evidente inconsapevolmente perché per mia ignoranza pensavo che la città l'avreste pensata voi non avevo mai pensato che ci avreste dato un foglio bianco da riempire ho banalmente pensato che l'amministrazione avrebbe disegnato una città avrebbe risposto alle esigenze di una città che chiede di essere guidata lo chiede chiede che un'amministrazione eletta prenda una decisione io concordo sul fatto che le scelte politiche sono complicate e portano a vincoli scegliere di fare di Pordenone una città industriale ha creato un vincolo enorme e forse è una scelta che a posteriori si è rivelata sbagliata o che adesso è anacronistica o poteva essere fatta una scelta diversa è stata una scelta politica giusta o sbagliata che sia allora l'educazione è l'educazione alla politica a fare scelte giuste e consapevoli con gli strumenti che noi abbiamo perché la politica è importante dobbiamo smetterla di pensare che solo i tecnici possono risolvere i nostri problemi non è giusto io quando ho letto la riforma delle province quando ho letto la creazione delle UTI che vanno ad abolire la politica ma voi credete davvero che un'assemblea di sindaci di colori diversi saprà dare una direzione politica voi davvero pensate questo voi davvero pensate che una provincia senza un organo politico perché quello che c'è adesso non è un organo politico e siccome ne faccio parte posso dirlo con grande coscienza ecco questo non è un organo politico non ce l'ha un organo politico perché tutte le riforme tendono ad abolire la politica è stata una pessima politica quella degli ultimi anni può darsi come ci sono pessimi avvocati e pessimi medici ma questo non significa che vanno eliminati né uno né l'altro devo ho ancora un paio di appunti Pordenone è una città a mio parere per quella che è la mia sensazione con quartieri che non comunicano tra di loro non so quando sia successo non ho coscienza di quando sia successo che la città si è spezzettata in quartieri per cui Borgo Meduna sembra che con il quartiere di Torre possano essere come New York e la South Carolina ecco non ho la più palida idea di quando sia successo che la città si è spezzettata in questo modo però i quartieri non comunicano tra di loro è stata una scelta politica io questo non lo so non so se è stato voluto se è voluto bene così se non è stato voluto vi chiedo nel piano avete individuato dei correttivi vi chiedo via Cappuccini non è la strada del quartiere Cappuccini via Cappuccini è la strada che collega Pordenone a Porcia non è null'altro che questa sì certo la vivono anche gli abitanti di via Cappuccini ma in maniera del tutto marginale rispetto a quanto la vivono coloro che la usano per arrivare a Porcia bene Piale Marconi è diventata una circonvallazione e cosa nota voi mi risponderete se io vi chiedo se il piano regolatore ha adottato dei correttivi voi mi risponderete li trovi nel Pums perché e mi direte che è una grande fortuna come ha detto l'assessore Toffolo che tutti i piani vengano approvati nel medesimo momento però guardate io c'ero in commissione quando è stato presentato il Pums ma non c'è nessuna di queste risposte non c'è assolutamente nessuna di queste risposte non c'è la risposta che io chiedevo di fare in modo che le strade di Pordenone non fossero unicamente interpretate come strade di passaggio per quanto riguarda quindi le enunciazioni di principio del piano nulla a question cioè come si potrebbe dire qualche cosa e nei nuovi insediamenti vanno previste le aree verdi ci deve essere coesione sociale le emissioni basse e chi mai potrebbe dire di no ma che cosa c'è in questo piano che rende Pordenone una città diversa dalle altre che cosa c'è che crea quelle condizioni che Pedicini diceva al consigliere Pedicini per un nuovo sviluppo della città che cosa c'è di così tipico della nostra città che cosa ha questo piano che non possa essere applicato anche in tutte le altre città da ultimo solo un brevissimo piccolissimo appunto sul processo partecipativo qui non c'è stata alcuna partecipazione e mi dispiace che non ci sia stata la partecipazione non è invitare la gente a partecipare la partecipazione magari ci fosse stata consigliere Franchin lei si poneva uno scrupolo che non doveva porsi perché la partecipazione è bellissima quando c'è e non sgrava per nulla l'amministrazione anzi la rafforza il problema è che qui la partecipazione non c'è stata perché la partecipazione non è invitare la gente a partecipare è riuscire a coinvolgerla che è un'operazione estremamente difficile estremamente laboriosa ed estremamente faticosa in una città come Pordenone infinitamente di più che dalle altre parti perché noi pordenonesi siamo così questa è la nostra peculiarità e questa cosa andava tenuta in debita considerazione soprattutto quando si parlava di partecipazione perché questo è un piano regolatore che disegnerà che doveva disegnare la nostra città e che andava studiato a mio parere in maniera completamente diversa grazie grazie consigliere consigliere Piva prego ecco sì grazie presidente ecco io il mio intervento diciamo che va un po' al di fuori dei binari che abbiamo sentito fino adesso a me piace che ci sia la politica che possa determinare certe situazioni ma di sola politica non è che si possa andare molto lontani credo che bisogna dare diciamo anche spazio al buonsenso e alla logica di operatività cioè dopo 30 anni questa amministrazione si mette in testa di cambiare il piano regolatore che è un'iniziativa forte soprattutto fatta in un momento in cui se vogliamo definirla momento politico non è proprio il massimo perché crea sicuramente degli scompensi e può dare determinate conseguenze per cui il fatto di averlo voluto e portato avanti credo che da parte di un'amministrazione conscia che c'era l'esigenza di cambiare questo nostro piano regolatore perché ovviamente sicurezze del suolo mancavano cioè noi in questo momento abbiamo fatto fare a questi tecnici una panoramica completa di quello che è lo stato del sottosuolo di Pordenone abbiamo visto dove ci sono fatti critici di possibili movimenti sismici cioè in pratica abbiamo voluto avere bene in evidenza la situazione del sottosuolo che in questo modo da modo di portare costruire di fare qualcosa senza incorrere in pericoli imprevisti questo è già un buon motivo di soddisfazione oltretutto dopo 30 anni credo che questo consiglio oggi si appresti a licenziare un'iniziativa molto importante e quindi stiamo per scrivere un po' una pagina importante del comune di Pordenone il nuovo piano regolatore insomma il piano regolatore è sempre qualcosa che dà una certezza muove un traino da un polmone da un respiro lungo alla città e tiene molto in considerazione il fatto del verde volevo rispondere un attimo alla Francesca Cardin che ha diciamo così fatto notare che abbiamo punti verdi in cui però non vengono utilizzati dai ragazzini ma non è colpa dei ragazzini sicuramente è colpa dei genitori che non si fidano a portare i ragazzini nei cortili nei punti verdi perché è una mentalità così diffusa questa che permette o non permette di sfruttare questi piccoli parchi queste aree verdi che invece sarebbero un polmone un respiro molto importante per i cittadini insomma io credo che il lavoro fatto dai tecnici diciamo con l'incarico avuto dall'amministrazione sia un lavoro importante bisogna dare anche atto e merito che hanno fatto un ottimo lavoro con coscienza e soprattutto con veramente conoscenza profonda di quella che era la materia che sono andati a studiare insomma ecco credo che dare a città ai cittadini un nuovo modello di comfort del piano regolatore cioè modificare quella che potrebbe essere una viabilità un parco o qualcosa sia importante fondamentale perché noi dobbiamo tenere presente che dobbiamo dare delle risposte ai cittadini cioè a livello politico si parla di questo però noi abbiamo bisogno di dare non incertezze future ma certezze reali ai cittadini e questo piano regolatore per almeno a mio avviso è un passo importante verso questa situazione cioè noi dobbiamo dire far dire ai cittadini che abbiamo dato e stiamo dando un modo corretto di vivibilità alla città pertanto non voglio fare ragionamenti politici però credo che sia importante che questo vada avanti e che possa dare i frutti il più presto possibile grazie grazie consigliere Piva consigliere Dalmas prego resterò pochissimo la cedo a Giannelli si può? cioè facciamo un'applicazione del nuovo piano regolatore così a livello di regolamento consigliare mi spiace con l'amica Cardin ma non sono riuscito a sentire tutto il suo intervento mi dicono che abbia detto cose interessanti e la cosa di per sé non mi stupisce né mi stupirebbe sì anch'io ho sentito una parte cioè non si può non essere avevo degli appunti ma non li seguo ecco non si può non essere d'accordo rispetto ad una serie di principi insomma che avete enunciato sono contenuti nel piano che sono stati esplicitati ieri in modo con profonde argomentazioni e anche con convinzione dall'architetto Giuliani perché a un certo punto ha preso in mano la cosa e ha detto città di Pordenone voi che dovete fare il piano lavoratore voi che siete i decisori dovete un po' decidere che cosa volete e quindi noi vi proponiamo questo modello che ha delle invarianti descritte chiaramente nel piano che sono la sicurezza del territorio il non consumo di suolo e la valorizzazione del verde dal punto di vista non più come immagine del parco dove si incontra lo scrittore fordano pochi di verità ogni tanto Gianmarco Villalta che ne so abbiamo anche noi qualcosa di contemporaneo di attuale e insomma tutto questo verde che abbiamo va valorizzato perché attraverso una insomma siete anche bravi a scrivere queste cose devo dire perché effettivamente c'è mestiere c'è studio c'è impegno e la vostra squadra ha fatto bella figura ieri e quindi Francesca Caldin ha ragione non si può non essere d'accordo sul fatto che non si consuma suolo che vogliamo tutti vivere in un ambiente più pulito con il verde dovunque era un po' l'idea di Zanolin questa no? Zanolin non aveva fatto un convegno tempo fa anzi ero un suo contraddittore mi ricordo al Verdi in cui sosteneva che il verde è il connettivo per eccellenza il verde è il connettivo è bello il verde tutti possiamo poi ti dà una noia terribile perché il verde forse piace ai padani ma insomma insomma e allora in quell'occasione mi spiace che non ci sia e in quell'occasione però Zanolin aveva scritto anche un libro addirittura perché Pordenone è una città di scrittori città di scrittori anche di me non scrive libri infatti io Giannelli gli dico sempre scrivi un libro cioè e la pianificazione ecco la domanda la pianificazione può pianificare le variabili dell'uomo dei suoi comportamenti no ieri avevamo l'opportunità caro signor presidente di ascoltare un architetto che piaccia o no qualche segno l'ha lasciato in questa città e non gli abbiamo dato la possibilità di portare a compimento il suo ragionamento era un momento insomma che andava anche visto il modo il suo il modo in cui si è posto avete fatto un lavoro che dal punto di vista procedurale dal punto di vista metodologico e dal punto di vista di alcune scelte di principio non posso che essere d'accordo e gli abbiamo detto 30 minuti sono pochi non puoi andare avanti anche se puoi pensare immaginare una città che va un po' più in là no però allora devi fare un libro devi fare un libro perché rispetto a questo ecco noi anzi voi voi dove è il sindaco? è là pensate oggi in questi giorni tra l'altro luglio in un caldo infernale di portare al termine della vostra amministrazione dopo mi concentro sul suo operato pensate di portare al termine della vostra amministrazione un atto importante perché normalmente i piani regolatori hanno gli atti straordinari importanti dell'amministrazione comunale e lo fate in zona Cesarini avete iniziato questo dibattito questo percorso la portare partecipata il contenitore la portare più facile e tutte queste cose che sono scritte io sono individualista quindi non mi piace la partecipazione cioè è una cosa che non riesco dopo vi dirò dove sbaglia la vostra cultura che guarda il cashmere guarda il PAIR ma ragiona in termini di cashmere e dopo te lo spiego sindaco perché alla base del ecco facciamo le cose condivisibili sì sì è tutto lì è tutto lì perché l'ha spiegato bene lui cosa 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 in mente e cosa avete in mente più di quanto lei assessora avrebbe potuto fare ieri avete in mente una città che non è aderente ai pordenonesi che non ci appartiene avete in mente una città che non è collocata nella quale crisi economica potentissima che esiste in questa città lo dite e dite che probabilmente non c'è via d'uscita perché l'architetto Giuliani sa benissimo che l'urbanistica senza finanziamenti pubblici non serve a nulla può fare ben poco può fare ben poco perché mi consta invece che solo il privato solo l'impresa che noi conosciamo storicamente per come si è messa e come ha realizzato questa città che è nata dopo uno sviluppo economico dovuto ad un insediamento straordinario che è stata l'esperienza di Zanussi e da lì è nato tutto il resto nasce non perché il pubblico interviene sui tuoi stili di vita sulla qualità e ci dice cosa è giusto cosa è sbagliato è chiaro oggi abbiamo raggiunto una certa idea anche una certa raffinatezza nei comportamenti per cui sappiamo distinguere ciò che è nocivo altamente nocivo da ciò che non lo è e abbiamo un'idea degli stili di vita ma sappiamo benissimo che senza risorse non possiamo che fare opere di urbanizzazione primaria perché questo oggi fanno le amministrazioni e quindi che cosa deve fare il pubblico le infrastrutture e il privato interviene quello che cercava ieri di spiegare Giannelli nell'esempio del suo intervento alla fine se il privato non interviene non dà impulso la città non cresce ma non cresce neanche come pensate voi secondo me e non perché non siano affascinanti le idee che avete messo in campo perché questa idea che i volumi girano che i diritti decollano poi dove atterreranno non si sa in che modo atterreranno questo è complicato allora signor sindaco che si mette alla mia destra perché voi siete una sinistra in cashmere e non in pile perché dite di agire per togliere le rendite ma avete in testa solo le rendite per chi entra nel gioco dei volumi chi non ha non c'entrerà mai questo è il punto questo è il punto non ci sono altre questioni io capisco che per contenere il consumo di suolo vorremmo una città rigenerata dal punto di vista degli edifici allora il piano casa di Berlusconi fa schifo non funziona questo nella pratica non ha funzionato tanto e tanto finirà nel 2017 se non verrà rinnovato poi entrerà in vigore il piano urbanistico il piano generale regolatore che darà un incremento di volumetria sostanzialmente a chi rigenera ma chi lo fa quali risorse per cui se il piano offre una possibilità indica una piattaforma come ha detto l'assessore ma resterà tale quindi il rischio che queste buone idee buone intenzioni anche siano in realtà possano diventare una cosa a fine se stessa scritta in bella forma imbellettata come direbbe Ferrara imbellettata ma nella sostanza nella pratica di difficile applicazione e come non comprende ho tempo ho tempo Ramores come restare colpiti positivamente anche da questo gioco dei vuoti e dei pieni che fate abilmente cioè recuperiamo il vuoto perché la città deve essere ricucita deve essere rimessa in sintonia occupiamoci degli spazi vuoti il pieno si rigenera e gli spazi vuoti invece saranno lì l'insediamento della nuova città cioè andranno a completare chi era Renzo Piano che diceva che le città crescono per implosione non più per esplosione dobbiamo farle implodere però questa idea di riempire i vuoti è l'idea secondo la quale si cresce per non per addizione ma per sottrazione e questo mi richiama qualche teorico di un certo modo di pensare secondo non so perché anche oggi a te piace la decrescita e lo hai fatto capire quando hai detto che fortunatamente non ci sarà una colata di cemento in comina e quando qui si è presentato il comitato contro l'ospedale in comina si rifaceva l'idea della decrescita felice io dico infelice ma una banalità arrogante la mia una decrescita secondo la quale lasciamo tutto così com'è tutto ci serve tutto basta e quindi non aumentiamo consumiamo solo siamo dei terroristi se consumiamo solo quindi ma fatto sta e qui è l'aspetto veramente singolare signor sindaco che quando lei è diventato sindaco di questa città aveva un predecessore che si chiamava Sergio Bozzonello il quale non aveva la sua idea e questi signori qui davanti del fiume probabilmente nemmeno sapevano di che cosa si sarebbero trovati di lì a qualche anno a discutere cioè questo che voi scrivete oggi non l'avete indicato nel programma elettorale perché non avreste potuto farlo semplicemente perché Bozzonello ha chiuso i suoi dieci anni con la variante 77 che dice esattamente il contrario di quello che stiamo dicendo noi oggi voi dovete intervenire per bloccare lei che la continuità amministrativa politica improvvisamente cambia idea e oggi si ripropone con questa necessità che è quella di tornare indietro rispetto alla variante di Bozzonello che era un piano regolatore di fatto che diceva comunque possiamo continuare ad andare avanti che comunque aveva immaginato a nord determinate cose aveva immaginato e penso che oggi il lavoro degli illustri professionisti che abbiamo avuto sarebbe stato facilitato perché si sarebbe trovato finalmente senza quella quinta che ha impedito lo sviluppo di questa città cioè la zona migliore che la zona nord mentre abbiamo edificato solo nella zona esondabile e questo l'aspetto chi è stato la causa del problema vuole essere anche la soluzione perché nei fatti è così siete praticamente stati abili nel riuscire a passare come innovatori mentre non lo siete affatto voi siete l'espressione di una sinistra che non sa assolutamente e non concepisce perché non conosce perché ne è distante ne è distante dai suoi cittadini da come vivono i portenonesi dalla crisi che abbiamo anche se nella relazione di piano sull'aspetto economico le parole che hanno usato qui dentro sono assolutamente veritiere anzi di una durezza implacabile io se fossi stato al vostro posto non mi sarei imbarcato in questa avventura signor sindaco lei doveva aspettare le prossime elezioni e di indicare lì la città perché oggi sarà responsabile di una scelta che è quella non di migliorare la vita dei cittadini ma di una scelta che andrà sicuramente ad interessare aspetti non secondari della vita di questa città di chi ha volontà di intrapresa di chi vuole o vorrebbe o penserebbe forse semmai di investire voi immaginate una città di ricchi immaginate una città di ricchi voi siete fuori completamente dal mondo siete completamente fuori dal mondo perché chi vi dà il 30% di volume per investire per ricostruire per rigenerare oggi appartenete alla stessa maggioranza che pensa di dilapidare le risorse regionali dando agli immigrati o coloro che sono qui da 12 mesi in questa regione 500 euro al mese e pensate di condizionare lo sviluppo della città per i prossimi anni questo da lei il sindaco non me lo sarei aspettato perché la considero persona corretta non aveva il diritto non aveva il diritto di portare un piano regolatore colui il quale è l'espressione e la continuità politica amministrativa del predecessore che in dieci anni ha prodotto una variante che dice l'esatto contrario di quello che avete detto adesso non c'è coerenza in quello che fate altro che vision asset sono tutte belle cose la verità è che voi avete agito lei in particolare agito per sottrazione agito per sottrazione la responsabilità la porterà perché non avremo un nuovo ospedale pronto prima del 2015 2025 scusi perché mancano 50 milioni di euro a quell'appuntamento perché il carcere non rimarrà qui non perché noi vogliamo la gente in carcere perché era una parte della cultura della complessità di questa città perché chiediamo perché chiediamo le tasse per far funzionare un sistema complesso dove in questa città che è il capoluogo di provincia ci sta il tribunale ci stanno gli ospedali ci stanno gli uffici dello Stato dove la gente non vive più perché costa troppo e va fuori ma sostanzialmente ha questi servizi e viene qui a lavorare tenete fermo il dibattito politico per la chiusura della riverasca per 15 giorni ma chiudete queste sono sciocchezze ma nessuno di voi ha mai visto come vive la gente quando arriva a Pordenone le 8 di mattina fate un giro in fiera vedete quanto ci impiegano ad arrivare e qualcuno pensa anche di chiudere la riverasca ma voi non appartenete a Pordenone voi siete degli allievi cioè non ci state proprio con la testa e allora lei toglie l'ospedale in comina che voleva il suo predecessore partecipa agli atti amministrativi che si chiamava accordo di programma per fare no perché questo io lo ricorderò fino a quando resterò qui ancora per poco lo ricorderò sempre questo lei ha sottratto esattamente un investimento di 200 milioni di euro 850 di canoni di urbanizzazione che avete restituito al privato che stava investendo in quell'area quindi è una cosetta non di poco rispetto a quello che qualcuno aveva pensato prima togliendo quella quinta orrenda che abbiamo ripeto ecco allora forse sarebbe stato ma mi ripeto più facile immaginare il sviluppo di questa città quindi queste sono le scelte che ha fatto lei del tutto inopinate dal mio punto di vista se non secondo questa logica che è quella della sottrazione perché io guardi non ho mai visto un povero diventare ricco per sottrazione e allora salvo qualche distribuzione la politica distributiva e allora è chiaro che il piano dice che la nostra città sarà una città da 57 mila abitanti vabbè siamo in coerenza con quello che è l'andamento ma credo che non so vorrei vorrei così pensare che mi riesce difficile immaginare che dalla sua amministrazione esca una risposta l'unica vera risposta che lei ha dato l'unico vero atto simbolico compiuto da questa amministrazione era stato la rottura dell'intesa politica sull'accordo di programma lì ha scelto ha avuto le palle sbagliando ma ha dimostrato per il resto avete agito solo per togliere cose qui dentro c'è anche un'altra bella chicca vi rifatta lo studio di tolomeo cosa era sull'aspetto socio-culturale e sociale della città e pensate alla zona dell'interporto mi ricordo che in quegli anni si diceva che doveva esserci una connessione nel senso che Pordenone immaginava di avere un'area un'area che era quella zona sud zona dell'interporto dove avremmo potuto portare merci portarle poi all'interno per lavorarle e sviluppare un certo tipo di dotazione infrastrutturale che si connetteva anche con la cimpello sequalgemona la prima cosa che loro signori hanno fatto è stata quella di togliere di stralciare dal piano straordinario delle opere di intervento della regione che era pronto sostanzialmente la cimpello sequalgemona e ancora qui c'è scritto ancora qui vi siete dimenticati o è un refuso adesso non ricordo esattamente la pagina ma poi ve la tiro fuori che la cimpello sequalgemona andava a completare l'interporto probabilmente quello studio non è stato aggiornato alle scelte politiche e probabilmente ha una certa idea della Francia che voi avete in mente dico della Francia perché ecco quindi che l'urbanistica appare dal mio punto di vista un po' velleitaria per la ragione che dicevo prima non ci sono soldi poi nella peggiore delle ipotesi può essere connivente nel passato ci sono stati tanti esempi di connivenza nelle scelte urbanistiche ed è bene rompere con questa tradizione ma non credo che voi state rompendo con questa tradizione io non so se andando in una città diciamo che bella e brutta funzionale o meno in base alle scelte urbanistiche quali sono le scelte urbanistiche le strade che lei non fa al massimo le asfalta con i 5 milioni di tesoretto la connessione alla città non l'ha voluta dicevo prima Cimpello Seguaggemona zona intermodale avete chiuso tutto e quali sono le scelte io arrivo in una città dico è bella perché vedo degli edifici che mi piacciono ci sono dei parchi ci sono delle cose che cosa fa il pubblico che cosa fanno i comuni siete riempiti la bocca di questo piano regolatore generale sono riempiti giustamente loro perché hanno fatto un lavoro di invenzione raffinato anche convincente ma non è niente se non è accompagnato da risorse finanziarie da scelte da dotazioni infrastrutturali che non ci sono perché non volete farlo perché siete lì a litigare tra il fiume e il partito democratico su cosa facciamo alla mano ma gli diamo i cubi per ampliarsi alla copp o gli diamo la possibilità di costruire qualche quartierino ai proprietari questo è il livello vostro di connessione culturale anzi prima ho sentito di alfabetizzazione mi scusi consigliere di alfabetizzazione della vita collettiva il vostro livello di alfabetizzazione della vita collettiva capisco che nelle due forze trainanti della maggioranza è la decisione su come sostanzialmente lo completare trasformare in denaro e aumentare la rendita per rendere libera un'area 26 ma arrivo guardi a 30 finisco perché vedo già ma arrivo a 30 e lì mi spiegherete perché ho cercato di leggere dal giornale cito anch'io fonte il messaggero veneto non me ne voglio il gazzettino ma probabilmente si sarà anche il gazzettino ma ho letto prima l'articolo del messaggero e effettivamente però l'assessore ci porta ha detto che ha un emendamento ci chiederà ci spiegherà bene che cosa intende fare quindi non so se il il mio capogruppo mi dirà di votare a favore di questo piano ma dubito dubito ma nel secondo intervento potrebbe anche sorpresa tirar fuori qualche così elemento che ci ci convince quindi il giudizio è negativo dal punto di vista dell'approccio politico di questa vicenda dei tempi che avete utilizzato di chi siete voi di chi siete voi voi non avevate l'autorità per farlo non avevate l'autorità per farlo il vostro è stato un gesto di arroganza come siete stati arroganti quando non avete firmato l'accordo di programma nel 2013 arroganti e consapevolmente arroganti e quindi questo è il vero elemento sul quale si fonda il mio giudizio oltre al fatto che questo piano non potrà generare per sua impotenza genetica alcuna soluzione innovativa perché le famiglie non stanno non stanno lì con il portafoglio in mano per rigenerare urbanisticamente la casa voi vivete in un altro mondo queste cose stanno in piedi se mettiamo denaro pubblico se andate dalla Seracchiani e gli dite Seracchiani investi 50 milioni di euro sul Pordenone questo è dato e poi basta grazie consigliere grazie a nome del consiglio consigliere Zanut prego sono pronto siamo pronti posso andare allora punto 4 sì punto 4 punto 4 delle linee programmatiche del mandato del 2011 2016 non si sente allora più vicino dai ecco ce la faccio ce la faccio punto 4 adesso ci arrivo ci arrivo punto 4 punto 4 le politiche territoriali delle linee programmatiche del mandato 2011 2016 reperibile o scaricabile dal sito del comune di Pordenone governare le trasformazioni in un contesto sociale territoriale fragile e complesso come quello in cui si colloca la città di Pordenone è un tema critico che oggi mette alla prova le capacità istituzionali politiche amministrative e tecniche della città infatti anche in assenza di adeguati strumenti normativi da parte della regione la città è matura per elaborare una visione strutturale e strategica dialogando con i diversi livelli di governo i comuni limitrofi e tutti i portatori di interessi pubblici e privati che gravitano attorno alla città non si tratta solo di redigere piani ma di avviare un percorso che continua nel tempo un processo di governance territoriale come si suol dire da qualche tempo che implica complesse reti di interazione la mediazione tra interessi differenziati ma convergenti verso obiettivi condivisi e sostenibili all'interno di questo percorso c'è la necessità di produrre in modo partecipato un nuovo piano urbanistico ma questo tipo di pianificazione rappresenta soltanto uno degli strumenti da integrare con altri altri strumenti altri settori altre competenze in cui è frammentata la vita politica della città possono connettersi tra di loro e ridefinire insieme un campo di pratiche e di competenze nel quale esperti in diversi settori dialogano con tutta la città per costruire i problemi prima di sfornare le loro ricette settoriali allora perfetto perfetto Francesca Cardin nel 1986 fu redatto il piano regolatore tutti noi sappiamo chi era il redatore e com'era strutturata la governance al tempo la richiesta era io voglio farmi la villetta voglio i cubi per farmi la villetta la casa eh lo so però io devo muovermi un po' sì sono troppo alto ecco qua allora allora i pordenonese aveva bisogno di farsi la villetta perché c'erano i soldi perché c'era stato il terremoto perché il patrimonio edilizio pordenonese stava ancora crescendo perché la fase economica in quel periodo storico era di assoluta espansione malgrado la Zanussi cominciasse in quel periodo ad avere difficoltà comunque l'economia della provincia di Pordenone era in espansione stiamo parlando di metà degli anni Ottanta ecco il piano regolatore con una miriade di concessioni a pezzettini non è successo niente subito tranne chi doveva costruirsi la villetta la casetta poi c'è stata dapprima la legge Tremonti che si è mossa sul campo dei servizi e sul campo industriale e ha spinto la realizzazione di un sacco di capannoni più o meno grandi e poi c'è stata la seconda fase in cui gli investitori si sono buttati sul mattone dentro quel contenitore è la città che oggi voi vedete che fino a un anno fa vedevamo tutti cioè appartamenti sfitti fabbricati di un certo tipo e anche la città che a suo a suo tempo era cresciuta il pordenonese abitava a Pordenone e gli serviva la macchina per andare a lavorare ok poi sappiamo tutti che la macchina è diventata un elemento di qualità della vita però se voi andate davanti all'istituto tecnico Kennedy la mattina alle 8 voi trovate l'ira di Dio di macchine e di corriere se voi andate di fronte a una scuola elementare voi trovate l'ira di Dio di macchine ok cosa voglio dire con questo voglio dire che come ogni città che si rispetti non è solo una cosa o un'altra cosa è un mix di regole di cultura di storia il politico deve trovare in questo mix quello che a lui sembra la soluzione migliore per lui sulla base delle sue orientamenti culturali sulla base dei suoi credi sulla base delle sue maggioranze sulla base delle sue idee politiche allora cos'è ora Pordenone da un punto di vista urbanistico ovviamente Francesca sai perché non vanno più al parco perché hanno paura perché la gente ha paura ed è la stessa gente che noi abbiamo visto nei limiti che questo campione può essere significativo sia chiaro possiamo fare un ragionamento abbastanza approfondito sul problema della 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 democrazia della partecipazione se volete ci perdiamo due minuti in più ma non è il caso adesso tu guardi un campione ok chi dice che ha guardato tutta la popolazione mente politicamente mente perché tutti noi cerchiamo un campione con cui confrontarci se siamo più bravi troviamo un campione più significativo se siamo meno bravi troviamo un altro campione nella redazione del piano sono venuti a dire le persone che non lasciavano il loro figlio andare a scuola da solo a piedi che era ora di finirla che non si trovavano più bene in questa città che anche loro vorrevano che il loro figlio andasse a piedi da solo senza essere accompagnato alla scuola io ho un figlio di 18 anni e ogni tanto non vi dico come lui condisce il suo modo passa davanti alla scuola elementare di fronte a casa mia e regolarmente un giorno su tre gli arriva una macchina di fronte e lui con il motorino frena allora perché ho portato questo piccolissimo esempio la sensazione che poi è diventata non solo di di un cittadino di me o di una o di persone che hanno la mia sensibilità o la mia età come la volete dire ma di un sacco di persone che hanno cominciato a dire fermiamoci per favore un momento la mia casa non vale niente se in parte mi fanno un condomino di 30 piani vuoto meno di 30 è chiaro poi lo vorrebbe anche di 50 non serve a niente non sto bene se io in parte ho una casa se voi siete stati in Emilia dopo il terremoto scoprirete che i centri storici sono vuoti perché da quelle parti l'abitazione dei centri storici era di qualità inferiore e quindi chi trovavate all'interno dei centri storici gesta comunitari studenti perché sono morti tanti studenti all'Aquila perché loro abitavano nel patrimonio quindi il centro storico era degradato ok allora il lavoro che è stato fatto in preparazione a questo piano ha evidenziato quello che io sintetizzo come un atteggiamento fermiamoci per favore un momento e vediamo se quello che abbiamo fatto finora è buono come lo teniamo e che cosa possiamo fare dopo ed è l'atteggiamento che abbiamo sentito il parere che abbiamo sentito no Martina su tutte le persone che abbiamo sentito poi arrivo ai portatori di interesse poi arrivo anche lì allora il cittadino pordenonese medio quello che si era fatto la billetta quella volta comincia a dire no non va bene non voglio le macchine assessore Zille non le voglio comincia a darmi fastidio comincia ad essere un problema per la mia vita non un fattore di miglioramento della mia vita è un problema se voi sentite parlare se voi sentite un cittadino come ragiona dice il traffico no il traffico cioè la quantità di macchine e la produzione eccetera eccetera mi dispiace che non ci sia l'assessore Conficoni no deve ancora finire il piano antinquinamento va bene diteglielo diteglielo allora accontentate allora qual è la Pordenone di adesso non c'è più la Zanussi ma è 30 anni che non c'è più la Zanussi l'economia pordenonese è fatta da 30 anni almeno da un sacco di piccole medie imprese tecnologicamente evolute che lavorano per l'estero questa è l'economia pordenonese di adesso che ha bisogno di ingegneri non ha bisogno di operai che ha bisogno di università che ha bisogno di servizi vi ricordate se leggevate quattro libro negli anni 90 il destino dell'economia era uno solo dall'industriale al terziario adesso noi facciamo un expo sull'agricoltura l'expo il nostro paese promuove una mostra internazionale sull'agricoltura dieci anni fa non ci pensavamo neanche parliamo di alimentare parliamo di produzione agricola rivediamo questa cosa qua la gente vuole vivere un po' meglio e se li chiedi cosa vuol dire vivere un po' meglio ti dice non voglio traffico non voglio la macchina non voglio un fabbricato grande in parte a casa mia ti dice anche che non vuole quello nero quello giallo quello blu ti dice anche questo ha un'altra visione sicura dell'ambiente io stesso sono intervenuto sulla stampa tempo fa sulla questione della riverasca ok sembrava impossibile affrontare il problema della riverasca so anch'io che il problema della riverasca è da un punto di vista viabilistico un problema però i portenonesi hanno bisogno di ripasseggiare sulla via riverasca poi vedremo che cosa succede forse in questo mondo riusciamo a mettere insieme e riuscire a far parlare quelli di San Giuliano quelli che abitano in centro forse in questo modo ok la città non cresce più Francesca i quartieri a cui tu pensi non sono più quelli voi dovete andare a portare vostro figlio a giocare a calcio in una squadra di quartiere da almeno vent'anni i tre quarti dei bambini non sono italiani i quartieri sono questi adesso io ho vissuto per tanti anni nelle famose case rosse ok adesso le case rosse sono extracomunitari non regolarizzati e lì potremmo anche fare un risultamento e anziani e tutte quelle persone che l'ospedale espelle come si diceva una volta ancora con le cannule e hanno bisogno di assistenza sanitaria è voluta quelli sono i quartieri adesso ma è evidente che non si parlano non potranno mai parlarsi perché non hanno gli aspetti comunitari comuni che forse la nostra generazione ha avuto perché noi siamo stati qua ma non è un problema questo si chiama processo di integrazione e chi come me ha un'idea di queste cose lo promuove lo cerca lo favorisce 20 giorni fa Martina Topolo ha inaugurato mi dispiace che non ci fosse nessun consigliere comunale non so perché non so ce l'ho io perché lo sapevo per caso ecco va bene un'interessante esperienza di social housing via Leirigoletti prima era un condominio X adesso fuori rimane un condominio X però dentro ci sta gente che ha dei problemi ed è un interessante mix di pubblico privato e lì ho trovato alcuni tecnici che mi hanno fatto questo ragionamento mi hanno detto ormai non si fanno più le case noi stiamo preparando dei progetti per mettere a posto i condomini e per fare questo abbiamo bisogno che i condomini abbiano un diverso senso di comunità perché per mettere a posto le cose di condominio deve avere un forte uno spiccato senso di comunità che adesso non abbiamo l'assemblea di condominio quello che quello che tutti conoscono come la più la più clamorosa fonte di disaccordo clamorosa allora perché sono 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 arrivato qua sulla base di queste cose noi ci proviamo come l'altro il famoso avvocato scusami codice rosso l'ho visto l'altra sera che prima di chiedere al colonnello ha ordinato lui il codice rosso ha preso il bicchiere e ha tremato perché sapeva che era una domanda importante noi ci proviamo cioè noi proviamo a capire se si esce da un periodo storico urbanistico e si entra in un altro che cosa ci caratterizza io non lo sapevo me l'ha detto mia figlia lo sapete è che noi abbiamo due fiumi in regione che non sono irregimentati uno è il tagliamento tutta l'Europa viene a vedere come si fa è un fiume non irregimentato perché il tagliamento non è irregimentato è libero il secondo è l'alcello è un fiume non irregimentato sarà l'amore per il verde sarà quello che volete sarà quello che volete da problema a risorsa probabilmente la prossima fiera come si chiama portano le legge noi manderemo i turisti inglesi sulla riva Erasca vediamo se qualcosina tipo qualcosa di Parigi no? ok qualcosina possiamo fare il fiume deve essere dove è andato mi dispiace deve essere aperto il fiume deve avere la sua vegetazione oggi viene goduta questa cosa qua diventa elemento di qualità questa cosa qua e dico un'altra cosa posso dirla così non lo dico non interessa nessuno della mano non interessa nessuno della mano tutti passano dritti e dicono oh che bel verde sì una volta mia zia andava mia nonna andava non interessa nessuno prova a metterti a metà della passeggiata li fermi la gente e gli dici lo sai che se noi facciamo una cosa lì viene un centro commerciale ti fanno fettine ti fanno fettine perché la gente ha digerito quell'area perché il PAIL il PAIL è stato fatto dal magistrato delle acque dall'autorità di vaccino del magistrato delle acque del Veneto ci hanno fregato i Veneti va bene e hanno stabilito che quella zona è esondabile mi spiegate ma veramente ancora nel 2015 noi pensiamo che si possa costruire in un'altra voglio dire potete pensare quello che volete ma veramente è un ragionamento irricevibile 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 costruire su una zona esondabile allora io ho portato due due esempi solo due esempi per cercare di riportare questo a un concetto generale noi abbiamo una città che va ricucita usiamo quel termine che volete bisogna prendere le cose che sono state fatte non tanto bene e ricucirle se la salta è brava ti fa la bella cucitura se la salta non riesce non è brava ci sono cuciture che non riescono ok ma noi ci proviamo c'è la città da proteggere chi vi parla ha avuto modo di entrare il quel novembre del 2002 in due abitazioni che non state interessate dell'alluvione un giorno dopo io ho avuto modo la mattina al pomeriggio ho visto le condizioni in cui si trovava il titolare del lido quel signore biondo non giochiamo non giochiamo con questi concetti danni gravi l'esondazione dell'uncello provoca danni gravi l'esondazione dell'uncello provoca danni gravi apro la parentesi e chiudo la parentesi la mettete a posto o no sto ponte sulla sulla 251 per favore per favore ok ok che è un elemento di mitigazione del danno si dice in termini tecnici ok allora basta basta così basta così va bene allora mi hanno anche preso una pontino allora riutilizzo dell'esistente limitare il consumo di suolo ma questo lo fanno tutti dicono Francesca lo fanno tutti ma io non l'ho mica visto fare lo dicono che lo fanno tutti Padova non lo fa Vicenza non lo fa Verona non lo fa non hanno pianificato Milano Milano ha fatto solo un intervento di limitazione del traffico si è spaccata la giunta si è dimesso l'assessore l'assessore si no si è dimesso quindi noi parliamo di una cosa come se fosse già scontata già la scelta è importante per me che sono seduto qua già la scelta è importante allora poi basta questa amministrazione ha fatto le scelte adesso probabilmente è chiaro che noi sosteremo questo piano ha fatto le scelte si comincia adesso si comincia adesso io dico solo questa signor sindaco non c'è signori consiglieri signori consiglieri della maggioranza signori consiglieri della maggioranza l'ultima foto che ha fatto l'architetto Giuliani nella sua presentazione a mio avviso deve essere la foto che viene cioè la riperimetrazione a livello sovracomunale del del futuro di questa zona urbanistica e la foto che dovrebbe essere messa e la slide che dovrebbe essere messa nell'ufficio del sindaco ad indicare la nuova prospettiva con cui noi vediamo questo problema grazie grazie consigliere Zanotto consigliere Freschi grazie grazie presidente allora beh inizio dicendo che esistiamo anche noi di vivo Pordenone perché sembra che qua sia solo un discorso in maggioranza il fiume il PD e forse qualche qualche contributo l'abbiamo dato a questa maggioranza e anche penso che in questi anni abbiamo colto qualche spunto che veniva anche dall'opposizione l'abbiamo valorizzato per cui ci sentiamo protagonisti di questo percorso anche perché nel momento in cui questa maggioranza si è insediata uno dei punti che abbiamo toccato signor sindaco è stato quello di dire la città va in qualche modo ripensata è ripensata attraverso uno strumento che poteva essere il PRG cioè il piano regolatore generale preceduto però da una profonda e attenta analisi sociologica della città cosa che è stata fatta e che però le dinamiche del momento del tempo potrebbero anche dire che quell'analisi sociologica fatta nel 2012 2013 dal punto di vista dei dati che ha prodotto è già diversa dalla situazione attuale che stiamo vivendo oggi perché in mezzo ci sono state delle crisi di tipo aziendale molto pesanti che hanno condizionato il tessuto sociale di questo territorio e di questa città questo lo dico perché e lo sottolineo perché nella presentazione fatta dal sindaco e dall'assessore Toffolo sono intervenuti due elementi e sono intervenuti gli elementi che hanno introdotto nella relazione la parola dinamicità cioè questo non è un piano statico ma è un piano dinamico la storia cosa ci dice la genesi urbanistica di questa città anno 1986 assessore Fachin sindaco Cardin così l'ho ricordato che era l'assessore era un insegnante non era un architetto architetto Zuccato esterno architetto Zotti se non ricordo male dirigente interno io penso che quel piano sia stato uno dei piani più partecipati in modo assoluto mancava che venissero intervistati anche i paracarri perché veramente sono stati coinvolti tutti il consigliere Zanud prima parlava che c'era questa situazione le casette ognuno voleva ma qualcuno voleva solo l'ampliamento del bagno che non ce l'aveva ed era in zona in cui non si poteva fare niente e bisognava intervenire con un piano perché ricordo io ero un giovane ragazzino studente universitario consigliere di quartiere alle prime armi e in consiglio di quartiere ci veniva sottoposto il parere però non era il parere all'ultimo momento era un parere che veniva da un percorso qua ci sono altri consiglieri vedo Rossetto vedo De Bortoli Zille che quella volta forse anche loro avevano vissuto l'esperienza del quartiere allora questo piano che ci viene proposto ora per me è stato un piano partecipato dopo ognuno di noi dire se vi ha partecipato o non vi ha partecipato perché Palazzo Badini io l'ho visto ogni volta che ci sono andato ogni tanto dove è finito l'assessore Toffolo che ci tormentava sul fatto di ogni sabato andare a questi incontri a questi laboratori e io ho cercato di partecipare a più laboratori soprattutto mi sono soffermato su quello dell'area vasta perché non so se ero lungiberante nella mia visione ma il discorso dell'ampliamento dell'andare oltre la città mi pareva il percorso più logico e il discorso più attuale in quel momento per cui riuscire a capire quali erano le dinamiche che in qualche modo interagivano con la città soprattutto dal punto di vista dei servizi che la città dava e come venivano recepiti da chi era all'esterno della città tanto che partecipavano anche cittadini di comuni limitrofi per cui ho avuto modo di confrontarmi ho avuto modo anche di capire e di vedere da un'altra ottica la partecipazione ad un qualcosa che andava in qualche modo costruito per cui diciamo il percorso di questo piano è stato un percorso partecipato poi convengo con quanto diceva Francesca Cardin sul discorso che la partecipazione la si può intendere in vari modi io comunque dico se uno c'è e ha partecipato può dire qualcosa se non c'è sente di riflesso quello che riportano gli altri per cui le notizie possono essere non di prima mano possono essere in qualche modo soggette ad un'interpretazione di altri io penso che questo percorso sia stato un percorso interessante per molti aspetti anche diciamo complesso ma sicuramente interessante comunque questo piano nasce a mio modo di vedere può darsi che sbagli nasce con due fortissimi condizionamenti e i condizionamenti non sono dovuti a norme così che ci siamo inventati ma sono dovuti a due fatti uno è il PAIL e l'altra è la crisi economica questi sono i due punti su cui si deve soffermare per riuscire a capire quali sono le dinamiche e penso che qualcuno diceva prima non ricordo in quale intervento che a un certo momento bisogna considerare che ogni momento può essere un momento storico un momento di cambio un momento di svolta io penso che questo sia un momento di svolta perché nel momento in cui recepisce alcune dinamiche che sono accadute in questi anni e sono dinamiche stravolgenti perché dal 2007 autunno 2007 che è iniziata la crisi al luglio 2015 che non siamo ancora usciti dalla crisi quello che è successo in questi anni è veramente qualcosa di storico questi due fatti il condizionamento dal punto di vista delle norme urbanistiche di una parte e il condizionamento economico dall'altra ha creato un percorso di ragionamento qualcuno l'ha definito anche una filosofia di piano mi sta bene anche questo termine che in qualche modo ha posto quelle parole che sono state più volte usate questa sera per equazione risparmio energetico rigenerazione ricollocazione coesione e via dicendo tutti i termini che hanno trovato una nuova declinazione cosa che non eravamo abituati nei precedenti piani regolatori anche perché sì diciamo che il piano regolatore generale del 1986 ma scusatemi la variante 77 per me è quasi un piano regolatore se non altro per tutto ciò che ha in qualche modo conglobato al suo interno nel momento in cui è stata presa in mano la visione della città ecco questo piano si colloca in un momento in cui traguardando un po' il passato lo potrei riferire a quello che è stato per il nostro territorio per il Friuli e anche per la nostra città il 1976 cioè l'anno del terremoto l'anno del terremoto dal punto di vista il terremoto il terremoto dal punto di vista urbanistico ha creato una cultura completamente diversa mentre fino a quella data tutto ciò che era vecchio veniva in qualche modo spazzato via da quel momento si è cominciato a innescare la cultura del recupero ricordo un bellissimo articolo apparso sul momento in quegli anni non perché in quegli anni io leggessi dopo ho avuto modo per motivi di studio di riprenderlo un bellissimo articolo di Don Padovese che toccava appunto questo aspetto la nuova cultura del recupero quello è stato un momento che ha segnato per il Friuli e poi ha cascata anche sul territorio nazionale una nuova cultura che era quella che ciò che era vecchio non era da buttare via ma andava in qualche modo valorizzato e allora alla luce di questo si è cominciato a ragionare anche con i piani di recupero che sono stati gli strumenti che in qualche modo nel piccolo sono riusciti a recuperare qualche zona della città non tutte perché alcuni piani anche recenti sono in qualche modo fermi fanno fatica a decollare forse andrebbero ridotte ulteriormente le unità su cui intervenire perché mettere insieme più soggetti delle volte risulta anche anche particolarmente difficile per la nostra città cos'è accaduto perché adesso noi ci stracciamo le vesti sul fiume diciamo ah dobbiamo recuperare il fiume vivere il fiume mettere al centro il fiume non il fiume quello che è seduto qua sì il fiume quello che che secoli di storia scorre alle nostre spalle che da secoli di storia scorre alle nostre spalle questa città ha considerato il noncello non quando veniva usato per fini commerciali ma ha considerato il noncello un problema ha considerato un problema perché come diceva anche cronologicamente parlando il consigliere del ben ha creato il problema delle esondazioni però la lettura delle tacche sul muro sul portale della Santissima dimostra che nel momento in cui è intervenuto l'uomo il noncello ha creato i problemi fin tanto che l'uomo non intervenuto il noncello aveva le sue vasche di espansione e non creava i problemi e l'uomo ci ha messo di più nel momento in cui nell'immediato dopo guerra ha deciso ha deciso ha deciso che lo sviluppo della città dovesse essere fatto a sud ora oggi qui ieri i consiglieri hanno in qualche modo gratificato il fatto che la comina è libera di insediamenti sì lo scenario qual era quale sarebbe stato lo scenario se le cose andavano avanti in un modo piuttosto che in un altro non sarebbe stata libera di insediamenti sarebbe stata la zona sud libera di insediamenti la zona nord densamente densamente abitata avrebbe risposto ai requisiti urbanistici che non ci avrebbero richiesto ora di intervenire per mettere in sicurezza buona parte della città per cui noi siamo contenti che in qualche modo la zona nord sia considerata vocazione agricola perché mi pare che quello che è emerso dagli interventi pensiamo a un recupero di tipo agricolo però il film sarebbe stato diverso sarebbe stato un film completamente diverso con una città che si sarebbe sviluppato in modo articolato e forse in modo più ordinato e avrebbe creato meno problemi alle zone sud e la zona sud si sarebbe concentrata ed estesa soltanto in quelle zone che sarebbero state oggetto di problemi esondativi c'è un altro fatto però che la comina è libera secondo passaggio è libera possiamo parlare di agricoltura io qui non sposo nessun partito non ho mai partecipato a questo sport dell'ospedale su o dell'ospedale giù o del via montreale 24 o dell'ospedale in comina io ho sempre partecipato a quel gruppo di persone che dicevano che avevano bisogno di un ospedale e un ospedale efficiente e mi sono fermato lì volete farlo qua volete farlo di là non ho mai avuto questa passione del luogo però se l'ospedale fosse stato fatto in comina adesso avremmo la zona sud costruita e la zona nord costruita nessuno avrebbe più parlato di agricoltura perché ci sarebbe stato l'ospedale immediatamente in parte ci sarebbe stato il centro commerciale perché ragionamento le due cose andavano avanti di pari passo adesso ci troviamo che la comina è libera sì c'è ancora mi pare il vincolo il vincolo la destinazione di tipo commerciale per quell'area alla quale verranno restituiti gli oneri di urbanizzazione ma sarà la Monti benissimo grazie consigliere stavo arrivando mi l'avrò puntato io ritengo positivo e utile il fatto che la Monti si sia cominciato a parlare di recupero di recupero per quanto riguarda la caserma di vigile del fuoco perché come ben sapete tutti gli edifici in città che sono nati in seguito alla provincia erano tutti erano tutti erano tutti in affitto non ce n'erano di proprietà gradualmente siamo andati con la sede della provincia con la sede dei carabinieri che stiamo ultimando adesso che ci ha vincolato il bilancio negli ultimi anni e questo passaggio che lei assessore ci ha riferito riguardo i vigili del fuoco è un passaggio che apprezziamo apprezziamo molto perché andrebbe a coprire un'area strategica della città e che in questo momento sarebbe in abbandono ecco noi come dicevo prima su questo su questo piano ci siamo in qualche modo confrontati abbiamo ragionato abbiamo capito che le logiche sono completamente diverse ma perché le condizioni ci impongono che le logiche siano diverse io per certi aspetti quello che ha presentato il consigliere Giannelli ieri sera come abile lui a fare e poi chiedere anche i numeri di telefono mi è piaciuto anche questo passaggio del finale così folcloristico no comunque il consigliere Giannelli sappiamo che lui è un lecor bugiano si può dire è una roba simile no il quale apprezza il verde e dice il verde io lo recupero nel momento in cui costruisco in altezza poi si può essere d'accordo o non d'accordo però la filosofia che lui presentava era questa allora alcune suggestioni che lui ha presentato mi possono trovare d'accordo altre meno certamente la suggestione di piazza la motta mi trovo abbastanza vicino consigliere Giannelli nel senso che ritengo che quello sia il cuore della città e quello è il luogo in cui un'amministrazione in qualche modo ci deve mettere del suo ci deve mettere l'impegno ci deve mettere la fantasia ci deve mettere il coinvolgimento per fare in modo che il cuore della città sia riportato ad essere il cuore della città io buttavo lì così in consiglio comunale qualche suggerimento cioè a costo di farlo simbolico ma quelle quattro colonne che ci sono che delimitavano la piazza e che sono ancora perché mi pare ci sia una delibera del 1959 se non ricordo male che diceva che in qualche modo andava recuperata quella piazza e andavano recuperati quei luoghi io spero che quelle colonne non dovrebbero aver fatto se non forse un po' di muffa magari se sono all'umido ma dovrebbero essere ancora 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 intere tiriamole fuori costruiamo una struttura architetto tanti amici che hanno fantasia nel suo mondo dell'architettura per cui metteteci un concorso di idee qualcosa fate in modo come avete fatto davanti all'ex fiera con quelle quattro statue che già hanno dato un minimo di vitalità a quella struttura fate anche questo non penso sia uno sforzo uno sforzo immane ecco ci sono alcune cose alcune suggestioni che sicuramente un piano deve portare con sé noi ci rendiamo conto che questo è un piano che in qualche modo permette la dinamicità come dicevo all'inizio allora mentre i piani precedenti bisognava intervenire per cambiare qualcosa con una variante che significava modificare ciò che era stato previsto questo piano prevede che ci siano alcuni punti in cui si interviene una variante per decidere cosa fare cioè nel senso che non mi limita non mi ingessa non mi obbliga a mantenere quella posizione ma mi permette in qualche modo di approcciarmi in una maniera flessibile questo secondo me è la la novità che viene introdotta è la novità principale che io che io in qualche modo ci vedo il discorso della rigenerazione degli spazi del considerare che i luoghi di smessi una cosa che ho detto in consiglio comunale più volte che i luoghi di smessi devono diventare delle centrali energetiche secondo me è fondamentale noi dal punto di vista del pubblico dovremmo essere autosufficienti signor sindaco dal punto di vista della produzione dell'energia cioè noi non avremo bisogno che le nostre scuole le nostre palestre debbano attingere alla fonte energetica della corrente elettrica ma dovrebbero essere da sole in grado di produrre l'energia perché abbiamo superfici sufficienti perché possono essere autosufficienti mi rendo conto che qui c'è un problema di tipo finanziario allora qui assessore Rubino lei è stata chiamata per i progetti europei bene mettetevi insieme fate un pool ragionate fate arrivare finanziamenti perché in modo tale che il pubblico diventi fonte di energia per se stesso se non altro e questo diventa un elemento che ci mette in qualche modo al riparo da spese a cui l'ente è costretto ogni anno in maniera direi robusta pensiamo all'illuminazione pubblica pensiamo gli edifici pubblici cioè questo è un passaggio che io vedrei obbligato e un piano regolatore deve darmi gli strumenti per entrare in maniera flessibile anche all'interno della rigenerazione se questa città è una città che ha le risorse nascoste come abbiamo detto cioè l'acqua è stata la fonte di energia per le prime industrie ripensiamo che forse questo può essere uno degli elementi che in qualche modo ci aiuta allora fatto questo ragionamento io penso che questo piano abbia in sé tutti gli elementi gli strumenti per poter essere adeguato ai tempi che stiamo vivendo diceva prima a qualcuno che tutti gli strumenti possono essere migliorabili certamente ma io ho l'impressione che questo piano abbia se non altro lo strumento della apertura della possibilità di intervenire della possibilità di essere flessibile per cui che usi questi strumenti coinvolgendo il più possibile i portatori di interesse il consiglio comunale coloro i quali sono esperti anche nella materia della rigenerazione per fare in modo che tutto ciò che può essere usato per in qualche modo entrare fra parte delle economie da cui l'ente per forza di cose sarà costretto perché gli anni che avremo davanti non saranno anni in cui nulla ci verrà regalato ma dovremmo conquistarcelo ecco che mette in campo tutte queste energie e queste capacità certamente noi dobbiamo fare i conti con quella che è la nostra la nostra realtà diceva prima e qui convengo con il consigliere Dalmas che faceva un passaggio non è che io convenga molto spesso col consigliere Dalmas però nel momento in cui faceva un passaggio e diceva che se il privato non interviene la città non ha impulso questo è un passaggio che mi pare sia da sottolineare cioè noi dobbiamo fare in modo che il privato si senta in qualche modo partecipe al discorso di crescita della città noi facciamo fatica a coinvolgere il privato noi per mentalità siamo abbastanza individualisti ognuno sta all'interno del proprio ambito fa fatica a condividere la sfera pubblica però noi dobbiamo fare gli sforzi perché di fronte a una situazione di difficoltà la difficoltà sia in qualche modo condivisa perché solo di fronte ad una situazione condivisa riusciamo a trovare le soluzioni riusciamo a trovare le idee riusciamo a trovare le forze per far fronte alle difficoltà ecco mi pare di aver toccato un po' tanti tanti punti forse in maniera un po' un po' disordinata però io quando faccio gli interventi non mi riscrivo mai gli interventi perché penso che un intervento nel momento in cui lo si fa debba essere frutto di un ragionamento che si coglie all'interno del Consiglio se non c'è questo frutto se non c'è questo lavoro vuol dire che ognuno lavora per conto suo allora io questa sera tra ieri e oggi ho sentito spunti provenire da vari consiglieri e penso che questo sia veramente un momento particolare un momento importante ci sono stati interventi magari più rigidi interventi più flessibili interventi di aiuto interventi di di opposizione ma mi pare che tutti abbiano messo in questo contesto la passione l'idea perché amano questa città fondamentalmente e questo penso vada riconosciuto a tutti il piano regolatore la discussione sul piano regolatore è un momento storico per la città è un momento che lo si fa abbiamo detto le date dei piani mi pare 1955 1969 1986 2015 penso che questi siano momenti in cui in qualche modo qualcuno ha cercato di traguardare il futuro ha cercato di capire cosa può succedere e ha cercato di creare dei binari su cui poter poter camminare io penso che questo piano forse a differenza degli altri che erano tutti su una situazione quelli del dopoguerra di crescita perché se pensiamo il 1955 era l'anno in cui si cominciava l'anno in cui sono nato io tra l'altro per cui è importante anche per quello l'anno in cui si cominciava veramente dal punto di vista industriale ad apprezzare ciò che di nuovo stava venendo fuori il 69 diciamo che era quello immediatamente alle lotte operai le lotte di conquista e l'86 eravamo in una forte ancora forte crescita crescita economica questo piano si colloca invece all'interno di un momento difficile per cui penso che lo sforzo che ha fatto l'amministrazione comunale di renderlo in qualche modo flessibile di renderlo in qualche modo abbordabile e partecipato sia uno sforzo che va apprezzato io ho apprezzato moltissimo lo studio che è stato fatto e che è stato presentato lo studio idrogeologico tra l'altro la cosa che mi ha favorevolmente tra virgolette ha sorpreso è che ho ripensato un attimo al terremoto e ho visto quelle carte dal punto di vista geologico e quello idrogeologico e ho detto guarda i luoghi in cui sono avvenuti i danni a Pordenone sono stati il Maglio e l'Antares questi sono stati due luoghi in cui i danni sono stati maggiormente rilevanti ne commentavo con l'altro giorno con Pedicini e con Tavella che ero da quelle parti quando veniva proiettata e con Del Ben la cartina ha detto guarda già da quella cartina si capiva che in quei luoghi non bisognava costruire o perlomeno non costruire a quelle altezze per cui quello studio è stato uno studio secondo me importante che non è uno studio che si ferma adesso ma sarà uno studio che verrà implementato anche da successivi dati che arriveranno e quello idrogeologico anche quello della confluenza delle acque di questo conoide all'interno del quale noi ci troviamo e che ha in qualche modo segnato anche la storia della nostra città per cui grazie per il lavoro svolto e teniamo presente che il termine dinamicità significa che non siamo arrivati grazie consigliere Freschi consigliere De Bortoli prego Presidente Sindaco e Assessori ma ai colleghi vale la pena prima avevo pensato di non intervenire perché mi configuravo con l'intervento che ha fatto la collega Francesca Cardin sottoscrivendolo in toto e con il collega Dalmas però dopo sentendo alcuni interventi mi pare che debba un attimino forse dire un mio pensiero che è quello che si cresce sicuramente facendo il tesoro del passato cioè il passato non è sempre da cancellare il passato ha la sua storia insegna fa crescere meglio facendo meno errori io ho sempre pensato questo è questione di esperienza la acquisisci col passato allora io dico la mia Pordenone la mia città adottiva io sono qua da 70 cacciato via da una terra in modo infame arrivato a Pordenone col mio babbo lasciando un'impresa in Libia dove diceva andiamo in una città dove si vive bene dove si lavora dove c'è il lavoro dove io e te andiamo a lavorare appena arriviamo cioè questo è un problema perché siamo arrivati con la valigia dopo 36 anni di vaffica grazie a quelli che oggi ospitiamo perché vengono dalle guerre ma li vediamo molto sani robusti trentenni 25 anni non vediamo patiti cioè i risvolti di una guerra si sono visti quando siamo arrivati in Germania dopo la seconda guerra quelle sono le guerre qui li vediamo arrivare non arrivano bambini non arrivano donne 6% non arrivano vecchi siamo anche consapevoli e responsabili di ospitare una parte di loro che vengono qua e forse stanno bene non dimenticando che là rimangono milioni di persone che muoiono perché di là rimangono milioni di persone che muoiono di fame e con le guerre se è vero che ci sono dunque cosa serve salvare centomila che arrivano qua quando là rimangono un milione e mezzo a morire i più deboli rimangono là ma questa è una retorica che ci facciamo noi perché sarebbe meglio andare là a salvare anche il milione e mezzo che là portando democrazia portando agricoltura portando benessere questo è solo un inciso su questo dunque siamo ipocriti su quando salviamo centomila e ne muoiono un milione e mezzo centomilioni un miliardo e mezzo perché là così succede se è vero che c'è la guerra allora siamo venuti in Pordenone perché la prima cosa era il lavoro siamo arrivati con una valigia come facciamo a vivere dobbiamo trovare il lavoro Pordenone è una città che dava lavoro arrivavano con i viaggi organizzati anche dal meridione per lavorare in questa città è una città che faceva case popolari e basta vedere attorno quante ne abbiamo fatte perché la gente premeva e doveva avere la casa e il lavoro questo era il significato e Pordenone cresceva crescevano i capitani di industria nostri di Pordenone dell'Inter la Pordenonese non l'Eletrolux non gente che viene qua acquista e domani se ne va e ci lascia i volumi vuoti perché questa è la politica di questo paese che facciamo oggi di gente che ha comprato i gioielli che noi abbiamo abbiamo costruito con i nostri padri e li usano e ci usano fino a quando andiamo bene poi se ne vanno e ci lasciano i volumi vuoti e noi che parliamo 17.000 diceva prima della Santa certo e la mattina si contavano a malapena le tante corriere che arrivavano da tutto l'Inter a Veneto e Frulano a lavorare a Pordenone e chi prima poi pensava di comprarsi la casa perché tutti si avvicinano dove c'era il lavoro oggi io spero che questo piano con i due punti fondanti la riduzione volumetrica dell'edilizia e la bellezza del verde sia tanto attrattiva che porti a Pordenone a quella Pordenone che forse nell'83 con qualcuno di loro avevamo già cominciato a discutere e nell'88 con il sindaco Cardin quando ci chiamò ci disse vogliamo una Pordenone di 80.000 abitanti cosa dobbiamo fare per raggiungerla le infrastrutture le infrastrutture ma voi pensate che il centro commerciale l'ingrosso e il piano di assenso produttivo industriale del Valle Noncello sia nato per caso è nato in queste aula in quest'aula discutendo cosa volevamo fare di Pordenone e non abbiamo fatto diventare grande formando queste cose le uti perché dobbiamo diventare sette comuni insieme le addoppiamo non è così Pordenone aveva un obiettivo di diventare una città di 80.000 abitanti ha sbagliato forse ha cominciato a sbagliare quella volta quando la volevamo costruire a sud perché è vero già da quella volta cominciamo a costruire a sud perché quando io arrivai nel 70 al sud c'erano 4 case popolari e delle piccole case rurali le chiamavamo le case dei contadini c'era ancora perché c'erano ancora dei boschi a Villanova dove c'è il centro commerciale all'ingrosso adesso c'erano dei boschi ecco forse lì abbiamo fatto qualche errore chi ha progettato il piano regolatore generale nell'86 è stato fatto qualche errore ma l'obiettivo di una città è proprio questo invece oggi quando non ce la facciamo ci mettiamo insieme così siamo in tanti no non è vero noi dobbiamo essere la città attrattiva quella volta a Pordenone venivano da Paziano da Prata anche sabato sera venivano a Pordenone perché c'erano i negozi migliori c'era un'offerta molto grande oggi perché devono venire a Pordenone abbiamo nei 10 anni 15 anni passati quando io in questo consiglio comunale fino al 2006 ho combattuto perché non si facesse un intervento esterno a questa città con tutto quello che si è costruito in una via che è una circovalazione che impieghi 46 minuti da Porcia al Ponte del Meduna e dopo aver speso miliardi di lire o milioni di euro per fare la rampa di lancio ci metti ancora 46 minuti arrivati da Porcia al Ponte del Meduna e non riusciamo a fare un raddoppio di questa via non riusciamo a raddoppiare un ponte che si chiama Ponte del Meduna dobbiamo fare la fila ogni sera e ogni mattina come la Pordenone d'Erzo perché quella volta avevamo pensato un'autostrada che andasse a sopperire alla zona industriale e zona commerciale di Pordenone a Sud e l'abbiamo fatta qualcuno voleva anche a me dicere a pagamento e siamo in questo consiglio comunale abbiamo battuto perché non sia pagamento da Fiume Veneto a Ronco di Fontana Fredda e speriamo che non lo facciano mai questo perché la nostra circovalazione è al Sud non abbiamo fatto una ulteriore circovalazione a nord la grande gronda a nord non c'è queste sono le scelte non parliamo di strade qua parliamo di verde bene ma allora dobbiamo dire alle famiglie pordenonesi che stanno patendo perché nelle famiglie c'è sempre un disoccupato anche a Pordenone e non trova lavoro se non va all'estero perché siamo tornati veramente al passato del passato qui non c'è più lavoro a Pordenone abbiamo delle industrie perché domani mattina decidono se ne vanno perché hanno il diritto di andarsene e scusatemi 2017 non è lontano ma siamo chiari perché dopo non ci troviamo le sorprese che l'Eletrolux sarà ancora qua nelle condizioni in cui oggi non ci sarà più inutile che le stiamo parlando qui e vabbè fino a 2017 va bene poi vediamo perché tanto in Polonia ci sono le linee fabbricate con i buchi dove vanno le linee che sono a Polizia non so parlate con gli attrezzisti che sono andati in Polonia a farle dunque aspettiamoci questo a meno che non faremo gravi fiscali regali il sistema tedesco il sistema tedesco loro devono progredire e noi dovremo morire questo è il fatto dunque saremo manovalanza pura senza diritti perché noi eravamo a Pordenone quella volta perché il mio babbo che non aveva mai fatto politica decise di chiedere ai sindacati e quando arrivò a Pordenone chiede a un sindacalista senti ma qua c'è lavoro sì alla Zanussi ti assumono 50 persone ogni mese allora andiamo a Pordenone mi disse siamo venuti a Pordenone e poi c'era un'efficienza reti di cade popolare dove ci fecero fare la domanda e torniamo la cade popolare a Villanova in via Foscolo oggi ci sono ancora queste cose non ci sono più allora mi va bene adesso dopo 10 anni 15 di sfaccelo che abbiamo fabbricato tutta la cintura a Pordenone senza preoccuparsi della parte viaria e lo dimostra la strada turistica che viene giù da Maniago da Piancavallo che non c'è e l'altra strada bellissima che abbiamo qui a Corva cioè vedo che a Zanodecimo in giro di 3 mesi ha fatto rotonde dove c'è avete visto cosa sta facendo a Zanodecimo noi abbiamo da fare mille metri mille metri che ci costano 2 milioni di più e siamo 4 anni a patire e non riusciamo a fare mille metri che dovrebbero sopperire l'esondabilità della zona sud perché quella strada è fatta non per il piacere di una rotonda e limitare il traffico o diminuire il traffico è fatta perché abbiamo edificato e l'acqua non defluisce a sud e manda sotto tutta la parte sud questi sono i discorsi che si facevano in questo consenso partendo con il sindaco Cardin allora oggi diciamo che non vogliamo più edificare benissimo diamo la possibilità di trasferire le aree io dal mastro non sono d'accordo cioè se io ho un'area edificabile e oggi diventa più appetibile la mia casa di non farla più a sud la metto a nord magari poi quella lì diventa aria agricola quella che lascio ma questa va bene questo discorso qui il problema sapete qual è è quello che la gente non ha più soldi non so se voi quando uno dice ma dove vivete ma vi siete non so ma i servizi sociali l'assessore vi danno il termometro perché i servizi sociali sono un termometro dovete leggere quei dati lì io vado lì e trovo ogni mattina nel suo ufficio 20 famiglie magari 18 sono extra comunitarie e 2 italiane ma 20 famiglie con bambini piccoli che chiedono assistenza di asili integrazione retta affitti mi pare che sia così no? dunque non è una società prospera la nostra società che è in declino e guardi bene io che ho fatto la missione dell'ATER molti italiani non fanno domanda perché quando arrivano e vedono quello che c'è sul parterre dell'attesa non prendono neanche la domanda glielo assicuro io in modo scorretto perché io dico tu dovresti prendere la domanda andare dentro ma quando uno mi parla di integrazione ma voi sapete che sono dei condomini con 12 famiglie via Pirandello che ho abitato e conosco dove in 12 famiglie sono due italiane ma le altre non sono di un'etnia sono di 11 etnie dove ognuno hanno le sue abitudini religiose alimentari e comportamentali dunque chi si integra lì allora facciamo una scelta anche sulle case adilizia popolare diamo dei limiti di assegnazione non si può mettere su una scala 12 famiglie o una diversa dall'altra perché non ci sarà integrazione ci sarà una soppressione perché poi è così poi è così basta parlare con la gente e i servizi sociali che sanno queste cose qua si fa molta fatica non guardate non tagliamoci addosso al fatto dell'integrazione il buonismo ma ci vediamo io ho ricevuto c'è gente che non doveva scendere dalle scale perché teneva la porta aperta a primo piano che era islamico e sua moglie era senza velo e dunque ha ammazzato di uccidere l'anziano che scendeva dalle scale lo scende in ascensore cioè queste sono le piccole cose che poi abbiamo scritto anche ma non hanno non recepiscono queste cose noi pensiamo di dovergliele far recepire ma non le recepiscono ma non voglio soffermare su queste cose io voglio dire sul piano regolatore fatto fatto un buon lavoro ma sono una città ideale ma questa è una città ideale oggi perché Via Nuova di Corva è una città ideale oggi ma l'avete vista Via Nuova di Corva ma ci avete mai passato dove c'era la Fiat la Ford la Volvo andate a vedere cosa ci mettete lì dentro lì dentro cosa ci mettete voglio sapere cosa ci mettete lì dentro pensate di rigenerarli tutti quei volumi verranno utilizzati ma da chi ha detto giustamente chi ha redatto il piano che ci vuole questo qua è un piano dove ci sono interventi interventi dei privati cioè il privato deve trovare la sua convenienza per intervenire allora visto che le case non sono più in questo paese dove abbiamo attassato la casa all'inverosimile e ricordatevi che una volta chi lavorava l'obiettivo era quello di farsi una casetta comprare un appartamentino da 70 metri quadri perché diventava un reddito aggiuntivo la sua pensione oggi questa cosa ce l'hanno tolta il governo centrale ce l'ha tolta questa qua cioè chi ha le case le vende l'appartamentino come si dice di investimento non esiste più in questa comune perché in questo comune in questo paese perché con tutto ciò che abbiamo caricato la casa diventa un costo non un'integrazione alla pensione che uno prende allora i prezzi li avete visti no? 48 mila euro 55 mila euro cos'è l'investimento questo qui allora stiamo facendo le case di serie A perché adesso l'investimento è andato alla case di serie A++ ma quelle lì che lasciano cosa ne facciamo? siamo una città che 57 mila assessori non so se arriviamo cioè nel senso che tutti vanno nei comuni limitrofi intanto abbiamo questo fenomeno che è visibile basta guardare le carte è visibile l'abbiamo detto sempre che non vengono abitati a Pordenone riescono ad andare fuori piuttosto se domani mattina come se stanno in Vicentino che hanno chiuso le concerie e gli extracomunitari sono andati via noi rimaniamo 44 mila abitanti a Pordenone questa è la grande verità se è vero come è vero che noi abbiamo il lavoro di integrare quelli che vengono fagli imparare un mestiere ma poi col fatto che torni nel loro paese perché anche questa è vero quando parlo degli immigrati italiani ma l'immigrati italiani andava all'estero viveva su un container mandava i soldi a casa ma per tornare a casa quando ha fatto la casa faceva costruire la sua casetta a Borgo Meduna basta andare a vedere e dopo tornava a casa ma voi siete convinti che questi che noi qui tornano a casa anzi nessuno ha mai pensato che per noi è un danno economico grandissimo perché se io ho 50 mila abitanti a Pordenone di cui una forza lavoro che lavora in cassa e spende a Pordenone mi crea ricchezza ma se io ho a Pordenone 8 mila persone di cui 4 mila 500 5 mila lavorano e metà stipendio lo mandano a casa in Senegal eccetera quello per me è un danno economico perché non li spendono qua li prendono qua e li portano li mandano a Pordenone legittimo per carità lasciano là figli e moglie è giusto che li mandano qua ma sa qual è il loro obiettivo di portare qua figli e moglie ma non loro tornare al loro paese e creare ricchezza nel paese da cui vengono è là che si trova si crea ricchezza noi abbiamo diverso dunque chi paragona l'emigrato all'emigrato italiano sbaglia l'emigrato italiano tendeva a tornare al suo paese dunque portava ricchezza al nostro paese con le rimesse perché costruiva l'edilizia e via dicendo questo per dirvi che io sono convinto che Pordenone non cresce Pordenone bene ha fatto il piano regolatore prevedere non più edificabilità grazie a Dio dopo 14 anni disfacero nel territorio perché avete approvato fin l'altro giorno la lopera della coppia e io mi sono posto su quel fabbrichetto che avete fatto qua e avete tolto la possibilità di ampliare una rotonda che domani potrebbe servire ho detto ma come non ci sono volumi a Pordenone da prendere in acquisto per fare degli uffici bisognava fare quella robetta lì che ha soppresso mezzo le case le billette alto 3-4 piani mostruosamente scuro di fabbricazione che fa per fin paura da come è fatto speso un sacco di soldi fatto con le piante sopra il tetto perché attorno non ci stanno ci hanno messo le piante sul tetto quella del congaffio tanto qua io mi sono posto ferocemente in questo consiglio comunale perché con i volumi che avevamo a disposizione dei grandi interventi in Piazza Santa Caterina e la ex standard si poteva prendere un piano lì comprarlo diventavano uffici nel centro città invece no qua di fuori dalla città fuori dal centro storico è un'altra cosa il piano non so se prevede il campus scolastico cioè noi abbiamo un grande problema abbiamo le scuole sparse in tutto il territorio di Pordenone vero? cioè scuole centro studi sarà da rimettere a mani penso adesso Renzi ha stabilito dei soldi anche per mettere la posta ma perché ma perché non non c'è numero legale tanto quando parlo opposizione non è che una volta l'opposizione noi la teniamo quando c'era qua Puglatti che voleva la passerella di legno sulla via Riverasca facendo spendere due miliardi questo comune per la passerella di legno e mi ricordo Cardin quella volta dice ma perché guarda che si marcisce è sull'acqua Raffini l'ha progettata due miliardi soltanto perché uno aveva la bizza del naturalismo come i pali di legno messi nelle nelle anze del del noncello a Vallenoncello però abbiamo dovuto dove sotto posto non si doveva toccare ma chiediamo la verifica del numero legale Presidente appunto in modo che vediamo un attimo perché si non so se questo è un piano importante chiediamo vabbè vabbè marcatevi vediamo se ci siete vabbè ma il Presidente ma qua sapete si convoca due mesi si fa le tre va bene io lo dice il Presidente me lo dice il Presidente il numero legale ah ecco aspettiamo il Segretario come funziona come funziona come funziona Presidente come funziona cioè la nostra società viaggia ancora con regolamenti no la nostra società tutta viaggia con prego il Segretario impari il regolamento anche lei qualche volta ma noi non siamo in maggioranza Elio quando eravamo noi qua silenzio va bene Silenzio ma qual è il problema adesso verifichiamo il numero legale abbiamo fatto anche noi tante volte quando eravamo in opposizione ti ricordi se le cose funzionano per una volta funzionano anche per il resto abbi paziente ti ricordi è giusto che sia così ecco adesso ci sarà è il gioco delle parti ci siamo bene mi dice il Segretario che c'è un numero no allora sentite ve lo dico non si verificano le schede si verificano le teste l'abbiamo sempre detto perché le schede qua ce ne sono per tutti anche per chi non è mai venuto perciò le teste si contano per quello deve esserci il Segretario quanti sono perfetto c'è il numero legale scusi grazie consigliere puoi proseguire quanti siamo scusi segretario per cui il numero legale viene garantito dalla minoranza il numero legale viene garantito dalla minoranza ma una volta se ti ricordi uscivano tutti rimaneva dentro uno solo per chiederlo Elio l'abbiamo fatta queste cose quando eravamo di qua andiamo avanti Elio andiamo avanti dai da te proprio su con la consigliera Francesca Cardin quando dice questo piano di regolatore generale potrebbe essere portato proprio sulla luna trovando le stesse condizioni del fiume potrebbe essere applicato lì insomma e patto di non costruire più io spero che si faccia però con con la giusta coscienza perché abbiamo assistito in questo paese che una famiglia sposava il figlio e non gli veniva concesso di fare un bagno per poter vivere con i genitori anziani bisognosi di essere accuditi allora noi andiamo sempre da un parametro dagli eccessi io spero che verrà usato il buon senso anche in questo caso quello che però mi rammarica è il fatto che non vedo la Pordenone la mia città che mi ha fatto scendere in campo a 32 anni nell'amministrazione comunale di Pordenone quando avevo 32 anni perché abbiamo sempre parlato della nostra città e soprattutto dei nostri quartieri facendo anche grandi battaglie vero Elio con l'amministrazione in cui noi facciamo parte di maggioranza quando volevano farci le piattaforme ecologiche a Valle Noncello ma sapete perché volevano dare acqua calda riscaldamento gratuito a tutte le industrie che si pissavano nella zona industriale di Valle Noncello ma perché perché così attraendo volumi capannoni tanto per dire attività economica di trasformazione si accresceva come cittadini perché chi lavorava veniva da None Veneto a Valle Noncello prima o poi si faceva la richiesta di farsi una calda o comprava un appartamento ecco che Pordenone cresceva Pordenone non è cresciuta per caso su questo oggi questo non c'è più a Pordenone dunque dovremmo rassegnarci a diventare una città che ormai perdiamo unità risidenziale e non la cresciamo questo non so se gli economisti pensano che sia un fatto positivo per la città se decresce se è economica ma chi ha portato il piano ha detto una cosa sacrosanta ha detto beh adesso se parlate anche voi metto io allora ha detto una cosa sacrosanta ha detto nel futuro non avremo più soldi che ci arrivano da fuori la città dovrà sostenersi con i cittadini che ha che pagheranno le tasse per garantire i servizi questo l'ha detto chi ha chiedetto il piano e questo è quello che mi preoccupa siamo sicuri di farcela ecco perché abbiamo detto anche sul piano Olcese che era la grande area strategica per far crescere Pordenone è da lì che partì la passarella che con Pasini non fu possibile farla se non in legno poi l'era Borsonello fu fatta in acciaio e cemento ma va bene io avrei preferito farla in acciaio e cemento da subito se non c'era qualcuno che si opponeva perché durava di più come adesso era più funzionale era più bella più fruibile più pulita come adesso che prima che era più bassa adesso non so la cosa che volete fare della via riverasca io vedevo un progetto che partiva da Valle Noncello passando per la fiera facendo via riverasca e concludendo il torcese veneziano se voi mi cominciate a levare ma io posso anche guardi facciamo così ma lo facciamo così allora io se nessuno vuole ascoltare non è un problema io mi trovo finisco e le dico solo qui mi trovo in perfetta sintonia con ciò che ha detto la collega Francesca Cardi sottoscrivo tutto il suo intervento e ciò che ha detto il collega Francesco Dalmas ecco configurate il fatto che il consigliere De Bortoli che è da poco in questo consiglio comunale si riconosce in quello che dicono questi va bene e termino qua così i signori possono parlare però questo mi autentica a rompere le scato ogni volta che loro interverranno eh sì eh sì amico mio eh sì tu sei girato di qua guarda che composto che sei e consono ma va là ascoltarmi cosa state facendo una conferenza stampa qui grazie presidente grazie le faccio risparmiare i sei minuti magari Dio Giannelli grazie consigliere De Bortoli consigliere Martino prego prego consigliere Martino grazie presidente ecco io parto direttamente con i ringraziamenti alla ai professionisti per il lavoro svolto che è stato un ottimo lavoro e ai tecnici del comune all'amministrazione tutta anche noi consiglieri per i contributi dati nelle varie occasioni dove ci siamo incontrati cominciando da Pordenone più facile a tutto a tutti gli altri incontri di maggioranza ma di commissione anche di consiglio comunale ricordo che l'anno scorso c'è stato un dibattito interessante quando abbiamo approvato le direttive ad aprile del 2014 che è stato l'avvio diciamo della parte così degli indirizzi politici per la stesura poi del piano e naturalmente a tutti i cittadini che hanno partecipato sia appunto all'iniziativa di Pordenone più facile e sia in altri modi online o con contributi fatti ricapitare direttamente dall'amministrazione l'esperienza di Pordenone più facile è stata secondo me interessante io ho partecipato ad alcuni incontri a diversi laboratori ed è stata un'esperienza che andava a riprendere quella che era stata fatta in precedenza con i laboratori di Borgo Meduna quindi credo che chi contesta un po' la partecipazione forse dimentica questa parte qua è vero come diceva la consigliera Cardini che è difficile coinvolgere i cittadini ma non solo a partecipare in questa occasione ma nella vita politica amministrativa sociale e culturale che riguarda una città però l'importante per quanto riguarda l'amministrazione pubblica è quella di dare degli strumenti delle possibilità poi saranno appunto i cittadini stessi a valutare le varie proposte le varie occasioni che si presentano quindi io credo che la partecipazione da questo punto di vista c'è stata poteva essere migliore però insomma tante così è ecco io avevo immaginato così di fare un certo tipo di intervento però il consigliere Dalmas così mi ha un po' stimolato su un fatto su una sua riflessione che era quella di dire ma perché siete andati a impallagarvi a fare un piano regolatore potevate stare tranquillamente così a far passare la nottata e senza neanche andare troppo a magari a fare delle scelte alcune forse anche impopolari magari che da punto di vista del consenso elettorale non avranno un un ritorno perché si sa che quando si fanno delle scelte non si può accontentare tutti quindi questo era un po' il senso di quello che diceva il consigliere però faceva poneva l'attenzione su due dati che sono quello della variante 77 e quello di questo attuale del piano che andiamo ad adottare io credo che però tra la variante 77 e il piano regolatore sia passato tantissimo tempo e come si dice oggi il mondo è cambiato quindi perché io me lo sono me la sono fatta anch'io la domanda perché un nuovo piano regolatore io credo che nel fare questa scelta l'amministrazione abbia usato in gran parte coraggio e in misura inferiore incoscienza dico questo perché perché appunto il quella penso che sia stato appunto se non è un atto di coraggio quello di fare di fare un nuovo piano regolatore perché se andate a considerare quello che negli ultimi anni è avvenuto e cioè appunto il mondo è cambiato sono cambiate le esigenze dei cittadini il loro modo di vivere l'assessore Romore ne sa qualcosa ma lo sappiamo anche noi la recessione ancora morde e come è stato detto da qualcun altro speriamo in una ripresa a breve ma non sarà più come prima quindi ecco la necessità secondo me che è stata il punto principale il punto penso di svolta di fare questo piano perché l'abbiamo visto anche dallo studio socio-economico che è stato fatto sono emersi una serie di date delle indicazioni che ci dicono tanto sul futuro della città di Pordenone e non solo e quindi credo sia stata una soluzione una giusta scelta quella di andare a fare questo piano e anche perché ecco lo strumento che dell'86 come è stato detto era uno strumento superato anche perché ci sono stati nel frattempo sono intervenuti dei dettati normativi che ci hanno portato anche in questa direzione ma per questo motivo io penso che questo piano sia un piano innovativo proprio perché ci avvicina a un modello più europeo ci avvicina anzi anticipa delle scelte che verranno fatte magari dalla regione più avanti noi abbiamo già gettato le basi in questo senso e anche a quella che sarà magari anche una riforma nazionale basta vedere la bozza lupi io credo appunto che per questo motivo che questo sia un motivo di orgoglio per la nostra amministrazione quella appunto di andare a vedere questo piano ecco io così per curiosità sono andato a vedere anche i piani i piani precedenti i piani regolatori precedenti e io ho trovato che così come adesso siamo in un periodo diciamo di crisi o speriamo di di una crisi che va a come dire a cessare anche nel il primo piano regolatore era stato redatto proprio dopo una crisi quella del 29 e quella volta io adesso state tranquilli non vi farò non farò una storia ma prendo spunto di un dato che così mi collega all'attuale al piano che andiamo ad adottare cioè che il comune di Pordenone quella volta nel bilancio preventivo appunto del 1934 mise una quota di 15 mila euro per per fare un concorso di idee un concorso nazionale per per questo per la redazione del nuovo piano regolatore e l'allora commissario prefettizio Napoleone Apriles aveva chiesto che qualunque proposta i progettisti andavano a fare dovevano tenere conto di quella speciale congiuntura economica in cui viveva naturalmente la città immersa in una crisi internazionale e infatti poi a febbraio del 1934 fu bandito questo concorso con questo titolo bando di concorso per il progetto di massima del piano regolatore di ampliamento e di sistemazione igienica ed edilizia della città di Pordenone il progetto fu un progetto che poi fu come è stato detto quello dei progettisti della Rocca e Filippone del 1955 ma il piano in realtà fu come dire approvato nel 38 quindi iniziato nel 34 e nel 38 poi per i motivi dovuti alla seconda guerra mondiale naturalmente ci fu una rivisitazione in quel piano che poi appunto andò in approvazione definitiva in quell'anno perché dico questo perché io ho trovato che i motivi per i quali appunto vinsero quegli progettisti era legato al fatto che con una semplicità loro avevano posto delle questioni che riguardavano sì la crisi economica appunto congiuntale di quel periodo ma avevano visto nelle risorse che Pordenone aveva partendo proprio dall'acqua dall'ambiente quello che poteva essere il motivo di sviluppo della città stessa ecco perché ho fatto questo esempio perché a me è piaciuto questo ragionamento fatto quella volta perché i progettisti oggi in questo piano hanno messo al primo posto l'ambiente che i vari sistemi che comunque sono stati illustrati che abbiamo visto vanno a toccare allora alcuni aspetti che inizialmente potevano sembrare negativi invece appunto furono il volano dello sviluppo e io credo che oggi anche noi dobbiamo partire proprio da questo cioè è stato detto che l'acqua è una risorsa per la città di Porderone e credo che su questo bisogna puntare puntare almeno per quanto riguarda l'aspetto ambientale ma non solo qualche dato allora il collega De Santo ha già diciamo nella sua nel suo intervento ci ha dato alcuni dati io quindi non li ripeto dico solamente che per quanto riguarda l'aspetto anzi diciamo l'aspetto del verde perché di ambiente stiamo parlando devo dire che abbiamo un dato che è di 64 metri quadri pro capite rispetto a un dato nazionale che è molto più basso infatti siamo come capoluogo di provincia a primi posti è stato detto poi che per quanto riguarda dei servizi quindi non so tutto dal verde ai servizi pubblici alle infrastrutture da un 28 di standard noi siamo oltre 40 mi pare 45 questo dato ci potrebbe come dire far accontentarci e magari puntare su altro invece il problema non è solo quello di dare una qualità della vita della città migliore ma quella di mantenerla poi quindi è importante appunto che i progettisti abbiano puntato sul progettista naturalmente tenendo conto delle direttive dell'amministrazione abbiano puntato sulla rigenerazione ecco è un termine che riguarda non solo l'urbano ma la rigenerazione significa tutto quello che riguarda la città ecco un altro dato ad esempio che così che ho notato in questi ultimi anni per quanto riguarda la città è quello del patrimonio arborio il patrimonio arborio prevede diciamo che negli ultimi anni appunto è stato notevolmente incrementato negli ultimi 5 anni in particolare ci sono stati oltre 3.000 nuove piantumazioni di albere questo credo che sia un investimento un investimento perché sappiamo che il verde serve non solo per abbellire la città ma per migliorare la qualità della vita tant'è che uno studio americano ha individuato anche nella qualità della vita delle città la presenza del verde inteso come non solo per quello che ci dà sappiamo per l'ossigeno per l'anidride carbone ma principalmente per l'inquinamento e noi sappiamo che anche nelle piccole città ormai il traffico è tale che ogni anno si sforano i limiti di inquinamento e bisogna porre rimedio quindi ecco perché è importante appunto tenere presente che il andare ad incrementare il verde e nella presentazione piano abbiamo visto il ci sono stati presentati i cosiddetti corridoi ecologici e questo queste scelte vanno in questa direzione anche degli studi fatti dall'ARPA sull'incidenza dei tumori eccetera sono diversi questi dati a secondo se si è in zone vicino a arterie urbane trafficate oppure a una certa distanza scusate ho degli appunti adesso per riordinare un po' ecco il consumo di suolo si è parlato spesso di questo argomento no io credo che il consumo di suolo sia a parte che l'indicazione e le direttive europee dicono vanno in questo senso in questa direzione io credo questo il piano regolatore recepisce queste indicazioni per questo dicevo che è innovativo le recepisce perché noi andiamo con le azioni sia del PAIL che ci dice alcune cose non costruite più nelle aree fluviali ma anche le scelte fatte appunto dalle dall'amministrazione con questo piano regolatore vanno in questa direzione nel senso che noi andiamo a tutelare il patrimonio esistente rigenerandolo e non aumentando più l'edificazione quindi non è che non ci saranno più cubi ma non andremo ad aumentarli anzi come è stato detto saranno 246 mila metri cubi in meno rispetto a quelle previste dalla variante 77 e dai piani che comunque poi non hanno portato alla loro attuazione e questa scelta secondo me è ha una sua valenza ha una valenza perché se pensate che dal 1994 con l'alluvione del Piemonte e della Lombardia al 2012 ci sono stati 24 miliardi di scusate sì 24 miliardi di ristoro dei danni che il territorio in caso nei casi di alluvione hanno portato quindi secondo me questa scelta è una scelta che siccome qualcuno ha un po' come dire contestato questo tipo di scelta cioè che invece l'edificazione deve essere ancora prevista ecco altri due punti così che secondo me sono stati importanti per la redazione di questo piano sono stati quelli dello studio socio-economico che ha fatto la fotografia della situazione pordenonese e da queste poi appunto sono nate le direttive le decisioni politiche ma anche gli scenari che sono stati rappresentati dai tecnici vanno in questa stessa direzione li cito solamente ma solo perché mi servono poi per fare un ragionamento su alcuni punti e cioè quello ho detto già del consumo di solo della riqualificazione urbana del miglioramento dei sistemi dei servizi e della salvaguardia ambientale dell'ambiente ho detto del sistema dei servizi anche qua siamo diciamo la quota por capite è di molto superiore a quella nazionale però noi abbiamo delle aree cosiddette delicate per quanto riguarda i servizi va bene per quanto riguarda il verde attrezzato sportivo i parchi eccetera ma ci sono delle aree tipo tutte le le caserme dismesse ci sono aree tipo il Bronx e altre aree ancora gli stessi cotonifici che appunto se il privato dove è come la manna il privato che è proprietario e altri siti se il privato è messo nelle condizioni di poterle riqualificare ecco che la rigenerazione urbana di cui si parlava va come dire queste aree saranno proprio il volano di questa rigenerazione ora è vero che per quanto riguarda le caserme è lo stato che deve provvedere qualcosa si muove perché adesso abbiamo visto con con la Monti che verrà utilizzata per inizialmente una parte per accogliere i profughi ma questa struttura diventerà la sede dei vigili del fuoco e quindi un primo passo avanti rimane un'altra era importante dicevo prima il Bronx il Bronx è nato per dei servizi la vocazione scolastica mi pare che non si può concentrare in quella in quella area per una serie di motivi mi diceva l'assessore poi magari potrà riprendere questo concetto nella replica e e quindi noi non dobbiamo cercare altre aree per 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 i servizi dobbiamo concentrarle lì anche perché diceva il consigliere Pedicini noi siamo una città capologo di provincia e tanti tanti servizi vengono soffruiti da chi abita fuori e viene a Pordenone allora dobbiamo pensare come rivitalizzare il Bronx ma dal punto di vista dei servizi non così utilizzando quell'area ogni tanto per fare qualche spettacolo o altro noi stiamo ragionando come città dei 50 57 mila abitanti però c'è in atto un discorso legato alle UTI allora noi saremo anche in futuro una città appunto dai 50 57 mila abitanti o saremo una città che va verso i 100 mila abitanti allora l'UTI sappiamo che saremo almeno come UTI al di sopra dei 100 mila se la regione confermerà il passaggio di Fontana Fredda di Zoppola una città che probabilmente sarà anche oltre i 100 mila abitanti allora dobbiamo pensare che i servizi saranno dovranno essere come dire come dicevo prima indirezzati e visti in questa direzione altrimenti è naturalmente UTI e poi speriamo anche fusione dei comuni quindi tanto più il ragionamento che andiamo a fare adesso è un ragionamento che il piano regolatore siccome è un piano regolatore flessibile almeno nella parte così operativa e per questo motivo va rivista ogni 5 anni ci potrà consentire questo strumento di poter rivedere e rileggere la città sulla base di nuove esigenze ecco perché e questo è un plauso che va appunto all'amministrazione e ai professionisti per il fatto che questo strumento a differenza degli anni passati è innovativo anche in questo perché è uno strumento come dicevo flessibile e ci consentirà di poter fare delle modifiche un altro punto che volevo così toccare è quello degli incentivi allora non ripeto in che cosa consiste la rigenerazione urbana è stato detto io credo che però per fare ciò ci devono essere degli incentivi a prescindere da quelli statali diciamo sulle ristrutturazioni edilizie che negli ultimi anni hanno dato dei buoni risultati io credo che bisognerà mettere in campo altri altri incentivi incentivi che possono quindi va bene la perequazione la compensazione dei diritti volumetrici eccetera ma per quanto riguarda almeno la parte del comune sui tributi locali potremo mettere degli incentivi proprio per per dare ancora altre opportunità ai cittadini e su questo aspetto mi pare che è stato mi pare il consigliere Zanotte ha parlato di social housing io credo che per quanto riguarda le abitazioni oggi servono altri tipi di abitazioni perché le famiglie sono di più famiglie composte da una persona o da due persone tanti anziani che vivevano in una casa magari grande perché in quegli anni si faceva la villetta come diceva Del Bortoli o la villa e magari l'anziano è rimasto solo e con con la necessità di dover riscaldare l'abitazione stessa pagare le tasse su un'abitazione di una certa dimensione ma non solo l'anziano ci sono tante persone singole persone sole che vivono per scelta sia adulti sia giovani e quindi nel costruire una nuova città bisognerà pensare anche a questo anche al fatto appunto di avere delle abitazioni di dimensioni ridotte che siano a misura di persone vado alle conclusioni l'assessore Toffolo diceva che il comune ha fatto le scelte e il comune fa la propria parte il resto naturalmente lo farà chi? lo farà il mercato lo faranno i cittadini in forma singola privata in forma associata gli imprenditori e così via il tempo dirà se questo strumento è stato uno strumento utile per per tutte queste questi attori io credo di sì naturalmente si poteva fare di meglio naturalmente i frutti non saranno al 100% però perché certezze assolute chiaramente non ce ne sono se non almeno alcune che sono quelle che ho detto all'inizio il resto appunto si vedrà però io credo che questo piano sarà in grado di dare delle possibilità degli strumenti sarà in grado di creare sviluppo e rinnovamento grazie a che cosa? grazie a delle micro azioni che appunto ognuno potrà mettere in campo dicevo prima che per questo motivo non è non è solo importante dare degli input ma mantenere questi livelli ecco la sfida che attenderà la prossima amministrazione cioè quella di dare appunto degli strumenti ma anche quello poi di poterli salvaguardare di poterli tutelare di poterli in un certo senso proteggere quindi sarà importante sapere eleggere la città nella maniera in cui si evolverà così come è stato fatto in passato e così come chiudo con un pensiero che era quello iniziale e proprio per questo motivo l'amministrazione non si è seduta su se stessa ma ha avuto uno scatto in questa direzione grazie 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 il consigliere Martino e alla parola il consigliere Daniello Sonia grazie grazie presidente allora innanzitutto parto anch'io con i ringraziamenti all'assessore e ai tecnici agli architetti che ci hanno presentato questo lungo percorso ma grazie proprio all'aspetto narrativo di questo percorso sono riuscita a seguirlo nonostante io non sia proprio per niente una tecnica di questa cosa e non lo abbia mai seguito in vita mia e non sia una delle mie particolari attenzioni però insomma credo che come hanno detto i colleghi in precedenza sia il piano che gli studi esposti siano perfettamente esaustivi e quindi dobbiamo solo che promuoverli però io mi sono concentrata soprattutto per fare le mie considerazioni osservazioni evidenziare alcune perplessità su alcune parole che ricorrevano in questa narrazione e quali sono state che mi hanno attirato anche hanno suscitato in me una curiosità quali sono state intanto città attrattiva e competitiva sostenibilità e diminuzione di consumo di suolo l'idea di perequazione e compensazione e non per per ultimo ma perché particolarmente attenta l'idea di partecipazione bene mi aspettavo che dopo 30 anni in questo grande piano regolatore uscisse una teoria un'idea di una città nuova la città deve ridiventare con questo piano una città attrattiva competitiva e ho cercato anche come avete esposto nei documenti che ci avete fornito come poteva diventarlo credo che dovevamo partire esattamente da ciò che è la storia di questa città cioè una città che si si è sviluppata in questi anni grazie al manifatturiero ma grazie alla Zanussi che oggi non c'è più è vero ed è quello che oggi constatiamo tutti oggi non ci sono più grandi industrie non c'è più molta occupazione è una città in sofferenza ma che vogliamo far diventare una città che si connette tra i vari quartieri con questi corridoi verdi ma che vuole e ha l'ambizione di diventare territorialmente una città sovracomunale per essere diceva un architetto un passaggio che mi è piaciuto una città aperta con forti potenzialità e il punto su cui far leva è la ricchezza che già abbiamo non espandendola ulteriormente quindi senza colate di cemento che ci sono stati in abbondanza ricordo che anche in questo consiglio ci siamo dibattuti parecchie volte incolate di cemento che non avevano nessun senso ma sostenendo lo sviluppo dell'esistente viviamo in una città in sofferenza però che però tutto sommato se la cavicchia e quelli che la vivano riescono a dire boh insomma è a metà vivibile la città però non può uscire dal dal mercato altrimenti diventa una città fantasma faccio fatica però a capire quale sia l'idea e la filosofia che guida l'intero piano verso questo futuro avete parlato sentito parlare di città a misura di bambino beh lo si parlava ancora al tempi di pazut di città del bambino io non lo vedo affatto più volte ci siamo rivolti anche all'assessore per chiedere che i percorsi strada scuola ZANUT fossero accompagnati dall'amministrazione e fossero sicuri non dal punto di vista che ci fossero le telecamere ma sicuri dal punto di vista della viabilità dal punto di vista dei percorsi e purtroppo c'è stato risposto che non era possibile soprattutto in alcune scuole abbiamo chiesto anche che le zone 30 fossero non solo appese come cartello e cartellonistica ma fossero applicati i principi della zona 30 perché grazie alla mia associazione sono andate a visitare città molto vicine alla nostra quale Trento Bolzano e queste sono praticamente città vivibilissime dal punto di vista dei ragazzini e dei bambini quindi forse qualche suggerimento prima bisognava accoglierlo città universitaria neanche città fiorita città dei servizi non so chi più ne ha più ne metta vedo e sento ma non trovo in questo piano regolatore un'idea effettiva di città o città del futuro un sogno di città qual è? non lo so io non lo trovo penso solo che se volessimo per esempio diventare una città accogliente e competitiva quindi capace di attrarre dovremmo tenere in larga considerazione l'aspetto sociale una città sociale ciò vale a dire innalzare gli standard di vita percepita dai residenti non è ben chiaro in questo piano dove l'amministrazione vuole investire e se vuole investire dove il privato deve investire invece al posto dell'amministrazione con opere di urbanizzazione primaria per questo rafforzamento del sistema produttivo che grazie al quale dovremmo rilanciare la nostra città con energie rinnovabili con un potenziamento del sistema dei servizi sovracomunale ma quali sono i miglioramenti le sovrastrutture gli strumenti che mette a disposizione l'amministrazione sentivo prima il collega Martino che chiede infrastrutture che chiede sgravi fiscali e quindi a favore di chi a favore di che cosa e quelli che già risiedono cosa fanno non è chiaro in che modo credete di attrarre i giovani al potenziamento e alle cure di queste aree agricole nel nord della città quali strumenti volete offrire a queste giovani giovani e giovani coppie che vogliano investire il loro futuro in queste aree e in questi campi come scelta di vita chiaramente ma in questo innumerevole volume di parole che non ho capito se avete vi siete mai chiesti chi vuole investire a Pordenone oggi e su che cosa non credo che ci siano grandi grandi personalità che vogliono venire qui ad investire ma vi siete chiesti il perché non credo mi sarebbe piaciuto sentir parlare di un piano che persegue il concetto di sostenibilità a partire da una serie analisi della attuale società che vive a Pordenone per una politica di urbanizzazione in opposizione a ciò che è stato finora mi pare di aver capito perché c'è un lungo elenco di quelli che sono gli errori e le criticità quindi i nei di quello che è stato fatto finora ma e che ha voluto le amministrazioni precedenti una città che doveva a tutti i costi e in tutte le direzioni crescere potevamo potevate partire da strategie da investimenti da quali strumenti partire per la riduzione della disoccupazione del degrado urbanistico dell'inquinamento ambientale acustico parole usate e sentite più volte in quest'aula come valori fondanti ma di difficile attuazione in commissione assessore ad una mia domanda precisa lei e anche l'architetto mi avete risposto il piano non è prescrittivo resta tutto una promozione migliorativa quindi tutto sul davarsi su tutto sul divenire e sulla speranza che qualcosa possa accadere e cambiare ho invece apprezzato molto i voli pindarici che qualcuno ha chiamato così dell'architetto Giannelli nel prestare attenzione ad alcune aree di questa città forse volevamo proprio questo il volo pindarico perché a me manca mi sfugge volevo capire dove pensavate di costruire il polo scolastico che manca il polo sanitario che manca le realtà del social housing che mancano qui non ci sono bene non riesco in effetti a scorgere lo scatto dinamico di questo piano regolatore che faccia sperare nel cambiamento voluto un'altra delle parole è sostenibilità e diminuzione del consumo di suolo che si lega con il punto della perequazione della compensazione termini rubati dall'urbanistica alle scienze del diritto di fatto stiamo ancora vivendo e non lo dico io che faccio un'analisi non faccio analisi sociologica un momento di crisi economica è visibile da tutti come si riesce a immaginare un miglioramento della sostenibilità degli stili di vita senza pensare a rimodellare il neoliberismo che ha significato minori investimenti pubblici e quindi riduzioni dei servizi eccezione in questo piano per l'unico aspetto di cooperazione sovracomunale poiché sono inserite alcune iniziative atte al miglioramento della mobilità sostenibile con particolare attenzione al servizio pubblico per il resto tutto è indirizzato all'iniziativa privata salvo poi giocare la buona carta l'asso nella manica della perequazione della compensazione diminuzione di consumo di suolo e sostenibilità degli interventi vorrei capire a cosa è legato e quali sono i costi e i benefici di tutta questa cosa che non sono sicuramente legate a linee di equità e benessere sociale certo che le azioni di sostenibilità ambientale ce lo dice e ce le indica il programma europeo l'AIF 2014 2020 che ce lo chiede ma ci dà anche mette a disposizione parecchi bandi per le amministrazioni pubbliche forse abbiamo bisogno di concentrarsi proprio su questi progetti che alcuni ce li avete già presentati come progetti sovracomunali sostenete la città sostenibile in senso stretto si tratta di uno spazio di elevata concentrazione di consumi e di impatti ambientali in costante squilibrio energetico ma lo può essere se armonizziamo il centro con la periferia bene è compito della politica costruire ed armonizzare il diritto ad avere una città vivibile credo e non può essere in contrapposizione con i termini di città competitiva quindi una città attesa alla promozione dello sviluppo economico locale come l'agenda 21 che peraltro già è adottata dal comune di Pordenone certo se la città avesse condizioni ambientali migliori sarebbe più attrattiva ma attrattività e sostenibilità e competitività non devono essere termini che si contrappongono e in tutto questo discorso capisco che gli incentivi a rimettere in moto tutta la catena della produzione e della rigenerazione energetica saranno in mano a chi ha soldi gli altri invece lo vivono e lo vivranno come un costo aggiuntivo non all'altezza delle proprie possibilità e quindi manca l'incentivo e il sostegno alla fascia di popolazione che non può permettersi queste cose e come farete ad occuparvene di questo e questa un'idea di coesione sociale di equità cittadina bene e qui si legano i concetti ben enfatizzati e sottolineati dall'architetto Giuliani di perequazione e compensazione termini nuovi che se non ho capito male la perequazione urbanistica ha come finalità la realizzazione di quanto ho previsto nel piano urbanistico permettendo ai proprietari e leggo proprio le sue testuali parole di accordarsi tra di loro riguardo alla concentrazione di volumetrie all'interno di una determinata area in modo tale da non creare svantaggi ad alcuno quindi dice lui non nuocere a nessuno che è uno dei valori base su cui si punta il piano regolatore che nell'ambito della realizzazione di quanto previsto nel piano urbanistico dà la possibilità ai proprietari di determinate aree di realizzare su alcuni lotti una concentrazione delle volumetrie e nel contempo negli altri la realizzazione di opere di interesse collettivo allora io parlando con alcuni architetti più o meno gufi se li volete chiamare così visto che è un termine che gufi gufi mi suggeriscono questa idea un po' bizzarra che si sono termini nuovi ma seguono una pratica molto antica alcuni comuni che non hanno i soldi per espropriare e costruire un'area per realizzare un'opera pubblica possono ottenerli concedendo a privati diritti di costruzione equivalenti queste operazioni sono conosciute con il termine di accordi di programma che molto spesso danno un notevole spunto elettorale mi dicono alle amministrazioni che le praticano questa pratica è stata indicata come una delle principali cause del moltiplicarsi delle aree urbanizzate dato perché che per costruire palestre e spazi di pubblica utilità le amministrazioni hanno fatto spesso ricorso a questo facendo costruire l'equivalente spesso il doppio in volumi tutto questo è aperto e non è prescritto Assessore partecipazione beh insomma dire che è un processo partecipato questo della del del piano regolatore nonostante la lunghezza degli incontri eccetera eccetera e a me alcuni sono piaciuti per la narrazione non è di sicuro chiedere è di sicuro chiedere troppo e questo non è un modo di fare partecipazione e quindi di responsabilizzare di stendere un patto di corresponsabilità con i cittadini che hanno partecipato sono entrati in quelle aule per intervenire forse vi siete ridotti ad ascoltare alcune critiche vero ma che ormai anche i sassi di via di corso mazzini lo sanno partecipare è tutta un'altra cosa ed ha tutto un altro significato beh insomma ribadisco che voli pindarici non non ci sono stati ma non perché ci sia stato il coraggio di scegliere come diceva il collega franchini ieri qui non c'è stato proprio coraggio è vero con questo piano cercavo di scoprire il sogno di una città futura di una città che voleva cambiare volto forse cercavo il volto umano per cui molti cittadini sindaco le hanno dato fiducia quattro anni fa grazie consigliere Daniello consigliere Cabibbo prego grazie grazie presidente anch'io mi unisco ai ringraziamenti all'assessore Toffolo e a tutti i tecnici che hanno lavorato molto per la redazione di questo piano regolatore e devo dire che è stato anche molto interessante la presentazione di ieri perché chi non ha partecipato alle commissioni ha avuto anche modo di conoscere alcuni aspetti in modo particolare di tipo idrogeologico di sicurezza del territorio che altrimenti non avremmo avuto modo di verificare credo però che ci sia stata proprio anche nella presentazione di questi lavori un eccesso di tecnicismo che forse è un po' il male della politica dei nostri tempi cioè la incapacità della politica di decidere di avere un orizzonte ampio che possa dare delle linee di indirizzo a lungo termine viene colmata per diversi motivi attraverso quasi una sorta di delega e non dico delega in bianco ma una delega molto molto spinta ai tecnici che naturalmente sotto diversi profili non sono attaccabili cioè come potrebbe un consigliere in un consiglio comunale che deve votare il piano regolatore soffermarsi su aspetti tecnici se non è l'architetto Giannelli o se non è un cultore della materia tra l'altro esatto voglio dire cioè che naturalmente il dibattito che è stato un dibattito molto ampio ha toccato dei punti che sono stati punti politici non ho visto questi punti politici né nel breve discorso introduttivo del sindaco né nella presentazione dell'assessore Toffolo quindi se devo dire per quale motivo questo piano regolatore non può essere sostenuto dal gruppo a cui appartengo che è già ampiamente intervenuto sul tema metto al primo punto il fatto appunto che non ci avete convinto cioè attraverso quella che è stata l'esposizione del dato politico non ci avete convinto a votare sì a questo progetto quindi al di là degli aspetti tecnici della materia cerco di cogliere alcuni punti perché non credo che ci abbiate detto e lo ha bene sottolineato ieri il collega Giannelli quali sono i fatti urbani quali sono le dieci cose importanti che voi proponete per questa città per i prossimi 30 anni per migliorare per attrarre e per far crescere questa città credo cioè che nel momento in cui si debba approvare il piano regolatore al di là ripeto delle questioni tecniche ci si debba chiedere quale città vogliamo lasciare ai nostri figli 30 anni fa qualcuno ha discusso ha progettato ha deliberato noi oggi facciamo altrettanto ma non credo che da questo piano regolatore esca un'idea precisa con dei punti delineati di quello che vogliamo consegnare ai nostri figli e soprattutto credo che proprio per questa incertezza per questa quasi incapacità di decidere di dare dei punti chiari ci si sia un po' anche rinunciato a dare una visione nuova della della città di Pordenone cioè credo che questo piano regolatore non dica qual è l'idea di questa amministrazione di questa maggioranza rispetto alla città da consegnare ripeto ai nostri figli c'è quasi una rinuncia lo ha detto anche la collega Daniello adesso non so se è la consigliera Daniello che si deve preoccupare o se sono io che mi devo preoccupare ma diverse delle cose che ha detto le devo condividere pienamente questo forse anche a dimostrazione del fatto che al di là delle idee politiche certamente diverse alcuni fatti oggettivi vengono rilevati ripeto appunto a prescindere da quelle che sono poi le concezioni politiche che ognuno che ognuno ha mi sembra ripeto di cogliere una sorta di rinuncia a alla decisione o forse ancora peggio a una presa dato di quella che è l'attuale situazione l'attuale momento economico finanziario commerciale commerciale della città e ci sia una sorta di rinuncia a fare in modo che questa situazione o una presa d'atto di un'impossibilità a fare in modo che questa situazione cambi e Pordenone possa ritornare ad essere una città attrattiva già il fatto stesso di pensare ad un piano regolatore in cui il totale degli abitanti insediati e insediabili è di 57.000 circa persone quindi con un aumento stimato di circa 5.000 abitanti mi fa pensare che c'è una rinuncia vogliamo cioè che i nostri figli decidano di vivere a Pordenone o vogliamo continuare a fare in modo che i giovani non dico vadano all'estero perché quello è un altro discorso ma vadano a vivere a Fiume Veneto a Cordenons a Porcia ad Azzano Decimo vogliamo diventare una permettetemi la provocazione una periferia di Azzano Decimo cioè una città che sogna ma non è un sogno nella concezione sessantottina della fantasia al potere cioè è un progetto che progetta al proprio futuro vogliamo che non sia in grado di pensare al fatto che Pordenone è una città che è destinata a crescere e non a in qualche modo diminuire o a implodere su se stessa mi dispiace che non ci sia stata questa questo coraggio o comunque questa capacità questo quindi come diciamo linea generale come osservazione generale si parte quindi da una idea che è appunto quella di dire basta l'espansione edilizia il sindaco ha parlato di un equilibrio naturale sostenibile benissimo però il punto è che voi non venite dalla luna voi venite da una storia di amministrazione di questa città che dura come minimo da da 15 anni vi siete proposti e siete in continuità con le amministrazioni precedenti con le giunte precedenti e quindi anche con quella variante 77 che diceva cose molto diverse da quelle che dite oggi in questo piano regolatore cioè voglio dire benvenga questa idea dell'equilibrio naturale sostenibile ma vuol dire anche allora che siete in contraddizione con quello che fino ad ora era stato fatto e cioè incubature e cioè cose tipo l'ecomostro cose tipo nuovi quartieri ad esempio torre nord completamente privi di servizi di parcheggi di marciapiedi di strade adeguate all'aumento della popolazione di scuole adeguate all'aumento della popolazione allora dire che non è possibile una crescita che non ci sarà una crescita mi pare un po' quell'idea della decrescita felice che secondo me si usava e andava di moda qualche anno fa ma il mondo cambia rapidamente ed è ormai questa dell'idea della decrescita felice un'idea assolutamente superata la decrescita felice è l'idea di chi ha la pancia piena e decide che può rinunciare a qualcosa qui mi pare che la crisi ci abbia messo nelle condizioni invece di doverci rimboccare le maniche di ripensare a tutta una serie di cose per poter crescere in modo felice non decrescere e quindi non ritrovo grandi progetti in questo piano regolatore che possano in qualche modo aiutare il sistema della produzione e del commercio se non il riuso delle aree dismesse il miglioramento energetico ma è poca cosa soprattutto il commercio non ho visto idee importanti fatti fatti urbani che possano andare nella direzione di aumentare il commercio la produzione e anche ad esempio la questione della sicurezza parcheggi piste ciclabili aveva ragione Giannelli nel dire che non possiamo pensare che la gente venga ad abitare in centro se non ci sono i parcheggi per i privati se non ci sono le strutture che rendano appetibile questo tipo di scelta e mi dispiace anche che l'assessore Toffo lo abbia detto che chi avesse oggi le soluzioni sarebbe un millantatore me lo sono proprio segnato perché non vorrei ma forse poi nell'intervento che avrà l'amministrazione potrà chiarire anche questo pensiero che sia una sorta di rinuncia ad imprimere un indirizzo proprio per quel tecnicismo di cui parlavo prima allora non condivido non condivido l'idea che la zona nord di Pordenone debba essere destinata a una attività di tipo agricolo avete rinunciato all'idea di tenere il carcere a Pordenone lasciamo stare il discorso dell'ospedale perché sarebbe come sparare sulla croce rossa tanto per rimanere in te avete rinunciato al carcere date una destinazione agricola alla parte più sicura dal punto di vista idrogeologico della città questo i tecnici l'hanno messo ben in evidenza sia soprattutto per quanto riguarda la sofferenza idraulica molto bassa che per tutte le altre questioni la zona nord era la zona e questo è stato forse il grave errore dei decenni passati che doveva invece svilupparsi più delle altre proprio perché è una zona che ha delle caratteristiche idrogeologiche e idrauliche che la reno più sicura e meno esposta ai pericoli e a quelle questioni di emergenza che il sindaco definiva come questioni sulle quali bisogna giocare in difesa e quindi perché invece la scelta di sottolineare una vocazione agricola che francamente non credo che questa città abbia avuto negli ultimi 40 anni non siamo Piacenza non siamo Pavia siamo una città che di fatto non ha un territorio al di là diciamo dell'ambito urbano vero e proprio purtroppo siamo schiacciati a est a ovest a nord e a sud è una città che ha non ha territorio è una città che vive della sua urbanizzazione interessante il discorso del città che ha voltato le spalle al fiume e che invece si volta nuovamente a guardare il noncello con una nuova possibilità di coinvolgimento del fiume rispetto all'idea di città però come cioè se ci limitiamo a considerare che va chiusa la via riverasca per poterci andare a fare le passeggiate o le sagre francamente mi sembra ben poca cosa cioè il noncello va valorizzato ma va valorizzato nel modo in cui lo diceva l'architetto Giannelli cioè con una possibilità di vivere attraverso degli impianti sportivi dei luoghi di incontro per le famiglie per i bambini il fiume e la città circostante ancora l'idea della perequazione e della compensazione non ci sono nuove aree di espansione non ci saranno nuove aree di espansione si creerà quindi questa sorta diciamo di mercato o di banca dei volumi dei cubi ma anche questa è un'idea da ricchi per i ricchi per chi ha già così come la decrescita la decrescita felice allora a parte le questioni tecniche che giustamente ha sollevato anche l'architetto Giannelli ieri cioè sulla possibilità anche tecnica di andare da un notaio a dire voglio fare un atto di cessione di questo tipo di cubatura o di volumetria ma il problema è chi potrà sfruttare queste cubature cioè chi verrà a Pordenone per quale motivo i giovani che non hanno possibilità economiche dovrebbero poter avere la possibilità di acquistare un appartamento e di vivere la propria vita a Pordenone cioè voglio dire chi ha i volumi li potrà sfruttare economicamente arricchendosi quindi ancora di più ma chi questi volumi non li ha non li potrà acquistare perché non avrà la possibilità di farlo proprio da un punto di vista economico allora capite che anche il discorso del social housing che qualcuno prima ha citato era un discorso molto importante che è stato liquidato in poche in poche righe all'interno di questo piano regolatore e credo che invece sempre di più per l'attuale situazione dell'economia nazionale ma anche per quello che può essere il futuro se vogliamo diventare una città attrattiva su questo argomento non è stato fatto non è stato fatto abbastanza i giovani quindi andranno fuori sarà una città sempre di più di anziani di persone che hanno in passato acquistato immobili e tenuto le loro cubature le loro volumetrie per darle a non si sa chi non c'è una idea precisa di vocazione e non c'è a parte anche le questioni legate alla mobilità eccetera ma non voglio non voglio dilungarmi troppo non c'è nemmeno nessun riferimento ai rapporti con i comuni confinanti cioè abbiamo più volte in questo consiglio comunale parlato di conurbamento di si parla di uti ma non c'è nulla sulla gronda nord sul ponte sul meduna sulla cimpello sequals gemona abbiamo ragionato in un'ottica secondo me un po' troppo ristretta e anche un po' troppo pessimista un po' troppo pessimista per questo per questo spero di non aver diciamo dimenticato i punti così che mi ero in qualche modo segnato ripeto che non ci avete non ci avete convinto come ha detto il consigliere Dalmas sottoscrivo pienamente in zona Cesarini è stata proposta una variante che era un nuovo piano regolatore in zona Cesarini vi assumete la responsabilità di consegnare una città ferma che tende a chiudersi su se stessa e non ad aprirsi forse era meglio aspettare e dare la possibilità a chi effettivamente avrà le idee nuove ovviamente non so chi sarà ma mi auguro e mi aspetto veramente una ventata di aria fresca perché questo piano regolatore è il piano regolatore di un'amministrazione stanca che non ha avuto la capacità di avere un orizzonte ampio e che consegna ai nostri figli una città mediocre grazie consigliere Capibbo consigliere Passoni prego una sì scusa una domanda gli emendamenti li spiegate tra il primo e il secondo intervento oppure dopo il secondo intervento giusto per capire non ho capito scusami no la domanda che faceva l'assessore ma comunque l'amministrazione se la la spiegazione sugli emendamenti la facevate tra il primo e il secondo intervento sì ma me l'ha già chiesto anche ma all'inizio mi sembra che l'assessore vi ha parlato se lo spiegate io quello della maglia gli altri sono dei refusi però per quello ritenevo che non fosse necessario comunque se li spiegate tra il primo e il secondo rinuncio al primo e farò il secondo intervento se no faccio il primo l'amministrazione dovrebbe intervenire dopo alla chiusura del secondo intervento questo per quanto riguarda le risposte ma a questo punto rinuncio e facciamo la seconda fase così andiamo al secondo intervento faccio l'intervento sul secondo intervento va bene va bene allora chiudo chiudo i primi interventi se l'amministrazione mi chiede di intervenire comunque devo sempre dare la parola se vuole dare un'illustrazione sull'emendamento così poi prego assessore grazie presidente allora per quanto riguarda l'emendamento che è stato consegnato ieri adesso no decisamente allora relativamente all'emendamento che è stato consegnato ieri io ne spiegherò una parte cioè quella che figlia e come ho già ieri avuto più volte occasione di spiegare è figlia di una confronto e di un dibattito che ci ha portato a decidere una strada diversa rispetto a quelle che erano le previsioni del piano sull'area Amman e poi invece passerò all'architetto Longa per quanto riguarda la parte degli emendamenti che correggono dei refusi presenti nel piano regolatore allora il quinto emendamento così sembra malissimo l'emendamento numero 5 meglio affronta la scheda che è stata che è all'interno del documento relativa al cotoneficio Amman su questo noi avevamo immaginato di prevedere una destinazione secondaria rispetto a quella principale che è appunto quella legata alla caratteristiche idrogeologiche di quell'area di quell'ambito che prevede la possibilità di realizzarvi attrezzature ricreative e attrezzature complementari alla risidenzialità oltre che alla sua valorizzazione per la produzione energetica ovvero tutte destinazioni che non determinano un incremento urbanistico oltre a questo appunto nella scheda veniva mantenuta come destinazione secondaria l'identificazione degli 8000 metri quadri di grande superficie destinata al commercio che erano già presenti nella legge del 93 perché questi poi potessero essere utilizzati in funzione della rivalorizzazione e la riqualificazione dell'archeologia industriale e in proporzione a questa operazione in altri ambiti della città e prevalentemente nella zona del PIP per appunto dare un incentivo al mantenimento e alla riqualificazione dell'archeologia industriale si decide invece con questo emendamento di stralciare la destinazione secondaria e si modifica l'ultimo paragrafo dell'articolato dicendo che la finalità è quella dell'avere una maggiore flessibilità in quelle che saranno le possibili scelte future praticabili dall'amministrazione finalizzate esclusivamente alla riqualificazione architettonica della parte archeologica perché l'amministrazione è conscia che da un lato la giusta vocazione di quell'area e la corretta vocazione rispetto a quella che è la situazione e quella identificata nel piano ma memori del fatto che questo edificio di questo complesso di edifici rappresenta un tassello importante della storia di Pordenone ci e si dovranno impegnare noi come l'amministrazione futura a capire nel momento in cui si andrà a presentare una situazione effettiva di possibile intervento quelli che saranno i migliori incentivi localizzati in quella situazione per garantire il mantenimento della memoria storica finalizzati al mantenimento appunto della parte archeologica e questo è l'emendamento numero 5 per quanto riguarda invece gli emendamenti relativi ai refusi passo la parola all'architetto Longa e anche il microfono sì gli emendamenti che sono stati proposti sono essenzialmente dei refusi di stampa quindi sono delle piccole correzioni per rendere coerente tutto il testo e l'apparato normativo quindi non so sono talmente specifici che se volete possiamo darne lettura oppure ok sono state tolte dalle parti perché le ultime modifiche sono state apportate appunto su documenti differenti quindi sono rimaste appunto delle parole da sistemare delle virgole delle cose veramente semplici se per l'aula è sufficiente grazie grazie sessore bene apro al secondo intervento prego consigliere Passoni sì no no ma io cedo devi parlare tu no no assolutamente ho rinunciato al primo intervento proprio perché è troppo lungo e avrei potuto farlo visto che c'erano molti e numerosi spunti diciamo da parte dei colleghi ma invece preferisco dire una cosa importante intanto ringrazio per la parola ringrazio soprattutto diciamo l'assessora mi permetto di chiamarla così Martina per dare più significato al genere femminile e naturalmente a tutti i tecnici non solo diciamo esterni ma anche quelli di struttura del comune perché so che è stato un lavoro veramente impegnativo perché io penso che oggi secondo me è una giornata importante per la città di Pordenone spero che lo sia anche per l'Europa in altri ambiti visto che stanno decidendo un po' del nostro futuro che inciderà anche sulla nostra città mi auguro che anche lì sia o possa essere una giornata importante io credo che stiamo adottando un bambino direi visto che molti hanno usato questa parola un bel bambino che ci aiuterà nel futuro a far crescere questa questa città e non è vero sì è vero che forse non c'è un disegno forte chiaro che la città sarà industrializzata o manifatturiera peccato che però la situazione socio-economica non ci consente di avere questo sguardo era più semplice una volta dare uno sguardo certo di quello che doveva essere la città oggi invece dobbiamo avere una struttura che cerca di recuperare le cose sbagliate fatene passate e ce ne sono state perché pensiamo solamente chiedo scusa chiedo scusa chi è che ha detto questa cosa vabbè allora perdona si fanno perdere un po' il filo stavo dicendo che una volta era molto semplice e vabbè e quindi ci sono stati degli errori anche consistenti io penso sempre al discorso delle rogge che sono state chiuse con l'industrializzazione c'era la città di fare case condomini strade e non si guardava l'aspetto urbano ambientale paesaggistico le caratteristiche di questo luogo è così bello che io dico non disprezziamolo così già come oggi ma noi con questo piano con questo bel bambino vogliamo riportarlo nel senso un ritorno al futuro perché questa città ha avuto genesi dalle acque da questo fiume Naonis che ha dato sviluppo agli opifici ricordiamo in particolare il cotonificio ed è per questo che credo che sia importante anche questo emendamento che aiuta in qualche modo a un recupero dell'archeologia industriale perché noi non possiamo continuamente cancellare la memoria di questa città e faccio degli esempi io quando ero in circosizione e chiedo scusa io spero e mi auguro che non vengano cancellate perché questa è la mia convinzione quella prima esperienza mi interessai ovviamente insomma all'attività e al quartiere a un certo punto c'era il problema grosso consistente della scuola non so se ve la ricordate la vecchia scuola elementare che era sulla piazza a torre che facevano quella strettoia che quindi portava grande pericolosità bene in sottoscritto insieme ad altri consiglieri e insieme alla cara signora Ines Mantovani che mi diede una mano raccogliemmo ben oltre mille firme per chiedere all'amministrazione quella volta era Pasini che governava questa città e in quell'occasione Pasini fu attento anche se fece una distruzione totale della piazza perché la nostra proposta era quella sì di ridurre cioè migliorare la viabilità quindi diciamo allargare un po' la strettoia che era molto pericolosa ed era piena di incidenti ma nello stesso tempo salvaguardare la famosa casa della contadinanza che invece fu abbattuta brutalmente allora così facendo io penso che se uno non diciamo non ha memoria di quello che è la sua storia poi alla fine è anche difficile che possa progettare un suo futuro e quindi io penso che anche quella piccola archeologia industriale che è rimasta purtroppo e voglio ricordare anche a molti amici della nostra maggioranza che uno dei più bei interventi non solo quello ma diciamo che ho ascoltato dall'attuale vicepresidente della regione Sergio Bolzonello è stato quando in fine legislatura disse appunto che il punto nero della sua attività amministrativa era proprio la man perché non eravamo riusciti a dare una risposta che ancora oggi manca quindi io credo che perché bisogna essere onesti intellettualmente sulle cose non possiamo dimenticare questi aspetti e io credo che bene fa l'amministrazione a mantenere il recupero dell'archeologia industriale seppur io personalmente sono convinto che un incentivo era utile perché la cosa potesse avere un respiro ma va bene anche questa mediazione che aiuta tutta la maggioranza diciamo a condividere questo aspetto importante di un pezzo della nostra città ma che è anche un pezzo della nostra storia di cui non possiamo assolutamente rinunciare dicevo appunto che questo bel bambino mi permetto di chiamarlo così questo piano ci aiuta a correggere gli errori fatti nel passato ma non dico colpevoli persone nel loro singolo tecnici ma una filosofia dovuta al momento al grande sviluppo industriale che ha comportato quel tipo di errori ora il fatto che noi oggi di fronte a diciamo a queste situazioni che hanno creato se volete un danno allo sviluppo della città oggi poniamo rimedio perché la vogliamo recuperare dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista diciamo degli edifici esistenti nel centro e anche nelle periferie cioè questa rigenerazione cosiddetta urbana che ovviamente parte diciamo dalla convinzione che il futuro è anche in un forte risparmio energetico che può essere l'incentivo che secondo molti non verrà dal privato e io invece sono convinto che il privato fatti i debiti conti tenterà di farlo certo se si recupereranno delle risorse pubbliche tanto meglio tanto meglio io penso che il discorso che faceva il collega Pedicini e cioè l'opportunità in alcuni casi dove abbiamo questi capannoni vuoti la possibilità magari di ridurre per un certo periodo l'imo ma questo lo verificheremo strada facendo quante risorse saranno disponibili sia come comune sia come come regione perché la regione non so adesso quante risorse potrà mettere ma certamente questo potrà aiutare in questa in questa rigenerazione e io sono convinto che aver in qualche modo bloccato la parte nord bloccato nel senso di traguardare il futuro perché noi dopo di noi ci sarà qualcuno no? e noi non possiamo pensare di coprire tutto il suolo di questo territorio che è già abbastanza coperto per cui il fatto che si fa una salvaguardia in qualche modo a nord con questa prospettiva comunque di di fascia agricola con i famosi corridoi ecologici che ci aiuteranno a ricollegare comunque l'ambiente al centro storico e a riscoprire le rogge e il noncello nella forma dovuta con la valorizzazione necessaria io non penso che non sia un volo pindarico è un volo è un volo reale è un volo importante io penso che questa sensibilità che c'è nella città verrà e viene diciamo confermata e condivisa nello stesso piano ecco io quindi penso che non possiamo neanche pensare che la città non sia contenta di questo piano che noi andiamo ad adottare anzi io penso che sarà contenta poi se ci sarà qualche osservazione verrà affrontata perché c'è un periodo per la pubblicazione c'è un periodo per le osservazioni per le opposizioni e anche quelle verranno discusse e sulle quali valuteremo in questo consiglio io io penso quindi che farebbero bene anche quelli delle minoranze a cercare di votare questo piano perché questo è un piano che cerca di rilanciare il ruolo della città in una forma flessibile una forma flessibile perché i tempi purtroppo sono questi dove non c'è la certezza quale sarà il futuro sviluppo della città del nostro territorio tenete anche conto che scusa dieci minuti pensavo pensavo di più va bene ringrazio e auguro comunque vorrei solo concludere un attimo proprio perché sono appena uscito dai termini che mi sento di rivendicare proprio questi principi che sono dentro questo piano penso che il PD è stato antesignano con la scelta che fece sul fiume scusate sull'ospedale perché sull'ospedale perché in quell'occasione abbiamo e io ringrazio il sindaco che qui l'occasione ha ascoltato bene e ha ritenuto di non bruciare 40 ettri di terra agricola per cui sì mi sento di ringraziarlo in questo caso e penso che sia stata una buona scelta che tutti alleati di maggioranza anche delle opposizioni dovrebbero riflettere perché oggi nelle condizioni in cui siamo quella scelta sarebbe stata un disastro altro che rivendicarne la cosa che poi avete portato anche voi alla fine del vostro mandato quindi consigliere concludere sì però io ho rinunciato a 30 minuti vabbè chiedo scusa ho capito chiedo scusa chiedo scusa però sì grazie grazie a lei non vedo nessun altro iscritto consigliere Ribetti prego arrivo in zona Cesarini rischiate che chiuda perché francamente non si può non replicare a certe affermazioni ma adesso prendo spunto dalle ultime di Passoni consigliere Passoni perché sono proprio le ultime non le di tempo ma ce ne sono un altro paio di cose che ho sentito dire dai colleghi di maggioranza che francamente mi trovano poco d'accordo Passoni cosa volevate fare di più hai rivendicato hai detto che questo piano che questo piano è il Mars l'hai chiamato il bambino bello francamente io credo che sia il compitino adesso con rispetto per i professionisti che hanno fatto un grande lavoro perché la colpa secondo me non è vostra perché l'abbiamo detto tutti in quest'aula voi avete avuto delle linee delle direttive quindi le avete messe in atto quindi mi dicono di fare così faccio così però francamente io credo veramente che non sia un grossissimo un bambino così bello io l'ho riconosciuto ieri nel mio intervento ho detto trovo carino l'aspetto del fiume l'avrei enfatizzato ancora di più se si ricorda l'assessore Toffolo ma di cose belle ce ne sono poche quello che invece mi è piaciuto molto Passoni è stato il mia culpa che stai facendo che hai fatto implicitamente forse a nome del PD e forse a nome dell'intera maggioranza mia culpa che tu hai fatto in maniera magari implicita ma qualcun altro che fino alla scorsa amministrazione sedeva dall'altra parte ha fatto in maniera esplicita e mi riferisco all'intervento della collega Cardin che non vedo in aula che è stato un intervento di una onestà intellettuale di una chiarezza come pochi se ne sono sentiti in quest'aula la collega la Francesca Cardin è stata precisa puntuale nel ricostruire nel ripercorrere lo scempio che l'amministrazione ha fatto le amministrazioni che vi hanno preceduto guarda caso di questo colore hanno fatto in questa città avete inondato la città di cemento quando stamattina all'inizio del suo intervento il collega Bianchini che ringrazio dopo solo 2 minuti e 46 secondi mi citava lo ringrazio e diceva che gli aveva attribuito il fatto che non sapesse leggere i dati è vero Bianchini non sai leggere i dati perché tu è inutile che mi fai vedere oggi che avete ridotto le concessioni già date ma parlate delle concessioni che avete dato in passato con delle varianti varianti su varianti per riempire la città di cemento e adesso venite a dirci che questo piano sarebbe bellissimo perché parla di ambiente perché parla di riduzione del cemento allora signori credo che ci sia un limite a tutto anche nel voler cercare di prendere per il naso nel rispetto del gioco delle parti ognuno di noi perché se mi dite che siamo stati bravi oggi nel fare un piano con delle direttive che salvaguardano l'ambiente e vanno a ridurre le colate di cemento allora mi state dicendo che voi stessi che avete premuto il pulsante in quest'aula uno, due, tre, quattro anni fa non siete stati bravi e lo facevate per far cosa? per far sorridere a chi? a scapito di chi? dei vostri concittadini allora signori voi che chiedete la coerenza siate i primi a dare coerenza agli altri siate i primi un altro intervento di stamattina mi riferisco adesso al collega del santo che forse essendo entrato ci diceva ieri nella sua nuova età ha più tempo per leggere i giornali ti do ragione ho letto anche i giornali del santo però sai chi dà quelle notizie ai giornali che dice a noi di non leggerle secondo te chi li dà chi li fornisce i dati ai giornalisti l'amministrazione forse quindi è chiaro che i giornalisti prendono i dati dell'amministrazione quindi noi non viviamo tu dovresti forse preoccuparti più parlare con i tuoi concittadini ve lo ricordate quel cartello che è rimasto su via non mi ricordo se via Cividale o via Gemona quella che viene giù dall'altro da via Le Grigoletti per andare su via della Ferriera credo sia via Cividale lì è rimasto un cartello per non so quanti mesi che ringraziava il precedente sindaco delle colate di cemento vai a parlare con i tuoi concittadini chiedi se sono contenti di quello che avete fatto che tu adesso mi vieni a dire mi vieni a dire che siamo tutti i dati Pordenone l'83% di qua il 24% di là i professionisti ci hanno detto siamo la quarta area se non sbaglio quarto capoluogo di provincia per verde pubblico però non lo percepiamo se non lo percepiamo la colpa è di qualcuno e dei cittadini pordenonesi che non lo capiscono o forse un po' di colpa c'è anche l'amministrazione che non ci aiuta a percepirlo io faccio anche un esempio in quest'aula abbiamo discusso un'interrogazione qualche tempo fa dopo una domenica il Pordenone lei forse non so se lo sai il Pordenonese lei no non credo ecco è stato promosso la Lega Pro l'anno scorso dopo anni quest'anno è anche già retrocesso ma non importa è stato promosso forse veniamo ripescati ma così non mi piace giocare la Lega Pro da ripescato da ripescato non mi piacerebbe giocarla una delle prime domeniche anzi partita decisiva tutti vanno allo stadio chiaramente i vigili oberati da super lavoro riempiono la città di Mule riempiono tutti i pordenonesi in multe l'amministrazione attaccata l'amministrazione si difende come ma noi non c'entriamo niente avevamo messo a disposizione i candiani gratis i candiani un parcheggio peccato che non l'avevano segnalato a nessuno ecco allora quello che volevo dire abbiamo siamo la quarta capoluogo ma qualcuno fa qualcosa per dirlo siamo a disposizione io ho presentato un'interrogazione stasera sa perché prendo lei perché lei non è pordenonese quindi forse ha la mente un pochino anche se ha una cattiva consigliera di fianco strizzo l'occhio perché non si vede la registrazione e ho presentato un'interrogazione perché tempo fa c'era una manifestazione molto bella di questa città che era il cinema sotto il cinema al parco mi sembra si chiamasse che era il cinema al parco Galvani io mi ricordo da piccolo ci andavo era un momento d'incontro si stava assieme si entrava si guardava il cinema e si usciva ieri sera in uscita da questo consiglio comunale sono stato fermato da tre persone che conosco madre con due figli che mi dice ma se pagano il cinema all'aperto dico guarda chi lo sappia non si è mai pagato ho scoperto perché sono andato a chiedere che ci mettiamo anche un custode che fa il controllo che adesso il cinema all'aperto a Pordenone si paga non so se voi lo sapevate colleghi io non lo sapevo si paga tre euro per gli adulti chiedo scusa io dico ai miei tempi non si pagava perché io non ho mai pagato e non ho scavalcato le cizioni per andarci allora allora quello che volevo dire quello che volevo dire siamo dalla parte dei cittadini o non siamo dalla parte dei cittadini la comunicazione c'è o no la comunicazione non c'è vogliamo fare qualcosa per i nostri concittadini o vogliamo non fare non entro non continuo il discorso perché io l'ho scritta interrogazione e chiaramente non anticipo il dibattito che avremo in quella sede la risposta che mi dovrà dare lui perché se no mi risponde visto che sono bravissimi a domanda e risposta ecco un aspetto sul quale vorrei tornare che non è importante ma di più è stato toccato da parecchi colleghi io l'ho toccato io stesso ieri è a mio modo di vedere che in questo piano regolatore c'è una visione troppo piccola passoni tu nel tuo intervento forse prendendo spunto da quello che hanno detto ieri che ha detto ieri anche l'assessore Toffolo dice è un piano flessibile che da un certo punto di vista può essere può essere qualcosa di positivo ma io da un piano regolatore mi aspetto che mi dia uno scenario nessuno chiede ai professionisti dell'amministrazione di avere la palla la sfera magica la palla di cristallo non ce l'ha nessuno sarebbero tutti bravi così però non può essere un non indirizzo da un piano regolatore io non posso leggere sulle sull'industriale che abbiamo già troppi capannoni ci limitiamo a mettere un po' degli ettari sopra di fotovoltaico quando sappiamo com'è la situazione sul fotovoltaico non mi può bastare che tu mi vieni a dire quello che io ho detto ieri nel mio intervento lo sto ripetendo che tu oggi mi vieni a dire è la situazione di crisi oggi è di crisi domani vorrei partire io nel mio intervento ieri nella mia domanda ho detto ma se riparte il piano regolatore dice qualcosa no non prevede niente prevede che oggi siamo in crisi ma non mi deve venire il professionista a dirmi lo so io lo sai tu lo sappiamo tutti allora il piano regolatore fatto come Dio comanda ripeto non per colpa i professionisti a mio modo di vedere doveva dare delle indicazioni forti Pordenone ha abdicato il suo ruolo di città capoluogo di provincia mandiamo il carcere a Sacile e a San Vito l'ho detto ieri perdiamo l'indotto costi per il trasporto Pordenone l'unica cosa buona che c'è in questo piano sapete qual è a parte quel accenno sul noncello e il fatto che non ci sono più cattedrali nel deserto di museali contenitori che spero non metterete dentro con qualche variante spero spero che almeno quello abbiate la decenza di non fare questo credo sia l'unico aspetto positivo e vado a concludere sulla percezione che ha dato quest'opera che avete fatto io non sono l'unico credo che qui dentro siamo in 40 di opposizione siamo qualcuno in meno credo credo che quasi tutti siamo stati contattati da qualcuno che aveva qualcosa da ridire eccetera ma adesso io non voglio entrare sulle questioni non voglio richiamare neanche la questione del corvo che non mi interessa è una questione che riguarderà la magistratura però la percezione la percezione di come avete gestito la questione del piano regolatore da parte dei cittadini o di gran parte dei cittadini è una percezione pessima c'è la gente in giro che prima è sfiduciata secondo è altamente scettica su come è stata gestita la questione e ripeto non sto parlando del corvo ci sono state gente che ha analizzato le procedure ha analizzato i verbali ha analizzato tutto quanto e hanno riscontrato parecchie anomalie quindi dico quindi dico io non sto parlando io dico quello che mi è stato riferito quindi io dico che anche dal punto di vista della percezione esteriore e sto chiudendo Presidente da parte dei nostri concittadini avete lasciato molto desiderare grazie grazie consigliere nessun altro iscritto pertanto scusate ma vabbè prego consigliere piccinato mi fate dire sempre la stessa frase grazie Presidente allora nel primo intervento ho detto tutta una serie di cose adesso procederò con aggiungo un'altra serie di cose ma prima vorrei rifare un piccolo punto su quello e vorrei domandare al consigliere Tomasello perché parla adesso però ho trovato davvero una finalmente una visione su questo piano però una realizzazione troppo frettolosa davvero sfogli scritti male con errori con refusi io su questo non non posso sicuramente dire che sia stato fatto il lavoro nella maniera migliore presentarlo tra 15 giorni eliminando tutti quelli che sono gli errori le cose che c'erano forse andava bene a tutti e ne è un esempio anche l'emendamento che avete proposto in aula questa sera perché evidentemente non era completo il lavoro mi fa specie anche il fatto che i vecchi proclami che io ricordo si parlasse di cubi zero cubi addirittura sotto zero eppure sembra che nei vari tre scenari non sia esattamente così è una scelta è una scelta politica ma non mi risulta che sia quanto veniva sbandierato tempo addietro per quanto riguarda il molino Zuzzi il molino Zuzzi non ripeto non trovo quella giustificazione dal punto di vista del traffico per poter fare un cambiamento di questo tipo perché dal mio punto di vista non è così forte l'impatto sul traffico e quindi è un'operazione che non riesco a capire per quanto riguarda invece dal punto di vista dell'immigrazione avete estrapolato un concetto che avviene in altre che è già stato messo in piedi in altre realtà regionali sempre a guida PD però quello di dire importiamoli tutti qua e diffondiamoli nel territorio avete scritto nella relazione in maniera capillare beh forse forse mi viene da domandare ma quanti avete intenzione di importarne di clandestini immigrati eccetera eccetera perché anche della relazione voi dite convintamente che l'immigrazione è capace di fare innovazione e dite convintamente che volete fare creare delle politiche sociali abitative specifiche per loro quindi io a un certo punto dico quindi anche per voi esiste il cittadino normale esiste l'immigrato per cui volete fare politiche sociali ad hoc quindi anche lì non lo so se partite prevenuti decidendo che l'immigrato è diverso e quindi ad hoc oppure dopo cambiate idea e non si sa ma evidentemente un problema in questo punto esiste come è già stato detto ieri fino a ieri c'è stata una bella cementificazione a Pordenone veramente ampia che ha puntato su centri commerciali enormi io auspico che quantomeno adesso questa stagione sia effettivamente finita e che da oggi si possa davvero dire avete già fatto danni adesso almeno da quel punto di vista basta davvero basta perché non non se ne può più ma poi sempre quello che è un attimo ritorno un attimo sul discorso dell'immigrazione che si ripercuote in più punti nella relazione io non vorrei che a un certo punto visto lo spopolamento della città di Pordenone che si ripercorre anche nelle cifre e nelle previsioni di diversa natura che ci sono che si vada ad avere delle delle riqualificazioni edilizie per poi avere i clandestini in classe A ecco questo io sinceramente non sinceramente lo trovo alquanto preoccupante e quindi effettivamente mi dicono che soffrendo il caldo magari lì sarebbero ancora meglio per quanto riguarda invece il la questione economica del piano ecco trovo che il piano dal punto di vista economico non sia sostenibile nel senso che è un bellissimo piano un bellissimo libro dei sogni e gli interventi che spingono a rifare a bellire a sistemare aggiungere quello che volete sono veramente tanti però sono costosi e dal punto di vista della città non so se poi ne abbia un effettivo beneficio tant'è che appunto uno studio all'interno della relazione io non l'ho trovato e mi scuso se ci fosse da qualche parte ma evidentemente appunto non ho avuto la possibilità di documentarmi su tutto ma proprio per inaccessibilità anche dei vari file ma non ho trovato una relazione da questo punto di vista che possa dire la città ne trarrà economicamente beneficio nel lungo periodo quindi e beh assessore io posso dubitare di questo tipo di visione ecco allora dico che da questo punto di vista secondo me bisogna agire in maniera corale per poter dire insieme a tutte le altre città e tutte le altre realtà limitrofe per dire da oggi noi tutti assieme avviamo un piano di riqualificazione perché altrimenti rischiamo che davvero ci sia uno spopolamento della città perché qua inevitabilmente i prezzi si alzano perché nel momento in cui io faccio la casa molto più bella molto più anorma molto più interessante più sicura più efficiente eccetera è evidente che i prezzi si alzano e io mi chiedo se oggi la città si può permettere un'attrattività di questo livello cioè di dire oggi stiamo già perdendo cittadini però abbiamo fatto un piano che adesso alzeremo i prezzi delle case perché il risultato sarà quello e ci aspettiamo che i cittadini corrano a Pordenone non è dal mio punto di vista per l'estremo costo solo per il costo delle case che la città sta lentamente spopolandosi ma anche e soprattutto perché per tutta un'altra serie di motivi quello del lavoro quello dell'attrattività del territorio per la mancanza di politiche di turismo eccetera 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 e potremmo andare avanti già ieri citavo la questione della natalità che anche qua è totalmente carente noi appunto evidentemente noi voi pensate che la città possa andare avanti a importare clandestini e non a fare natalità propria e questo davvero è un problema dal mio punto di vista poi guardo un attimo come ultimi due temi questioni un attimo più ambientali perché trovo anche dal lato del verde che si proceda ancora con un occhio di riguardo per l'ambiente e questo è sicuramente giusto ma non ci si renda conto che si va sempre un po' troppo rispetto a quello che poi la città può sostenere nel senso che anche lì aumentare costantemente il verde è un costo e soprattutto in questo momento diventa magari sempre meno sostenibile se poi l'economia riparte allora si può anche ripartire effettivamente a dare un ottimo sbocco al verde ma dire subito diamo la priorità lì beh ecco io qui ci starei molto più calmo perché oggi credo che la priorità sia quella di aiutare i cittadini in difficoltà e sono tanti e sono sempre di più perché è la mancanza di lavoro perché è la mancanza di solidarietà perché le famiglie sono sempre più disgregate perché le persone sono sempre più sole che siano anziane o malati ma anche semplici padri di famiglia che hanno avuto divorzio o madri che si ritrovano abbandonate quindi anche lì direi diamo una priorità alle persone prima di tutto il resto perché appunto come abbiamo visto in questo momento effettivamente c'è una cattiva percezione sociale che porta anche a non vedere il verde che c'è per cui è inutile aumentare il verde se poi non si può fruire l'ultima questione è quella della via Riviera Asca io vorrei che la cittadinanza potesse riappropriarsi effettivamente della Riviera Asca poterla vivere poterla anche godere con tutta una serie di strutture che oggi mancano che non permettono alla popolazione di effettivamente di vivere la Riviera Asca e quindi di questo me ne dispiace chiudo qui e ringrazio grazie consigliere beh adesso non c'è più nessun iscritto pertanto dichiaro chiuso il secondo intervento do la parola all'amministrazione prego amministrazione sta nel gioco nei ruoli eh allora beh innanzitutto no i chiarimenti li abbiamo già esauriti ieri pomeriggio ciò non toglie che dividerò l'intervento in in due parti pur cercando di essere molto breve una per dare alcune risposte a questioni che sono emerse eh durante il dibattito anche alcuni dati e poi per trarre alcune considerazioni innanzitutto però voglio ringraziare tutti i consiglieri che hanno eh che sono intervenuti perché in qualsiasi eh intervento sia stato fatto quello che emerge è una un'attenzione alla propria città quindi per questo ringrazio tutti naturalmente sono state dette tante cose e tra queste alcune puntualizzazioni sento utile farle soprattutto quando vengono citati dei dati che non sono suffragati da da elementi effettivamente sostanziali qui mi piglio un secondo eh un attimo di tempo per specificare quelle che sono state le dinamiche della nostra della crescita eh della nostra città perché ehm è corretto sempre attribuire a tutti i soggetti le proprie responsabilità però nella misura in cui le hanno effettivamente determinati Pordenone vede la grande percentuale del suo territorio costruito cioè del 41,2% dal 1946 al 1971 tra il 72 e l'81 c'è un'ulteriore crescita importante quello che si diceva agli anni della Zanussi cioè il 23,7% successivamente ogni decennio è più o meno cresciuto in modo costante del 10% cioè vuol dire che tra l'82 e il 91 il 10% tra il 92 e il 2001 il 10% e tra il 2002 e il 2009 il 10% naturalmente dopo il 2009 questa percentuale è estremamente calata perché era anche il nostro territorio ha risentito del della crisi che ha investito il settore dell'edilizia e questa cosa è anche palese in quelli che sono le quantità presenti nelle nostre varianti io credo che i consiglieri che si sono riferiti puntualmente come alla variante 77 ovvero quella variante che ha aumentato l'edificabilità a Pordenone in modo impressionante si siano sbagliati come riferimento perché la variante 77 che è del 2011 che era una variante dei servizi ha diminuito di un milione di metri cubi la previsione edilizia quindi questo mi dispiace e il dato certo io non sto a giustificare ma guardi io sto abbiamo anche pazienza anche noi ne abbiamo tanto evidentemente bene per quanto poi quando il consigliere Dalmas ma procedo per quanto no mi sembra la ringrazio per il bella signora per quanto riguarda la questione sulle zone H e D e sulla preoccupazione della non identificazione di nuove zone in ampliamento devo anche far presente che in fase di completamento a livello regionale una norma regionale che prevede per tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia la non possibilità di aumentare zonizzazioni già vigenti di zone D ed H d'altro canto la regione stessa prevede la possibilità di concedere varianti su iniziative corredate da piani di sviluppo industriali quindi l'ottica che sta portando avanti la regione è quella del dire siamo disponibili alla trasformazione del territorio anche da agricola industriale o produttivo nel momento in cui questo è supportato da un quadro economico di sviluppo industriale che dimostri che questo effettivamente non è solo un'operazione speculativa dal punto di vista del contenitore edilizio bensì ha una sua effettiva concretezza nello sviluppo invece impreditoriale del territorio quindi il piano regolatore è perfettamente allineato a questo che è un disegno di legge appunto in fase di compimento da parte della regione come d'altro canto è in quest'ottica che noi abbiamo anche pensato non c'è più il consigliere Pedicini che il lasciare il cercare di avere la massima libertà per quello che può essere la vocazione e la trasformazione delle aree industriali vada proprio a sollecitare a sostenere questa possibilità di ripensamento del nostro patrimonio produttivo industriale in un'ottica più coerente rispetto a quelle che sono le domande che il mercato oggi fa e quindi mi sembra che anche su questo punto la linea coincida con quelle che possono essere le effettive ricadute che il territorio richiede ora per concludere io mi sono trovata particolarmente in accordo e apprezzato in modo particolare gli interventi di alcuni consiglieri naturalmente dei consiglieri di maggioranza perché abbiamo condiviso un lungo percorso quindi per me era mi sono sentita nei loro interventi confortata per quello che il risultato che abbiamo portato ecco ho molto apprezzato l'intervento del consigliere del Ben che sposo in tutti i suoi aspetti e che come sempre ha saputo legare l'idea dello sviluppo con quella che è la nostra storia e le radici profonde che ci permangono è logico che se noi invece immaginiamo e questa amministrazione immaginasse la possibilità di sviluppo coincidente con trasformazioni edilizie pesanti impattanti e che vogliono stravolgere quello che è ormai un filo anche debole che rappresenta il nostro territorio questo non risponde alla nostra idea abbiamo fatto questo piano regolatore con un'altra logica abbiamo cercato di renderlo coerente di rendere appunto come abbiamo detto all'inizio una piattaforma una piattaforma che fosse in grado di coordinare e di rendere coerenti tra loro l'interesse collettivo che l'amministrazione in primis ha l'obbligo di sostenere e di valutare e di mantenere e di preservare con quello che può essere la pulsione che proviene dal nostro territorio dai nostri cittadini dalle nostre imprese dalle nostre industrie e dalle associazioni che sono a Pordenone questo abbiamo cercato di farlo preservando tutto ancora che abbiamo di prezioso cercando di mantenerlo e di potenziarlo in modo che l'eredità che noi lasciamo ai nostri figli consigliere Cabibbo sia puntata nel dargli una città in ordine sana dove si vive bene perché nella dimensione dei 50.000 abitanti che siamo e che sappiamo essere una dimensione anche dal punto di vista teorico ottimale lei è in grado di rispondere come città a quelle che sono le esigenze dei cittadini che la vivono che sono quelle del viverla serenamente dal punto di vista recreativo ma trovarvi anche le risposte per il proprio lavoro per il tempo libero e per le relazioni e questo abbiamo cercato di fare credo che sia fondamentale provarlo questo strumento perché il piano regolatore è uno strumento che lavora insieme ad altri ed è nel cercare di attuarlo che inizia la vera sfida noi abbiamo fatto un primo passo lo abbiamo pensato lo abbiamo condiviso lo abbiamo disegnato adesso inizia la vera la vera sfida quello del metterlo in atto su questo abbiamo ancora delle partite aperte che giocheremo insieme e che andranno a definirne meglio i contorni però da domani da quando questo strumento diventerà effettivamente strumento di lavoro ne potremo vedere tutte le potenzialità e avremo e questa è una cosa unica anche la possibilità mano a mano di valutarne le possibili problematicità avendo il tempo anche di mettervi rimedio cosa che fino ad oggi non abbiamo mai avuto e non abbiamo avuto la possibilità di fare ringrazio tutti i professionisti gli uffici e tutti i consiglieri per queste due giornate grazie solo due parole finali io volevo ringraziare per il dibattito che abbiamo avuto certo le contrapposizioni sono evidenti e le visioni politiche diverse sono evidenti ma a mio avviso non ci siamo mai discostati da quello che era il filo conduttore di questo lunghissimo consiglio comunale che era alla fine uscire dopo 30 anni scusate avevo sbagliato il primo giorno non erano 40 sono solo 30 dopo 30 anni con un piano regolatore che rifletta i grandi cambiamenti che nella città di Pordenone ci sono stati e ci saranno ancora io sono convinto credo di averlo ripetuto spesso nell'ultimo periodo che a volte non siamo perfettamente conscii di quali sono le nostre potenzialità e come questa città sia una grande città solo che siamo apparentemente un po' scettici di esserlo bene questo piano va nella linea di rafforzare il nostro senso di essere una grande città pronta ad andare verso quelle trasformazioni anche di tipo politico che sono davanti a noi io faccio solo riferimento a due delle cose che sono sono state sottolineate il fatto di portare il piano regolatore adesso e quando dovevamo portarlo voglio dire ci sono dei momenti storici che a prescindere da quelli che possono essere tatticismi di tipo elettorale esigono delle posizioni delle scelte il fatto di farlo adesso io non so sono stato lusingato dal sentire la parola coraggio è un dovere adesso dobbiamo farle queste cose per essere pronti poi visto che i segni della ripresa ci sono a essere pronti a cavalcare con uno strumento nuovo le potenzialità di questa città primo secondo si inserisce in quello che sono i grandi cambiamenti politici che stiamo e avremo da affrontare stiamo vivendo e dovremmo affrontare la creazione delle uti che è stata più volte citata dipende solo da noi da come la vogliamo interpretare vogliamo essere veramente la città che poi tutti hanno indicato dovremmo essere da sempre quella che ancora non ha un nome e che va diciamo da Fontana Fredda a Zoppola oppure vogliamo continuare a confrontarci tra isole di tipo diverso alla fine non creando quelle identità e quelle potenzialità di programmazione di territorio che noi abbiamo cominciato ad affrontare proprio in questo piano regolatore secondo me adesso è il momento adesso dobbiamo avere la forma anche mentale per riuscire proprio a usare appieno questi vantaggi che ci verranno che ci sono proposti e che sono poi dipende solo dalla nostra abilità a saper svolgere oppure meno l'ultimo è il tema della partecipazione che è stato citato varie volte lungi da noi dire di essere stati perfetti nel organizzare questa partecipazione immagino che ci siano si possa sempre migliorare il tema della partecipazione certo che l'abbiamo perseguito fino in fondo perché alla fine dal 2012 questo momento continuo di ascolto con la città l'abbiamo perseguito l'abbiamo anche documentato come ho detto nella mia dichiarazione iniziale ecco io una cosa però volevo sottolineare scusate la grande franchezza per me partecipazione è confrontarsi con tutti liberamente non solamente con alcune nicchie elitarie che magari usano semplicemente Facebook per rapportarsi con la pubblica amministrazione ve lo dico con serenità secondo me partecipazione pur rispettando i social network come canale di comunicazione di scambio di informazione disponibile a tutto poi si traduce in altre cose molto più precise e in altre cose molto più fattive e misurabili dal punto di vista delle proposte quindi convinto che quello della partecipazione sarà il tema della nostra futura politica non ci sono ombre di dubbi visto anche i mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione secondo me il modo giusto per iniziare in modo fattivo la vera partecipazione è quella che noi abbiamo tracciato proprio in questo piano regolatore grazie penso che di aver concluso questa lunga lunga cavalcata i ringraziamenti li abbiamo già fatti a chi ha lavorato tanto adesso vediamo l'ultima parte del nostro dibattito grazie signor sindaco bene passiamo ora alle dichiarazioni di voto consigliere Giannelli prego allora mi ha visto una volta per tutti la variante 67 di 7 2 e un piano di una cosa quindi basta con queste storie attività la città sempre cambiata con i suoi governanti abbiamo partecipato di una bella per la gente che avete sentito al paracuolo ma di però in generale ci vediamo sparato l'eropinio non avete buoni subito gli amministrati sono raccomandoli non c'era blanda non c'era città di un'ora per l'interfondo proprio sull'immunale che città bene circolazione di superficie di l'initiativa gli amministrati nuova lì non esiste gli amministrati una zona di zaffidare salvare un disastro rotatore rotatore sull'estratale Tredos non esistono rotatore sull'init anche solo con la segnalità che vennerò rilancio del centro storico adeglamenti 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 paraliati adeglamenti sull'estratale non c'era non c'era rinca un solo solo s'anere e che espirano piatta verano fa che apprezzo anche la possibilità di adeglamenti 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 sull'immunale alcanza rotatore potrebare le due piani di parqueti intervatti di sull'estratale parqueti imprevede vedi neanche lontano gioco della colina prima polta nord della città potrebare la distancia non c'era poco la reumente è meglio stare in centro da spedare pensate che mi sarebbe il cro se avessimo stato in centro alzare 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 centro studi non esiste potrebare esiste il nuovo centro studi la città per rispondere sull'estruti in pieno centro per andare al campo sportivo sapete che sarebbe di valore politica per la città più social e extracomunitari dove è un tornafero in un enorme problema proprio che del venito positiva solo integrazione culturale non c'è una proposta del riscaldamento in tutta Europa si fanno przestrani biomasia per portare il riscaldamento nei nuovi padri costo del riscaldamento da crescaldamento un centro e un pari oltre oltre abitare un po' duro ci po' duro duro nel verde non è possibile fare scuola nel verde si ha qualche pasiglia non avrete eliminato i piani affortivi chiamati l'impact e via due un disastro vi vedo quello che avete scritto voi hanno i piani hanno i tempi che faccio la ristrutturazione e riqualificazione di altre persone della città avrà la facilità rispondi che sono ancora tutti 80 80 di ogni prossimo che oggi fanno aumentare la vendita di posizione cioè chi ha gli appartamenti sui continuerà a godinare perché non ha più investito 30 caro mas la chiamavano paracinare il consumo di suono si attiene parlando di tipologia di rischio la tipologia attore che io credo andato da livelli di nano sabbia nome a lino racco quasi interno di un patrimonio andando in affetta e facendo gioco insieme per equazione condiziazione vi sono sempre chiamo 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 Grazie a tutti voi. Voi avete disegnato una città che non affiererà mai in privato, una città che viverebbe sempre più di voi, perché non arriverà in diversi messi. Voi avete disegnato i fatti urbani, quei fatti urbani attorno ai quali la città che ha generato. Vi avete disegnato e non ho fatto vedere alcuni. Questa è una città che non conoscerà mai e quindi stiamo facendo il sole fondamentale. Noi non lo vediamo. Il nostro ruolo sarà per il momento dell'esercizio. Non ho scelto il grande lavoro di come svolta l'esercizio e l'esercizio. Grazie consigliere. Consigliere Giust, prego. Grazie. Dopo questa maratona lunghissima, per me particolarmente, perché non essendoci abituata, siamo un po' a tirare alcune conclusioni che però sono molto significative. Io sono veramente onorata di aver partecipato a questa discussione lunga e ho ascoltato molti interventi di qualità, ho apprezzato la relazione, l'introduzione dell'assessore, della precisazione politica del sindaco, gli interventi tecnici sicuramente e anche molti interventi della nostra maggioranza. Mi sono un po' persa, se devo dire la verità, nelle osservazioni innumerevoli della minoranza. Mi sono sentita tirare un po' di qua e di là in una visione di città che veniva citata ma così contrapposta nei diversi interventi che poi sono andata a immaginarmela questa città diversa. Allora, da una parte noi siamo stati paragonati a una maggioranza arrogante perché abbiamo osato presentare un piano regolatore, forse sarebbe stato più opportuno appunto non presentarlo perché verso la fine, a ridosso delle elezioni, rischiamo un po' di più. Sì, ci assumiamo questo rischio e ne siamo molto contenti. Tornando alle comparazioni di città, mi veniva in mente quando qualcuno della minoranza diceva voi sinistra non avete idea di quale città voi abbiate davanti, sembrate completamente scollegati perché chi potrà andare a chiedere compensazione di cubatura? D'altra parte qui, insomma, sembrava di essere nel quartiere Zen di Palermo oppure alla vecchia Sesto San Giovanni o a Scampia. Qualcun altro ha detto ma voi non avete idea di dove vi trovate perché vi rivolgete solo a una città di ricchi. Quindi, insomma, veramente ne ho sentite un po' di tutti i colori. Adesso concludendo e sempre rimanendo un po' su una visualizzazione di città che invece potrebbe essere quella potrebbe essere quella che mi viene in mente pensando alla Man, pensando alle prospettive che questa quello che il piano regolatore mette in piedi e dà l'opportunità di sviluppare sembra di più a una Bruges per esempio o una Montpellier, cioè voi avete e voi tecnici con il supporto ovviamente poi di tutta la maggioranza messo a punto un piano regolatore che è strutturale, che rende possibili adesso, messa in sicurezza la città con un tessuto che ci è stato spiegato è piuttosto fragile e va protetto, la possibilità di implementare. E noi siamo proprio orgogliosi di questa visione di futuro. Assolutamente non sono d'accordo, non siamo d'accordo con coloro che indicano invece una mancanza di coraggio e una mancanza di visione. Al contrario, aver perimetrato una città e aver chiesto che questa città non vada oltre e quindi aver costretto una speculazione edilizia a non esserci non è mica una cosa scontata, ci sono soluzioni economiche in altri contesti urbani che invece a lei magari costruiamo perché intanto diamo da lavorare a qualcuno. Quindi io trovo assolutamente coraggiosa invece questa scelta che da qua in poi ci permette sì di costruire interventi operativi ma perché c'è una struttura di fondo che è assolutamente intelligente ed è una struttura di fondo di lungo respiro. Quindi a nome di tutto il gruppo del Partito Democratico noi siamo assolutamente a favore del piano regolatore. Grazie. Consigliere Ribetti, prego. Grazie, grazie Presidente. Consigliera, si chiama democrazia. Democrazia. Sa quella cosa strana per la quale anche alle minoranze è consentito dire il proprio pensiero ed esternare la propria visione delle cose. Si chiama democrazia. E voi che avete nel vostro nome e lo portate all'esterno mi fa particolarmente specie che non sappiate di cosa si tratta. O almeno non lo sappiate nel contenuto reale. Allora, lei ha detto una cosa sola, ho condiviso del suo intervento e mi sarei preoccupato se fossero state di più. Ho condiviso una cosa sola che abbiamo dato degli arroganti. Sì, siete arroganti. Ma ve lo spiego anche perché. Perché non mi limito a fare delle buttade così. Le spiego. Arroganti perché? Perché avete svilito l'opera, l'ottimo lavoro dei professionisti che voi stessi avete chiamato, per poi relegare in un angolino di fretta e furia a spiegare in un torrido, anzi in due torride giornate di luglio, di cui una senza aria condizionata, un piano che ci hanno messo due anni e passa a costruire, su un percorso che è iniziato per tanto tempo. Tutto per una fretta, non spiegata, perché l'unica spiegazione che ci è stata data ad oggi, e non voglio tornare su questo argomento, ma ci torno volontariamente, non a caso, è stata quella che non si poteva procrastinare questo dibattito perché il signor Sindaco non c'era, che doveva andare in ferie. Allora, siete arroganti, perché se le ferie del Sindaco vengono prima di un progetto di un'amministrazione per il futuro della nostra città, siete degli arroganti e continuo a dirvelo. Appurato ciò, volevo un attimino ritornare su alcuni concetti del perché questo piano non potrà avere il voto del mio gruppo, sono io solo, quindi il mio voto non lo vorrete. Ma non è una questione, non è una questione proprio, più di qualche volta, c'è l'astensione benevola, non ci può essere un'astensione benevola, primo per le modalità che avete seguito, perché di fronte all'arroganza, di fronte al menefreghismo per gli interessi della città, per non voler un dibattito aperto, non voler consentire un dibattito aperto e cosciente a tutti, non meritavate neanche l'astensione benevola. Ma soprattutto per quello che ho detto prima, per l'assenza di qualsivoglia indicazione precisa e l'elencazione l'ha fatta il collega Giannelli, che è tecnico della materia, è un tecnico a cui io mi sarei rivolto, ripeto, non ho le conoscenze, non mi stancherò mai di ripetere a verbale tutte le volte che ho detto, è dovere di un consigliere comunale prepararsi e bisogna cercare di farlo al meglio quando ci sono degli argomenti delicati, non è possibile che l'amministrazione non consenta il dibattito, io se ho voluto andare da Francesco Giannelli per parlare, per cercare di capire, non mi è stato consentito, non mi è stato reso possibile, quindi questo qua, questa, non lo so neanche perché mi verrebbe di quelle parole, guarda, no non mi devo cazzare, No, non mi fate perdere, non mi fate perdere, quello che ha fatto questa maggioranza è qualcosa di una... Sono arroganti, sono arroganti, brutta gente, arroganti... Presidente mi stai interrompendo, mi stai interrompendo, mi stai interrompendo, mi stai interrompendo, il comportamento che ha avuto questa maggioranza è stato un comportamento inqualificabile, e poi un'altra cosa, un'altra cosa ci tenevo a dire, l'ho già detta, battuta ribattuta, non è che avete fatto qualcosa di fantastico perché avete salvaguardato la natura, voi l'avete detto, voi avevate già dato tutto quello che potevate dare di edificabile a Pordenone, avevate riempito la città di cemento, e adesso vi rimangiate con le parole, con i fatti, quello che avete fatto negli ultimi 10-15 anni. E non solo la città per qualcuno. La questione... La questione... La questione... E vado a concludere, e vado, se mi fanno concludere, Presidente, vado a concludere, vado a concludere evidenziando un'altra... Qualcosa che è sotto gli occhi di tutti, prima il consigliere Passone, mi dispiace chiamarlo in causa, che mi è molto simpatico Marcello, però ha detto, ci ha tenuto a rivendicare la questione della scelta ottima di non fare l'ospedale, dell'unità della maggioranza, siete stati spaccati su quello, l'ospedale in Comina, il primo che l'ha proposto è stato il sindaco Sergio Bolzonello, ve lo ricordate o no? Chi è? Come mai? Ve lo siete chiesti? Come mai durante la campagna elettorale per i regionali nessuno del fiume attoccava l'argomento ospedale? Perché Bolzonello da una parte ci faceva la testa così di portare l'ospedale in Comina, il PD di Udine che ha costruito l'ospedale in project financing si poteva, invece a Pordenone il terzo lotto, invece a Pordenone il project financing era il peggiore dei mali, quindi un po' di coerenza ci vorrebbe, dai banchi della maggioranza e concludo, un po' di coerenza, il voto del mio gruppo sarà un voto negativo, e stucchevoli, arroganti e stucchevoli. Grazie consigliere Ribetti. Consigliere Piccinato, prego. Grazie Presidente. Io auguro subito, vista l'intolleranza della collega Giust, verso il dibattito, verso la diversità del pensiero dell'opposizione, di poter provare magari il prossimo giro, insomma, ecco, una sensazione in cui poter liberamente esprimere le proprie opinioni, perché magari non si è stati coinvolti nella maniera migliore, e quindi poter magari differire, perché non si è ragionato tutti assieme, nella maniera più consona. Ecco, quindi, insomma, un augurio, ecco, questo glielo posso lasciare di cuore. Per quanto riguarda invece questo piano regolatore che ci apprestiamo a votare, il nostro gruppo chiaramente voterà contro, anche perché evidentemente abbiamo già capito che questa sarà la campagna elettorale del candidato sindaco, del candidato sindaco, che magari, insomma, potrebbe essere uno piuttosto che un altro, piuttosto che un'altra, però immaginiamo che possa essere, insomma, una campagna elettorale sicuramente basata, sicuramente basata e pressante su questo rilancio di questo libro dei sogni, che è il piano regolatore, con cui dire, col cappello in mano, abbiamo, noi abbiamo fatto qualcosa che mancava da chissà quanti anni, che poi non importa che sia stato fatto ad hoc con la scadenza, non importa che magari comporti una serie di costi per la città che saranno difficilmente realizzabili, poi non importa che effettivamente si vada a creare tutta una serie di questioni che non vanno a risolvere molti di quelli che sono i problemi di Pordenone, però importante è che la campagna elettorale del sindaco poi avvenga attraverso questo documento dicendo noi abbiamo fatto questa carta che poi vuol dire tutto e nulla perché se poi non si applica, non si riesce a dare effettiva impronta anche con le finanze, allora questo documento risulta totalmente inutile. Grazie. Grazie consigliere Piccinato. Consigliere Collaoni, prego. Collaoni. Mi astengo assolutamente dal replicare come mi astengo per quello forse non si sentiva niente quindi mi astengo dal replicare le dichiarazioni di voto che mi hanno preceduto anche se in un certo senso meriterebbero ma in qualche modo mi pare di svilire questo momento che tutto sommato è abbastanza importante per le ragioni che sono state già abbondantemente esposte quindi mi limito semplicemente a annunciare il voto favorevole del mio gruppo Il Fiume. Grazie consigliere Collaoni. Consigliere Freschi, prego. Siccome fa parte il mio costume essere arrogante consigliere Ribetti faccio la mia dichiarazione di voto in pacatezza e le posso dire che questo percorso è stato un percorso che ha valorizzato i professionisti perché noi li abbiamo ascoltati nelle sedi opportune nelle commissioni abbiamo ascoltato abbiamo interloquito abbiamo posto dei quesiti abbiamo posto delle domande e abbiamo chiesto delle risposte a quei quesiti che ponevamo per cui io penso che nel momento in cui dei professionisti propongono un percorso sia giusto che colui il quale ha dato un mandato per delineare una strada sia sottoposto poi ci siano le sedi opportune per sottoporsi ad un confronto ad un dibattito ad un approfondimento per cui io ringrazio il lavoro colgo l'occasione per ringraziare il lavoro di tutta l'equipe sia quella interna al comune sia i professionisti esterni che sono stati incaricati del piano e quello che volevo sottolineare è che questo non è un piano che sottrae alla speculazione Pordenone non c'è possibilità di fare speculazione in un momento di crisi economica casomai c'è la possibilità di dare delle regole delle regole che nascono da una lettura del territorio e la lettura del territorio impone che ci siano dei percorsi nuovi certamente completamente diversi dal passato per cui anche non facilmente comprensibili che richiedono e forse qui la difficoltà e forse qui è quello che viene chiamato l'amministrazione ad essere il luogo del coordinamento il luogo dell'incontro il luogo della soluzione o perlomeno del suggerimento della soluzione dei problemi io penso che la difficoltà di questo piano sia quello che la macchina amministrativa comunale sarà sottoposta ad un lavoro completamente nuovo col quale dovrà confrontarsi questo penso sia il passaggio che io interpreto in maniera più difficoltosa e nella quale ripongo qualche preoccupazione perché so che la macchina sarà sottoposta a un lavoro completamente diverso dal passato con il quale dovrà confrontarsi e questo richiederà forse energie nuove per cui penso che nel momento in cui esprimiamo questo voto dobbiamo anche tener conto che la macchina amministrativa qualche problema certamente ce l'avrà perché dovrà confrontarsi con tematiche completamente nuove il fatto stesso di dovere affrontare un percorso così delineato pone in campo una continua e costante formazione e confronto sulle varie tematiche il nostro voto sarà favorevole certamente e sarà un voto che in qualche modo va a rafforzare un percorso che riteniamo nuovo e certamente virtuoso che però avrà tutte le difficoltà a cui facevo riferimento prima grazie consigliere freschi consigliere del ben 5 o 10 minuti 10 minuti grazie assessore Toffolo io penso che sia giusto ricambiare il ringraziamento di questa partecipazione al dibattito perché indipendentemente dalle posizioni tutti ne usciamo arricchiti se non altro di conoscenze del nostro territorio per cui il ringraziamento a chi ha dato vale anche da questa parte e su questo piano ci sono delle cose che dirò fra un attimo io però e vi chiedo scusa di questo fra parentesi sono rimasto molto preoccupato dall'analisi sociologica che ha fatto il consigliere Zanout il quale dice che su questa città c'è anche da costruire molto tessuto sociale non solo pensare ad altri aspetti e di solito io uso delle battute ma questa volta non dico che questa città sarebbe da esorcizzare perché dovremmo cacciare la paura di vivere la nostra città che forse questo sarebbe l'elemento più importante di quello che dovremmo fare chiusa parentesi vedo nelle conclusioni di questo piano quello che in qualche modo avete provato di farci vedere e che è un lavoro aggiungo anche partecipato che ha portato a determinare una piattaforma non che ha determinato a portare dettagli ma solo uno spazio una impostazione una norma che stabilisce il campo base un punto zero che dice salvaguardiamo il territorio c'era bisogno sì c'era bisogno di dirlo in modo fermo pensiamo al di là di tutto adesso al nostro futuro vediamo le potenzialità del nostro territorio di quello che è insediato sul territorio e della nostra gente allora se questo è un punto di partenza penso che siamo vicini quattro anni fa quando il sindaco ha illustrato il programma di questa amministrazione noi avevamo proposto anche degli emendamenti su questi emendamenti il sindaco ne ha accolti la metà e per noi è stato un momento positivo questo accoglienza di emendamenti però se ripresentassi gli stessi oggi me ne accoglierebbe di più mi accoglierebbe la valenza agricola di ciò che è al di sopra della circonvalazione di Viale Venezia e in modo particolare mi accoglierebbe anche quella necessità di mantenere nello stesso contesto le attività sanitarie ospedaliere la nostra proposta quella della mia coalizione che ha partecipato all'elezione era via Montreal 24 perché questo era l'ospedale nel luogo dell'ospedale e tante altre considerazioni che lo collocavano lì in termini propositivi quindi posso dire che c'è un avvicinamento fra le realizzazioni di questa maggioranza alle quali ovviamente non apparteniamo ma anche alcune proposte che erano nostre sul piano sul piano del programma elettorale vivo in questo momento un dovere il sindaco ha detto prima un dovere adesso colgo degli elementi che considerando che questo piano sarà definitivamente approvato a dicembre ed è giusto che sia un proposto in città nell'epoca della campagna elettorale di come vuoi definire i contenuti dentro questa piattaforma di cogliere degli elementi che possono essere tensivi dispersivi allora facciamo solo un piccolo esempio questa maggioranza questa maggioranza se tutto va bene sarà un terzo dell'elettorato e fuori fuori ci sono ci sono degli elementi di cambiamento di tensioni che dovrebbero essere valutati percorsi proposti analizzati e a differenza di quello che dice il collega Dalmas far sentire che una proposta di centro sinistra è meno lontano dai cittadini di quello che lui pensa allora qui secondo me è importante noi che apparteniamo ad un schieramento di cercare di fare queste proposte sociali urbanistiche di futuro che possono far sì che questo un terzo di questa maggioranza possa essere più ampio almeno ampio tanto quanto la la maggioranza regionale quindi più ampio di quello che è oggi che colga anche tutte le analisi gli aneliti le voglie di cambiamento le proposte che nascono dal da movimenti sul territorio giusto per rendere molto più vicino questa l'amministrazione con la colpolazione che che governa ma in più questo anche nell'ottica di essere sovracomunali e per me questo è importante perché potrebbe anche essere l'elemento di questa visione di un pordenone dentro una collettività più ampia gli elementi che possono essere aggreganti aggreganti dell'altro territorio è la salvaguardia dell'ambiente dire che non c'è più espansione edilizia la sicurezza ambientale che per noi è quella dell'acqua Roberto avevi ragione ci siamo fatti male con le nostre mani su il governo delle acque a Pordenone certo prima che noi nascessimo prima che fossimo concepiti però questo è uno degli esempi dell'avventatezza che possono portare ad alcune scelte che erano solo di mera finalità economica non di contesto sociale se poi mettiamo dentro anche che chi è venuto qua con il cognome Amman non era dei nostri vuol dire sì dobbiamo essere attrattivi per Pordenone ma essere attrattivi a persone che si integrano con noi se Pordenone è diventata grande perché c'è l'impegno il lavoro di tante persone che hanno lasciato le loro famiglie le loro case in Italia per venire qui ad essere produttivi quindi questo è un elemento di importante e forse utilizzando anche le esperienze di questa Pordenone ormai composita perché chi ha fatto qual militare poi si è fermato per costruire questa nostra città potremmo trovare quegli elementi anche di apertura di capacità di confrontarsi che possono far sì che le indicazioni di questo piano possono concretizzarsi in un disegno di città che sia più vicino a noi che abbiamo la barba bianca a quelli che poi inizieranno la loro vita in questo periodo ma specialmente per vivere un altro elemento importante sentivo parlare oggi della vita delle piazze nei quartieri dell'integrazione cioè dobbiamo utilizzare gli strumenti urbanistici e quello che ci viene proposto è sicuramente uno strumento che ritengo valido per creare tessuto sociale identità di vita e trovare anche insieme la nostra storia per questo il giudizio è positivo sulla proposta che viene fatto poi necessariamente dovendo ognuno rispettare i propri ruoli per noi è giusto che venga confermato questa posizione di astensione rispetto a quello che era il programma certamente nessuno nessuno può aver capito che l'astensione non vuol dire che non sappiamo da che parte stare da che parte siamo e da che parte stiamo l'abbiamo detto in modo esplicito grazie consigliere del ben nessun altro iscritto pertanto dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto e comunico di dare avvio alle procedure di votazione allora pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 25 adozione nuovo piano regolatore generale comunale così come emendato dall'aggiunta dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione è seguente presenti 34 votanti 34 maggioranza 18 favorevoli 23 contrari 9 astenuti 2 la deliberazione è stata approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione è seguente presenti 34 votanti 34 maggioranza 21 favorevoli 25 contrari 7 astenuti 2 la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile passiamo ora all'esame della deliberazione che avevamo il cui esame era stato sospeso all'inizio della seduta la deliberazione numero 26 approvazione convenzione per lo svolgimento delle funzioni di ente capofila stazione appaltante nella gara per la fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie comunali dei comuni di Pordenone Cordenone Sacile San Vito al tagliamento do la parola al segretario silenzio scusate silenzio il sindaco aveva sospeso il provvedimento in seguito a alcuni rilievi puntuali del consigliere Ribetti ovviamente io ho suggerito la sospensione per poter approfondire e vado a fornire le informazioni in maniera che poi i consiglieri possano valutare il perché ho dato diciamo l'assenso di legittimità al sindaco nel procedere allora bisogna avere presente innanzitutto l'articolo 41 del nostro regolamento che dice che le proposte di deliberazione sono fatte prevenire la presidenza del consiglio tenendo conto che di norma devono essere discusse in sede di commissione prima di essere trattato in consiglio quindi c'è intanto questo di norma che può prevedere delle eccezioni è ovvio che ogni eccezione non ha una valenza di legittimità ma ha una valenza di rilievo politico nel senso che è un vulnus che si crea fra esecutivo e consiglio se ci sono dei mancati passaggi in commissione in quel contesto è vero che mancava il consigliere Ribetti ma la commissione unanimamente su richiesta dell'assessore Mazzer che chiese la disponibilità a illustrare l'argomento al fine di evitare una convocazione di un'ulteriore commissione di cui c'erano i tempi tecnici per farlo e quindi a fronte di un senso unanime della commissione che risulta dalla registrazione si rinunciò a riconvocare la commissione ho anche potuto fare una ricerca sulla giurisprudenza sulla legittimazione dei consiglieri e eventuali ricorsi quindi in materia di procedimento e devo dire è stata non la facevo da un po' e ho scoperto con anche le recenti posizioni del Consiglio di Stato del 2014 quindi di luglio 2014 che sono andate al di là di quello che io finora avevo visto cioè addirittura a fissare alcuni principi che io trovo da garante del Consiglio comune addirittura eccessivi nel senso che addirittura è stato considerato che anche la ritardata consegna di documentazione viene vista come una lesione politica se non è sostanziale cioè il principio è che sostanzialmente cioè la violazione non risiede nella deviazione dell'atto impugnato rispetto allo schema normativo previsto quando da esso non derivi una compressione nella prerogativa inerente dell'ufficio occorrendo in ogni caso avere riguardo a questo fine la natura e il contenuto della delibera eventualmente impugnata e non già le norme interne relative al funzionamento dell'organo e altro principio che il deposito della documentazione relativa all'ordine del giorno non è sufficiente idonea garanzia alla possibilità dei singoli consiglieri di formarsi in modo libero e consapevole il proprio convincimento allora io cerco sempre di suggerire alle amministrazioni di rispettare le regole interne del consesso perché è un fatto di civiltà e di rispetto politico da un lato ma anche giuridico in alcuni casi come in questo caso dove è stata chiesta una cortesia c'è stato purtroppo il consigliere in effetti non era presente quindi ha avuto un piccolo vulnus ma secondo la giurisprudenza non così grave da essere recuperato nei cinque giorni di deposito degli atti per questo io mi sento di avallare il proseguio della discussione e l'esame dell'argomento grazie segretario vedo iscritto il consigliere del ben per quale motivo prego prendo atto che il segretario ha messo il vulnus nei confronti del consigliere ribetti e quindi questo secondo me è già un passo avanti rispetto all'inizio della discussione su questo argomento e l'argomento nello specifico è estremamente tecnico e semplice e penso che spetti solamente al consigliere ribetti stabilire se questo vulnus possa essere considerato sanato da queste affermazioni del segretario se così non fosse io continuo a sostenere la posizione che lui stesso ha assunto chiedendo che su questa deliberazione proprio per quel vulnus non possa lui aver esercitato il suo diritto di consigliere comunale di Pordenone prego 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 sì sì segretario io guardi non conosco la giurisprudenza che lei ha citato e se me ne dà copia me la guardo prima di fare l'intervento se è possibile però io a questo punto le chiedo una cosa se mi dà un'interpretazione che per quanto autentica possa essere innanzitutto del di norma perché questo di norma dico la verità inizia un po' a stufarmi perché io credo che l'italiano sia una lingua molto bella e spesso noi italiani la facciamo diventare brutta nel senso che la usiamo a piacimento perché a casa per quello che posso saperne io di norma significa secondo la norma nel rispetto della norma quindi che poi venga usato per di norma se può fare o non se può fare è un altro discorso quindi io credo prima se per favore mi dà un'interpretazione una volta per tutta che sia quella e dopo di che magari ne discutiamo in commissione regolamento e chiedo sindora sindora che venga pulito il nostro regolamento della parola di norma perché io credo che il di norma se deve generare dei problemi all'interpretazione delle norme che noi ci diamo per regolarci non è possibile non può essere il salvagente perpetuo agli errori che una volta viene interpretato in una maniera e una volta viene interpretato nell'altra perché se si vuole rispettare la volontà dei cittadini che giusto o sbagliato che ci hanno mandato qua a voi ad amministrare e a noi a fare un compito di minoranza che è un compito di controllo del rispetto delle regole allora dobbiamo essere messi tutti nella condizione di svolgere il nostro lavoro quindi se siete convinti di amministrare bene nel rispetto della norma e mi verrebbe dire di norma io vi chiedo non dovreste avere problema alcuno a emendare il nostro regolamento a tutti di norma perché vede il segretario io posso capire l'eccezione nel il richiamo che il nostro regolamento già prevede ai casi di urgenza quindi il di norma non può sostituirmi il caso di urgenza perché lo prevede già e quindi è già una scappatoia perché deve essere lasciato un di norma quindi io chiedo prima che mi interpreta questo e secondo chiedo quali sono allora i casi in cui una convocazione è non regolare perché vede io purtroppo per fortuna non lo so mi sono trovato a discutere con lei di questa questione anche in un altro caso che viva Dio ne ho parlato con migliaia di persone e non ce n'è uno che ha detto che avete fatto la cosa che è rispettosa della norma stiamo parlando della convocazione dell'otto che è arrivata a dicembre quando avete avuto avete avuto la faccia tosta e uso il termine faccia tosta no non sto offendendo nessuno faccia tosta non è faccia tosta il mio usare di norma di norma non è un'offesa consigliere non offenda sono opinioni sue faccia tosta non è un'offesa io ricordo che quando abbiamo messo mano al regolamento c'era io e c'era anche qualcun altro allora io so scusi non termina scusi stavo confinato volevo concludere mi è stato mi siete venuti a dire che c'era il caso di urgenza sulla cittadella della salute io lo dico al professionista che non è presente sa da quanto si parla dell'ospedale di Pordenone da otto anni e dopo otto anni a dicembre si accorgono che devono fare la variante e ci fanno una convocazione d'urgenza ed è passato anche quello allora vede compagno Bianchini e quindi presidente io credo e chiedo che mi venga dato una volta per tutte così evito io di perdere tempo a studiare perché io cerco di prepararmi ma se poi devo venire qua per farmi chiedo scusa mi dico contro me stesso essere preso anche per il naso a me non piace allora ditemi una volta per tutte il di norma va bene il di norma significa che potete fare quello che volete perché potete non rispettare rispettare in base a quello che vi va di te in giro allora lei mi dica lei mi dica per favore a verbale una volta per tutte quando una convocazione non è regolare così me lo spiegate e io mi adeguo la prossima volta grazie solo una cosa perché la cosa va ricondotta poi a quello che è il consiglio comunale perché mi sembra il consigliere Ribetti tratta questo consiglio come fosse il consiglio di un comune di 20 abitanti cioè il nostro regolamento dice che la risoluzione di questioni relative all'applicazione e all'interpretazione del regolamento sono domandate alla commissione consigliare cioè il segretario comunale può operare di supporto alla commissione e in corso d'aula le eventuali controverse sono decise dal presidente oppure se la decisione è contestata dal consiglio il mio intervento ovviamente deve starci sempre se in queste violazioni formali si arriva a un livello tale che può inficiare la legittimità dell'atto non la legittimità del procedimento dei rapporti interni all'organo allora è ovvio se lei mi dice è stata violata il rapporto politico interno all'organo sì cioè è una violazione che comporta un'illegittimità dell'atto no cioè questo è dal punto di vista tecnico cioè nel momento in cui arrivasse una convocazione sei ore prima della seduta io dirò che è illegittima non so se mi spiego cioè ma le lascio anche una recente sentenza che ha tutta una serie di rinvii a principi di sentenza precedenti che sono state devo dire sono rimasto stupito anch'io cioè di quanto il Consiglio di Stato dà poca importanza alle regole interne invece dice è un problema politico quindi che di rapporti fra esecutivo e consiglio fra maggioranza e opposizione io su questo nel mio ruolo cerco di far rispettare il più possibile le regole perché ritengo che sia un fatto che migliora l'amministrazione in tutti i casi e i rapporti dopodiché ci possono essere anche posizioni dove si ma la l'urgenza non la valuto io consigliere ribetti non la valuto io l'urgenza la valuta il Consiglio Comunale su proposta dell'esecutivo e del Presidente che convoca bene allora io posso posso intervistare allora allora consigliere ribetti le commissioni che sappia io però posso dire anche una cosa che non sta nel cielo intera sono consuntive per agevolare i lavori del Consiglio il dinorma che avevamo inserito quella volta vuol dire che non è obbligatorio che passino in commissione questo io posso dire che questa è una cosa assodata perciò il fatto che passino in commissione è una questione dei rapporti politici l'amministrazione fa passare in commissione per agevolare i lavori del Consiglio comunale questo è il motivo se una delibera non passa in commissione non inficia la legittimità della stessa ce l'ha appena detto il segretario adesso vediamo invece l'aspetto politico lei ha subito un pregiudizio il problema però è che il pregiudizio dobbiamo ricollocarlo nel suo ambito non è un pregiudizio per il quale non è stato allegato il documento in una convocazione di un Consiglio comunale per il quale lei si è trovato quel giorno qui a dover discutere di un documento che non conosceva che il Consiglio Stato dice che comunque sarebbe stato legittimo solamente una questione dei rapporti politici quel problema è che lei non ha partecipato a una commissione o quantomeno non è stata convocata la commissione con quell'ordine del giorno però poi in sede di commissione la totalità dei presenti ha ritenuto comunque valida quella convocazione non ha chiesto che il documento venisse pertanto lei adesso è stato pregiudicato perché non era presente in una sostanza in quella commissione se no se lei avesse sollevato sì no d'accordo d'accordo ma se lei fosse stato presente ha detto il segretario che comunque l'avrebbero rinviato all'argomento e avrebbero convocato una commissione regolarmente ritengo che il pregiudizio che lei ha subito è un pregiudizio che dobbiamo rimettere in un ambito diciamo abbastanza modesto dal punto di vista politico perché lei il documento lo conosce perfettamente bene detto questo noi prima di decidere abbiamo chiesto se il Consiglio era era favorevole alla discussione e tutto il Consiglio ha detto di sì salvo lei giustamente l'altro aspetto è che io devo io adesso faccio discorso politico non dovrei farlo io lo farà il Consiglio poi se io se lei bisogna anche diciamo contemporanei gli interessi qui c'è un interesse della collettività poter ottenere un determinato provamento nei tempi tecnici che sono quelli entro il mese di luglio dall'altra parte c'è il suo interesse il suo diritto a non vedersi pregiudicato però devo dire che se io devo fare una valutazione devo far pesare di più il primo interesse in questa ipotesi in questo caso prego dica pure allora Presidente io prendo atto di quanto lei ha detto e chiaramente lei non farebbe il ruolo di Presidente di Garante se di fronte a due interessi uno del singolo e l'altro della collettività lei non facesse quello che ritiene l'interesse maggiormente meritevole di tutela quindi quello della collettività ma è una decisione che prenderà lei che devolverà magari al Consiglio chi deciderà di assumersi responsabilità del proprio atto io francamente non riterrei di fare l'interesse di quelle due, tre, quattro persone magari che mi hanno votato perché se io sono convinto di una cosa e vado avanti per carità io sono convinto che quest'atto e non credo di essere l'unico con me io sono convinto ci siano tanti consiglieri di maggioranza che voteranno e si prendono la responsabilità col cuore non tanto leggero sai perché? perché a mio modo di vedere non c'è alcun tipo di ragione per votare questa cosa di fretta e furia senza rispetto delle regole no ma scusi io sono rimasto un calendario di lavori che non so se è stato variato non lo so però l'ultima volta ci siamo visti in commissione capigruppo anzi che abbiamo anche calendarizzato i lavori si parlava del 29 giugno eravamo ancora verso la fine di giugno del 29 giugno dove quest'atto poteva venire e non è stato inserito e c'era un consiglio comunale meno pesante di questo si parlava del consiglio comunale odierno dove è stato inserito chiedo scusa del 6 e del 7 dove è stato inserito si parlava di un consiglio comunale del 13 che poi non so tanto è vero che ho detto spero non si faccia perché il 13 è mio compleanno e non so ancora se quel consiglio del 13 luglio è confermato o meno questo non lo sto sapendo la convocazione non lo so io però ma io sarebbe già arrivata la convocazione diciamo che l'urgenza in questo consiglio comunale l'abbiamo utilizzata per cose molto minori quindi ci ho detto vado a spiegare io non ritengo di votare ma io non mi assumo la responsabilità io verbalizzo che per me questo è irregolare e dopodiché il consiglio è sovrano e ognuno si riprenderà con la propria coscienza e con quello che ritiene di fare le proprie responsabilità ma sa perché anche perché guardi caso l'argomento delle farmacie è un argomento particolare a mio modo di vedere a Pordenone perché l'abbiamo già affrontato io mi ricordo che la prima interrogazione che io feci nel 2000 sì questa storia perché qua signori c'è gente che forse può finire di dimenticarsi quello che è stato fatto sulle farmacie concorsi che sono stati fatti e sono stati dati posti assunzioni a figli di ex assessori che sedevano in consiglio comunale quando c'era ancora una graduatoria da riempire con gente che è andata a urlare questa cosa quindi signori sono noi approviamo noi approviamo voi 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 no come cosa c'è io ti dico l'argomento voi approverete voi approverete deciderete di portare al voto di approvare un documento che riguarda le farmacie noi non sappiamo ancora se ci sarà qualcuno che andrà a impugnare questa cosa andrà a come si dice a ritenere legittimo l'atto potrebbe esserci potrebbe esserci potrebbe esserci qualche portatore di interesse guardi posso dire una cosa è un caso lei sa che in giurisprudenza bianco e nero possono passare bravo lei sa che per carità però per adesso guardi lei forse per questioni personali personali inteso nel senso che c'è faccio solo un caso stiamo con no personali perché riguarda con suo fratello con suo fratello stiamo in un collegio dei revisori dove si parla di un caso dove un'intera amministrazione un'intera amministrazione è sotto procedimento della corte dei conti per le progressioni di carriera col parere favorevole del segretario generale ma io vi dico quello che quindi no questo è tornare al suo discorso c'è bianco e nero quindi ognuno farà quello che ritiene ho capito se comunque però io presidente non posso esprimere e parlare con lei e rispondere a 50 sotto io per me questo procedimento è regolare io non mi sento responsabile non mi sento responsabile sequestrato perché ho letto anche oggi le dichiarazioni di Bianchini ieri consigliere Bianchini i cittadini pordenonesi sapranno chi ringraziare se non risparmieranno no signori i cittadini pordenonesi sai cosa sapranno sapranno che c'è un'amministrazione con degli assessori pagati da noi per svolgere il loro ruolo il loro ruolo il loro ruolo in maniera puntuale e forse perché oberati di lavoro e nonostante abili gli uffici che li supportano si continua a dimenticare le varianti vedi cittadella la salute si continua a dimenticare di mettere in scadenza questo quindi se un costo e uno spreco c'è caro Bianchini non puoi attribuirlo a me che evidenzi qualcosa di irregolare ma non ti preoccupare guarda non ti preoccupare io ho la coscienza pulita perché il regolamento lo so leggere quindi per me non è risolto il problema comunque un'ultima apprezzazione del consiglio di rimetti noi dobbiamo ragionare il suo stato di fatto a voce ferme quello che è accaduto una settimana due settimane fa io non posso destraire noi ci troviamo in questa situazione e qui dobbiamo decidere allora allora io beh abbiamo calma adesso dobbiamo dunque dobbiamo iniziare la discussione della deliberazione dobbiamo fare no bene allora già illustrata non ricordo più l'avevamo illustrata bene allora dichiaro dichiaro aperta la discussione dichiaro chiuso il primo intervento secondo intervento prego adesso vado a ufficializzare vado a ufficializzare la posizione la posizione è chiara presidente voi state votando voi state votando avete portato e continuate a portare questa delibera in discussione non voglio non voglio portare via tanto tempo sono stati qua due giorni l'ho detto e ribadito quindi sarò estremamente sintetico richiamo questo ai fini della verbalizzazione quanto già detto a inizio del verbale della giornata di ieri su questi tutti gli articoli del regolamento e confermo che non è arrivata il sottoscritto la convocazione né in termini ordinari né in termini di urgenza quindi il sottoscritto ha preso conoscenza dell'inserimento di questo argomento all'ordine del giorno senza solamente momento in cui è arrivato l'ordine del giorno non è stato messo a conoscenza che la commissione consigliare avrebbe avrebbe affrontato questo tema quindi sono arrivato assolutamente impreparato perché non ero in commissione né potevo essere presente perché non sapevo c'era questo tema che mi interessa ritengo preso atto di quanto è stato detto che le commissioni consigliari non siano non siano necessarie perché è stato detto che non sono no è stato detto mi è stato detto c'era una gestione che le commissioni consigliari non sono necessarie allora io chiedo formalmente necessare sono necessarie ma c'è un primo intervento secondo intervento la gente può parlare ma non dico lei presidente io dico gli altri se parlate silenzio silenzio fatelo fatelo terminare per cortesia io non ho detto falsità è stato detto che sono fatte per comodità dei consiglieri ma non sarebbero necessarie ho capito male obbligatorie obbligatorie non sarebbero obbligatorie se non sono obbligatorie se non sono obbligatorie allora in ottica di risparmio visto che sta tanto a cuore risparmio chiedo che venga valutata al minimo l'utilizzo delle commissioni perché ne prendo atto che non sono obbligatorie io pensavo che noi fosse prima volta Bianchini che sia allora regolato al minimo ed eventualmente venga interessata la corte dei conti con la trasmissione agli atti e tutte le commissioni che vengono fatte perché no perché Presidente io mi sono stufato qua allora per favore io voglio parlare no 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 fatelo finire no 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 un attimo fate fate terminare il consigliere prego sì vabbè un altro argomento prego grazie Presidente recupererò questo tempo grazie che mi è stato sottrato io credo e ripeto perché qua mi sembra l'ho detto prima che si cerchi un po' di fare il gioco che comoda quando comoda una cosa si fa quando non comoda non si fa quando è giusto sbagliato no cerchiamo una linea comune ma serve per tutti noi per non perdere tempo voi per amministrare bene allora se le commissioni non sono obbligatorie che vengano cancellate perché se voi mi date dieci giorni per studiare un piano regolatore 5.000 pagine e ritenete di averlo esaurito in una commissione per me non è servito a niente allora io chiedo se non sono obbligatorie del regolamento la cancellazione di tutte le commissioni con conseguente risparmio per l'amministrazione e se così non fosse trasmissione degli atti alla corte dei conti per verifica perché qua non ci si può giocare non si gioca perché se voi delle volte avete portato degli schemi di convenzione con delle modifiche di una riga dove veniva cambiato da CDA ad amministratore unico e siete venuti a vendermela come l'obbligatorietà del passaggio in commissione allora o la commissione è necessaria e obbligatoria la facciamo e rispettiamo la norma e lo facciamo sempre rispettiamo la norma se non è obbligatoria se non è obbligatoria la norma non si rispetta ma è obbligatoria dal punto di vista della legittimità dell'atto non so se mi sono spiegato forse no ho capito dal punto di vista legittimità dell'atto ho capito ma questo dice il Consiglio di Stato non dico io faccia dire quelle commissioni le permanenti sono previste dallo statuto non è che possiamo diminarle e allora se sono previste dallo statuto mettete mettete i commissari nella condizione di parteciparvi conoscendo appieno quindi con la conoscenza dell'ordine del giorno ma siamo d'accordo su una cosa che c'è stato un disguido che non c'è stata la volontà non c'è stata la malaffedia il dolo l'intenzione non c'è stato il disguido ma io prendo atto di una cosa ma io prendo atto ma no ma non è che sembra perché si operi sempre così cercando quei sotterfugi ma però Presidente mi chiedo scusa chiedo scusa lei prima mi ha detto scordiamoci il passato non parliamo di dicembre dicembre c'era stato un errore urgenza otto anni che parliamo di variante della cittadina non c'è la variante ce lo dimentichiamo va bene va bene lo dimentichiamo mi veniamo incontro arriviamo adesso a giugno ci date dieci giorni per il piano regolatore mi trovo la discussione sul piano regolatore con dentro un altro argomento di cui non mi avete detto niente e dite va bene lascia stare che è a post così allora regolamento esiste o non esiste si rispetta o non si rispetta ditemelo voi per me non è rispettato per me è contrario voto contrario grazie bene grazie bene dichiaro chiuso l'intervento repliche dell'amministrazione no dichiarazioni di voto chiudo dichiarazioni di voto io voto contrario che non si può votare questa cosa io non partecipo intendo voto contrario che per me non si può votare se decidete se votare sta roba io non la voto non partecipo alla votazione perché secondo me è un argomento che non deve essere portato all'ordine del giorno volevo spiegare questo va bene va bene grazie bene allora pongo in votazione pongo in votazione la deliberazione avendo il seguente oggetto proposta numero 26 approvazione convenzione per lo svolgimento delle funzioni di ente capofila stazione appaltante nella gara per la fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie comunali dei comuni di Pordenone Cordenon Sacile e San Vito al Tagliamento dichiaro aperte le operazioni di voto adottiamo contro dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito della votazione è il seguente presenti 26 votanti 26 maggioranza 14 favorevole 24 contrari a nessuno astenuti 2 la deliberazione la deliberazione è stata di voto e la deliberazione è stata approvata dichiarata immediatamente eseguibile bene signori vi ringrazio per i lavori che si sono svolti molto bene per la pazienza il consiglio verrà riconvocato a domicilio non garantisco che non sia anche nel mese di luglio non lo so dipende dall'amministrazione perciò non posso dire nulla non ho previsione buonanotte grazie